Abbiamo rispettato abbastanza i tempi, c'è stata anche una discussione già molto vivace e ricca. Spero che si possa anche oggi fare una discussione reale nel merito e non fuggire tutti dai tempi di Ranni Moretti. Il dibattito è di solito occasione di fuga immediata, invece spero che si possa discutere ampiamente. Avevo anche varie suggestioni sentendo e ascoltando le relazioni di stamani, ma porterebbero via troppo tempo. Permettetemi solo due parole di commento che non ho fatto nella discussione e di auspicio che questa discussione continui oggi nella giornata di domani. Il titolo del nostro convegno è sicuramente molto efficace, lo condivido e lo sottoscriverei, ma credo vada letto assolutamente in contemporanea con la lettura di quello che è il convegno, delle relazioni del convegno, e andrà letto titolo e sommario anche quando e se ci saranno gli atti del convegno. Perché la mia impressione è che, ripeto, lo sottoscriverei, ma che potrebbe dar adito anche a qualche piccolo fraintendimento. Nel senso che tutti e due i termini hanno bisogno di una specificazione con le relazioni, con i contenuti delle relazioni, con le loro metodologie, con il loro taglio. Di per sé storia significa tante cose, ma può non necessariamente significare il rapporto che il fascismo ebbe con la storia e il fascismo anche può non significare molto se non pensiamo al regime fascista e a tutto il suo apparato di costruzione, di mitografie o di miti o di slogan. Storia. Storia come sequenza che abbia comunque un certo ordine di rest geste non è tanto quello che interessa al regime fascista. Non interessa al regime fascista la diacronia storica. Non interessa al regime fascista la sequenza fra la Romanità della Repubblica e dell'Impero. Non è quello il focus del suo interesse in quanto regime, in quanto dittatura di massa e anche in quanto dittatura che organizza il consenso fra gli intellettuali. Quindi direi che in questa operazione la storia come tale, come la intendiamo noi come professionisti o studiosi di storia, non è il focus principale. Il fascismo è un regime veloce, riprendo le suggestioni e le osservazioni di Andrea Giardina, molto più proiettato se vogliamo sul presente e sul futuro che non sul passato. Ha un atteggiamento nei confronti del passato di fare un po' una caricatura del passato storico, come se si aprisse davanti al regime fascista un enorme giacimento a cielo aperto dove può pescare ogni volta quello che gli interessa in maniera contingente, certo all'interno di una finalità. La finalità è quella di un movimento che vuole essere nuovo, è il vero primo embrione, o più che embrione, realizzazione di un movimento politico che vuole essere integralmente, totalmente nuovista. Vuole spezzare ogni radice con la vecchia italietta liberale e proiettarsi in modo, se vogliamo anche rivoluzionario, in modo radicalmente nuovista nel nuovo secolo che Mussolini definirà nel 32 il secolo del fascismo. è il ventesimo secolo che al fascismo interessa ghermire, afferrare, dunque inventa tradizioni, riesuma dei pezzetti, li contorce, li distorce, è più un regime che si accontenta anche se va bene, se funzionasse, di una caricatura della storia o del passato. capta quello che gli serve e al tempo stesso è un regime, è una dittatura, ha le tendenze totalitarie che sono state messe in luce dalla storiografia, non è il regime così bonario che a sua volta è stato un po' edulcorato dalla politica anche del post fascismo o dalla politica degli ultimi 20-25 anni. è un regime con tendenze totalitarie, è un regime sicuramente una dittatura, è una dittatura che ha anche un apparato di massa e in quanto tale dobbiamo studiare questo sforzo che il fascismo fa, questo impegno ventennale di costruire anche certamente un consenso fra gli intellettuali, un consenso fra quella piccola minoranza di italiani e italiane che leggono, che leggono i giornali, che leggono i libri, eccetera, e possibilmente di influenzare le grandi masse che invece non leggono, ma per cui c'è la radio, c'è il cinema, c'è tutta una strumentazione di monumenti e di immaginario che fra l'altro per le grandi masse che non leggono nel loro rapporto con la storia è legato solo alla frequentazione di una, due, tre classi delle classi della scuola primaria. L'unico incontro che hanno milioni di italiani con la storia è la storia raccontata dai sussidiari, anche questo è un elemento interessante, non dico cose nuove, me ne scuso con voi, ma insomma fascismo e storia vanno un po' declinati e compresi per quello che è l'obiettivo del nostro convegno. Non c'è mai stato prima del fascismo un vero e proprio Ministero della Cultura, ci sarà il Ministero della Stampa e della Propaganda nel 1935, prima sottosegretariato nel 1934, poi il Ministero affidato a Galeazzo Ciano che naturalmente è già il genero dei Mussolini e questo Ministero cambierà denominazione nel 1937, un Ministero della Cultura Popolare, non c'è mai stato un di Castero che si occupi di questo, stampa, propaganda e poi cultura popolare indipendentemente da quello che intendevano i fascisti, dotato di un budget impressionante come mezzi finanziari che fa impallidire qualsiasi politica culturale fatta dai governi dell'Italia Repubblicana e anche da quelli dell'Italia prefascista liberale. Quindi è uno sforzo di grande impegno che il fascismo attua in quella continua reinvenzione del passato storico, remotissimo, un po' più vicino, non importa stabilire delle diacronie scientifiche fra la Romanità o il periodo rivoluzionario Giacobino e Napoleonico in Italia, ogni volta che serve, ogni volta che c'è un'occasione, una mostra, una celebrazione, si dà adito a tutti gli strumenti di propaganda, di appropriazione, di che cosa? Di una sequenza pressoché ininterrotta di eroi, di santi, di navigatori, di condottieri eccetera eccetera. Ora queste pochissime parole, mi scuserete, hanno preso già anche troppo tempo, credo sia necessario cominciare i nostri lavori, io mi scuso anche per incompetenza, non riesco per mancanza di mia cultura specifica a presentare analiticamente i colleghi e i relatori di oggi, comincerà a parlare Riccardo Rao che ha fatto studi importanti, io mi scuso con lui, ma tanti studi analitici su comuni, signorie eccetera, per cui è un relatore che parla con competenza e ha ragion veduta di questo tema e ha scritto, lo segnalo, un bel volume di sintesi, diciamo pure di divulgazione storica in senso buono, sui paesaggi dell'Italia medievale. Quindi mai come una competenza di uno studioso che dal punto di vista generazionale posso definire giovane, insegna all'Università degli Studi di Bergamo, sarà assolutamente interessante sentire la sua relazione su comune e signoria nell'Italia fascista. Prego. Grazie. Allora io quello che cercherò di fare è proporre una sintesi della visione storiografica del comune e della signoria durante il ventennio, quindi agirò soprattutto sul piano storiografico e tutto sommato non è semplice provare a ricostruire un percorso unitario, anche perché la medievistica tende complessivamente a disinteressarsi di questo periodo, cioè soprattutto per gli studi storiografici sul comune, che sono quasi, come dire, un genere storiografico, c'è la tendenza ad arrestarsi prima del fascismo e poi a proseguire subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E la difficoltà poi è anche complicata dal fatto che in realtà è un dibattito molto articolato, potremmo dire, per nulla monolitico, dove cercheremo di ricostruire anche degli aspetti di ideologia, ma questi devono essere temperati in un quadro storiografico che deve affrontare, e questo è uno dei problemi centrali su cui tornerò diverse volte, deve affrontare un cambio di paradigma storiografico che consiste in primo luogo nella crisi dell'impostazione della scuola economico-giuridica e quindi di un determinato modo di leggere il comune che dava centralità all'esperienza comunale duecentesca e la interpretava di fatto come conflitto di classe. Quindi, diciamo, un dibattito che è articolato, composito, in cui però ci sono chiaramente anche, si può ricostruire un filo rosso portato avanti soprattutto dalle personalità scientifiche fasciste, ne parleremo tra poco, sono personalità di primo piano, e il problema, lo snodo, è naturalmente costituito da un'interpretazione attualizzante della signoria come svolta autoritaria, capace in qualche modo di preconizzare l'ascesa di Mussolini e soprattutto nella sua valutazione in comparazione con l'esperienza comunale che viene invece sminuita, potremmo dire, come momento di democrazia irrisolta. Allora, prima di entrare nel vivo del dibattito, vorrei solo velocemente fare una carrellata su quelli che sono i protagonisti di questo dibattito, provando a ripartirli da un punto di vista generazionale. Cioè, abbiamo da un lato una serie di intellettuali che sono nati negli anni 70 e 80 dell'Ottocento che alimentano questo dibattito, che sono Gioacchino Volpe, tutti i nomi, io credo, molto noti, Gioacchino Volpe, Gaetano Salvemini, Niccolò Rodolico, Luigi Simeoni, Giovanni Battista Picotti, Francesco Cognasso, Giorgio Falco, fra gli storici Tucura, e Arrigo Solmi, Pier Silverio Leicht, Pietro Vaccari e Francesco Ercole, fra gli storici del diritto. E poi abbiamo una seconda generazione, che è quella invece degli anni 90 dell'Ottocento e primo decennio del Novecento, in cui possiamo contare Piero Pieri, Federico Chabot, Giovanni De Vergottini, Edoardo Ruffini, Gian Piero Bonetti. Allora, la seconda generazione che ho elencato è meno interessata ai temi della scuola economico-giuridica, e quindi alla lettura, se vogliamo, in chiave di conflitto di classe della storia comunale, che invece aveva formato, accomunato, gli studiosi della prima generazione. Appunto, ci sono tanti nomi di primo piano. Abbiamo tre ministri, che sono Volpe, Ercole e Solmi, e poi abbiamo tanti autori di manuali, quindi Rodolico, Cognasso, Solmi e Simeoni, e di questo chiaramente non parlo perché poi c'è una relazione apposita. Dicevo, all'interno di un dibattito che comunque è complessivamente aperto, gli intellettuali vicini al fascismo riescono a produrre una visione relativamente coerente, e la cui caratteristica innanzitutto è l'attualizzazione della vicenda del Comune e della Signoria, e diciamo che questa visione si costruisce sull'asse di una storia dello Stato, cioè la Signoria viene vista come momento principale di costruzione dello Stato che arriva in qualche modo fino al presente e che costruisce la storia d'Italia. Allora, attorno a quest'asse portante, si innestano poi una serie di temi che in realtà non sono dei temi originali, ma sono dei temi storiografici che facevano già parte della storiografia tardo-ottocentesca e novecentesca. E quindi abbiamo appunto la tesi di una delega popolare alla base della nascita della Signoria, quindi la Signoria che nasce su delega e legittimazione da parte del popolo, la questione del Comune come principio ispiratore della nazione italiana, la sottolineatura della continuità della vita urbana e dell'eredità di Roma durante tutto il Medioevo, la contrapposizione tra questa forte eredità romana e quella germanica e all'octona, avrebbero detto gli studi dell'epoca, e poi la riflessione, che è un altro aspetto estremamente importante, la riflessione su Dante e Machiavelli come campioni rinascimentali, anche questo è un termine che avremmo trovato negli studi dell'epoca, dell'italianità e ancora il ruolo delle corporazioni e l'originalità degli assetti militari italiani. Dunque, in realtà, dei temi che non sono inventati durante il fascismo, ma che sono ripresi, potremmo dire, compattati attorno a un'asse di costruzione dello Stato che avviene a partire dall'esperienza signorile, dalla nascita della signoria. In questo senso direi che più che comune e signoria, io dovrei parlare del, dovrei intitolare il mio intervento dal comune alla signoria, perché è proprio un cambio di interessi anche storiografici che tende a mettere in secondo piano il comune e a mettere in primo piano invece la signoria. E ancora, prima di entrare nel vivo delle differenti posizioni storiografiche, sul piano metodologico vorrei anche mettere in risalto una deformazione prospettica che tutto sommato ha caratterizzato gli studi fatti dai medievisti, che hanno utilizzato due fondamentali e importantissime raccolte di saggi comparse durante l'epoca fascista, quindi Medioevo Italiano di Gioacchino Volpe, che esce nel 1923, e dal Comune al Principato di Francesco Ercole, che esce nel 1929, hanno utilizzato queste raccolte di saggi che erano alimentate soprattutto da saggi scritti nei primi venti anni del Novecento, come dire, appunto, per andare a ricostruire il pensiero di questi autori nei primi vent'anni del Novecento. Invece dobbiamo riflettere sul perché sono stati, ad un certo punto, raccolti e ricomposti in un preciso momento storico. Da questo punto di vista, poche parole su Medioevo Italiano, dove è chiaro che in questo modo Gioacchino Volpe, che da lì in poi praticamente non si occuperà più dei temi comunali che avevano caratterizzato la sua prima produzione, vuole in qualche modo chiudere una stagione di studi passata, ma nello stesso tempo intende anche contestualizzare il comune all'interno di una visione nuova della storia nazionale, che si presenta come molto differente rispetto alle intenzioni iniziali con cui aveva scritto quest'aggi. E questo Gioacchino Volpe lo dice in maniera molto esplicita. Appunto, Medioevo Italiano, che è un titolo già molto evocativo, che declina in termini nazionali la sua visione di Medioevo e riconosce, nella prefazione che è scritta nel XXIII, che agli inizi del presente secolo la vita italiana offriva a noi giovani manifestazioni di molto interesse e ci attirava nella sua orbita ideale. Si guardava alle vicende sociali e dai movimenti delle classi, inizio, come pareva allora, di una nuova società, di un nuovo Stato, di una nuova morale, ma soprattutto, dice Volpe, di queste vicende noi non avvertivamo tanto il contenuto valore nazionale. Solo più tardi si sarebbe riconosciuto in essi il punto di partenza, anche di una nuova fase, della nazione italiana come tale. Ne avvertivamo soltanto il contenuto sociale. E qual è lo spartiacque? Il momento in cui si inizia ad avvertire questo valore nazionale? Volpe, lo dice abbastanza chiaramente, è la Prima Guerra Mondiale. Da lì cambia il modo di affrontare questi temi. Dicevamo, l'originalità del ventennio risiede più che nel pensiero sul comune, potremmo dire nel pensiero sulla signoria, cioè questo, quello che le personalità scientifiche fasciste tendono ad esaltare. E però anche questo tema, tutto sommato, era già presente in storiografia, almeno dalla fine dell'Ottocento. Se ne era occupata la scuola economico-giuridica, proprio con Rodolico e Volpe, che avevano inteso, avevano per primi parlato di una signoria che nasce come delega dal popolo, però proprio Francesco Ercole aveva dato sistematicità a quest'idea, attraverso una serie di saggi, due saggi in realtà, comparsi nel 1910 e nel 1911, che poi avranno una larghissima fortuna in epoca fascista. L'idea di Ercole era che esiste una diarchia nella signoria. Da un lato il popolo, dal lato, dall'altro il signore. Il popolo delega la sua sovranità, delega la sovranità popolare al signore, da quel momento il signore agisce con un potere di tipo assoluto, questo Ercole lo dice molto chiaramente, e quindi in quel momento con la signoria si inizia a costruire un tipo di Stato inteso in senso moderno. Quindi per la prima volta con la signoria nasce lo Stato, potremmo dire, moderno e questo vuol dire chiaramente ridimensionare l'esperienza comunale. Ma l'aspetto interessante dei saggi del 10 e dell'11 dell'Ercole è che non c'è nessun accenno al contatto con la scuola economico-giuridica. Basta guardare le note e ce ne accorgiamo molto facilmente, è una tesi costruita di tipo formalistico, potremmo dire, una tesi giuridica. Nel 21 Ercole torna sull'argomento, lo fa con un articolo comparso sulla rivista Politica e un articolo dal titolo La lotta delle classi alla fine del Medioevo. Ecco, qui effettivamente la lettura di tipo marxista inizia ad entrare nella lettura della signoria di Ercole ed effettivamente qui le note si arricchiscono di citazioni di Rodolico, Caggesa, Anzilotti, Salvemini e Volpe stesso. E l'idea di fondo, qui Ercole proprio parla di capitalismo moderno riferito alla democrazia, quindi veramente con un linguaggio diciamo carico di marxismo, ma l'idea di fondo è che il comune di popolo, quando si forma il comune di popolo nella seconda metà del 200, c'è una forte pressione all'allargamento democratico da parte del popolo, il comune in realtà che è un'istituzione democratica non riesce a gestire questa democrazia. E allora ha bisogno, ci dice l'Ercole, della delegazione, della tutela dei propri interessi di maggioranza ad un'autorità unica dittatoriale che abbia il modo e la forza di imporsi a qualsiasi minoranza sopraffattrice riottosa. Quindi il signore che agisce come tutela del popolo e lo protegge dalle sopraffazioni dei magnati. Poi il discorso va avanti ed Ercole inizia ad occuparsi dei moti popolari della Firenze del 300, quindi i cionpi tra i più famosi. E lo fa ancora una volta con una lettura decisamente marxista, parla di classe operaia, di dittatura proletaria all'interno del comune. Però altrettanto interessante, forse anzi ancora più interessante, perché qui finalmente si apre una finestra sul presente, il fatto che Ercole, pur guardando con simpatia questi movimenti popolari, è ben contento del loro fallimento. Certo, è nella sua ultima fase un tentativo di dittatura proletaria nel comune, tentativo la cui disfatta è fatalmente segnata nell'impreparazione della massa operaia ad assumere il governo. E guai del resto per la storia futura della civiltà umana e per lo stesso benessere economico e morale delle classi lavoratrici se lo avessero subito. Cioè, guai se avessero avuto successo per due ragioni. La prima ragione è che la borghesia italiana, che in questo modo non viene scalzata dal suo movimento, aveva un ruolo storico, che era quello di costruire il rinascimento con il suo valore culturale, lo vedremo, di costruzione dell'italianità. E poi perché le masse popolari erano impreparate. E quindi, poi citando una cronaca dell'epoca, l'Ercole dice i cionpi furono traditi da loro medesimi, parole che non si leggono senza commozione e da cui sembra emanare un monito profondo e solenne a quanti sono, anche oggi, a spese degli umili, iniziatori e sobbillatori responsabili di moti rivoluzionari immaturi. E quindi, qui il dibattito inizia a spostarsi sul presente. Torneremo sull'Ercole. Ma, questo per dire che all'inizio degli anni venti, questa mi sembra forse una delle primissime volte in cui il dibattito sulla signoria entra così in contatto con la dimensione politica presente, all'inizio degli anni venti si inizia a discutere di questo tema in una dimensione estremamente attualizzante, ancora prima, come dire, della nota polemica su Machiavelli del ventiquattro che vede coinvolti Mussolini stesso, Gobetti e Matteotti, e poi degli articoli, anche questi, abbastanza famosi studiati, quindi non mi soffermerò, di Chabot e Picotti che criticano proprio l'impostazione di Ercole sulla signoria come delega popolare e che sono stati visti, forse anche alle volte, forzando eccessivamente come una reazione antifascista, diciamo. Ancora nel 23, Francesco Cognasso, quindi un altro intellettuale interessante perché è autore di manuali, interviene sull'argomento, Cognasso, come dire, non ha niente a che vedere con la scuola economica o giuridica, non ha niente a che vedere con questi percorsi di formazione, Enrico Artifoni direbbe che è uno storico impregnato di scienza del sabaudismo, cioè di fatto uno storico che si inserisce in una corrente che era stata di Ferdinando Gabotto, attenta soprattutto al ruolo delle aristocrazie, della monarchia, nella costruzione dello Stato. Poi la produzione di Cognasso, soprattutto negli anni 40, dove presenta davvero una forte adesione al fascismo, ma si realizza soprattutto nel rapporto con la monarchia, con il Savoia e con il popolo che sostiene il Savoia. Però nel 23 pubblica un articolo sulle formazioni dello Stato visconteo, per certi versi ancora oggi fondamentale, di cui sottolineo soltanto la chiusa finale perché sembra veramente entrare in sintonia con quanto dice l'Ercole, cioè ci dice chi scriverà ora la storia dei Visconti dovrà riconoscere quanta parte della storia d'Italia sia piena dell'opera dei discendenti di Matteo Visconti. Fu gettato nel secolo XIV un seme meraviglioso, poiché quelli erano italiani della buona razza, amanti del lavoro sobrio e severo, alieni delle fantasticherie decola da Rienzo del loro tempo e di quelli quanto numerosi del tempo di poi. Quindi ancora una volta ci muoviamo su signoria come momento di costruzione dello Stato, momento di costruzione dello Stato inteso nella dimensione nazionale, diciamo, di storia nazionale e poi per altro verso critica dei movimenti diciamo proletari trecenteschi con ancora una volta un ponte con il presente del Novecento. Torniamo però ancora a Ercole perché Ercole forse è davvero uno dei personaggi che assieme soprattutto direi a Solmi più riesce a costruire una mitografia fascista di comune e signoria. Come accennavo nel 29 Ercole ripubblica e i suoi saggi. Ripeto, sono saggi per lo più comparsi nel 1910, nel 1911, insomma, prima della Prima Guerra Mondiale che sono però aperti proprio da quel saggio del 1921 che dà una lettura marxista alla vicenda di cui vi raccontavo prima. Nella prefazione della raccolta di questo volume che si chiama Dal Comune al Principato in realtà Ercole non rimane su un piano scientifico non fa nessuna allusione specifica al presente però dice che se c'è una novità nel presentare questi saggi è quella che ha integrato i suoi lavori con le riflessioni che stava facendo nel frattempo su Dante e su Machiavelli. Allora, quindi questi sono argomenti ampiamente studiati il successo di Dante da un lato in età fascista che si giova tra l'altro dei festeggiamenti del secentenario del 21-22 che portano veramente a un'esplosione del tema così come la polemica su Machiavelli di cui abbiamo già detto ma quello che mi interessa qui in qualche modo sottolineare è come questa allusione questo recupero questa esaltazione di Dante e Machiavelli come potremmo dire alfieri dell'italianità è funzionale a un nuovo modo di periodizzare potremmo anche dire il periodo dal comune alla signoria dove tra l'altro il comune viene incluso per una prospettiva che per noi adesso sarebbe suonerebbe strana all'interno del rinascimento cioè il comune fa parte del rinascimento per Ercole e anche in realtà per alcuni autori dell'epoca come Rodolico perché è funzionale per una nuova periodizzazione perché nel momento in cui rispetto alla scuola economico-giuridica che invece era partita da una forte esaltazione del momento comunale come fase di costruzione dello Stato si svilisce questo momento a favore della signoria quello che si recupera signoria che poi a sua volta sì è un momento importante di costruzione dello Stato ma comunque risolto dal punto di vista nazionale perché produce una frammentazione di Stati allora nel momento in cui la prospettiva statuale fallisce quello che si recupera è l'eredità fondamentale sul piano culturale per la formazione dell'italianità di quest'epoca quindi allora un rinascimento che ha fallito sul piano istituzionale della costruzione della Stato soprattutto il Comune ma un rinascimento che ha prodotto l'italianità attraverso soprattutto i campioni dell'italianità quindi Dante Machiavelli aggiungiamoci pure Giotto di cui è stata ben studiata l'esposizione fiorentina del 1937 quindi come dire l'Italia negli anni 20 del Novecento nasce ancora esattamente come nel risorgimento con il Comune ma soltanto sul piano culturale e non più su quello istituzionale dello sviluppo statuale come invece aveva voluto anche una tradizione diciamo tardo-ottocentesca ecco l'italianità in particolare la sua derivazione diretta dalla romanità riecheggiano nello stesso periodo in diversi lavori sulla formazione del Comune che sono per lo più opera di storici del diritto e ancora una volta bisogna sottolineare che il tema non è nuovo cioè un tema classico direi degli storici del diritto di inizio Novecento Leicht Stesso Solmi Schufer Salvioli Mengozzi solo per fare alcuni nomi di storici del diritto che si occupano della natura romana dell'erettità romana sul Comune e anche sui beni comuni potremmo dire quindi un tema della storiografia di inizio Novecento che viene ravvivato nel 1924 dalla comparsa di un saggio di Schneider che invece insiste sulla germanicità sull'origine germanica del Comune e a cui risponde Giampiero Bonietti nel 1927 con un lavoro sulla nascita del Comune Rurale Giampiero Bonietti quindi un intellettuale che aderisce al fascismo anche se poi il suo lascito storiografico non ha grandi slanci ideologici anche se è forse già fin d'ora utile sottolineare la provenienza accademica di Bonietti Bonietti allievo del Solmi e questo come dire ci dà un quadro di insieme e ci dà anche qualche spunto interessante il modo in cui Bonietti conclude il suo lavoro in cui ricostruisce la genesi come dire la derivazione romana del Comune Rurale cioè il Comune Rurale nascerebbe da forme di organizzazione tipiche dell'antichità allora il Comune Rustico ci dice Bonietti qual giunse pur attraverso evoluzioni e costruzioni fino al termine del Medioevo rappresenta l'avanzo storico del primo rudimento di vita associata in distretto territoriale che in quell'assemblea di Patres di Re dei Focolai che si adunavano allo squillo del corno della tabula o della campana in quel consorzio che ripeteva da leggendari antenati il possesso del pascolo della selva era la più antica e pura espressione della patria quindi allora il forte legame tra derivazione dalla romanità da un lato e dall'altro costruzione di un elemento originale di italianità che ha un senso nella in una dimensione davvero patriottica dicevo appunto Bonetti è allievo di Solmi ed è veramente a Solmi che dobbiamo guardare per la mitografia come come l'Ercole Solmi passa dal confronto con Dante soprattutto durante le celebrazioni del del centenario e Solmi è uno studioso di primo piano uno studioso originale che si era occupato soprattutto nei primi vent'anni del novecento di corporazioni viste già all'epoca come istituzioni derivate da di fatto in linea di continuità diretta da Roma e Solmi a partire dagli anni 20-30 riprende l'esaltazione della romanità appunto all'interno di un percorso coerente di sviluppo dell'italianità che giunge attraverso la cultura del rinascimento e primi passi delle istituzioni statuali con la signoria fino al presente di Mussolini in una linea di continuità che è proprio esplicitata da questo punto di vista i discorsi sulla storia d'Italia che compaiono nel 1933 esprimono bene questa questa idea in cui lui intende mettere in luce il valore del contributo italiano all'opera di difesa e di ricostruzione della civiltà che risalta ci dice Solmi proprio con la prima guerra mondiale e il fascismo e il germe della romanità non si sarebbe mai perso nel medioevo sarebbe arrivato fino all'età comunale di cui dà un giudizio pessimo dal punto di vista politico perché ci dice Solmi è il massimo della frammentazione dal punto di vista della storia nazionale ma molto importante dal punto di vista culturale e poi si arriva alla signoria e qui si vede benissimo che Solmi legge Ercole in cui Solmi ci dice la civiltà italiana raggiunge il suo apogeo dove appunto però l'apogeo ancora più che le istituzioni lo dà la cultura la cultura rinascimentale di Dante poeta immortale della patria e di Macchiavelli per arrivare infine e qui cito in questa ora così radiosa per l'Italia nostra che vede integrata la sua unità raggiunti i suoi confini naturali e storici perfezionati i suoi ordinamenti interni raccolte tutte le sue energie sotto la guida di un duce ardito e saggio magari su un piano meno ideologico ma la stessa impostazione quindi un'attenzione del comune che non è più centrata sulle istituzioni del comune duecentesco come momento di costruzione dello Stato come aveva fatto la scuola economico-giuridica ma come ricerca di un'eredità di italianità attraverso il contatto con Roma ecco questa stessa attenzione la si trova in altri storici del diritto a partire dal Chiappelli un altro intellettuale pistoiese che pubblica in quattro saggi un corpo in quattro puntate diciamo di comparse sull'archivio storico italiano un saggio sulle origini del comune cittadino in Italia e anche qui alla fine la conclusione nelle ultime pagine che attraverso il comune italiano ci si è potuti liberare dalla dominazione straniera e si è costruita una civiltà originale che rappresenta ci dice Chiappelli la varietà ricchezza di caratteri dell'unità della grande storia d'Italia quindi le istituzioni comunali duecentesche hanno in questo dibattito poco spazio il corporativismo che poteva essere uno spunto per recuperarne l'interesse in realtà non funziona perché Ercole e Solmi si scontrano fortemente con Panunzio che invece aveva visto una derivazione delle corporazioni fasciste da quelle medievali perché in quella che ormai è la loro visione del comune le corporazioni rappresentano tendevano al separatismo e al privilegio ci dice Ercole nel 1928 cioè sono frutto di un comune che è un comune oligarchico e irrisolto nel suo tentativo di creare una democrazia gli unici spazi all'interno di questo dibattito in cui si continua a parlare di istituzioni comunali in un'accezione positiva potremmo dire che sono due il primo riguarda diciamo le terre attraversate dall'iredentismo cioè il Trentino il Friuli dove determinare l'esistenza delle istituzioni comunali vuol dire tracciare confini dell'italianità in un certo senso non a caso anche proprio le operazioni di ricostruzione dei palazzi comunali in quest'epoca in quest'area per dimostrare l'appartenenza ai confini ai confini dell'Italia il secondo ambito che serve invece da esplorare con maggiore dovizia è quello della storia locale potremmo dire allora io qui faccio solo per brevicenni l'esempio di Pavia perché è la realtà che conosco meglio che vede due podestà che sono Renato Soriga e Pietro Vaccari che sono anche presidenti della società pavese di storia patria che fanno anche studi sui podestà medievali in questo caso pubblicati sul bollettino della società pavese di storia patria ne ricostruiscono le liste e fanno scolpire in questo caso Soriga le liste sul palazzo comunale novecentesco sta quasi finendo il mio tempo quindi in realtà taglio molto velocemente su quello che è uno snodo fondamentale cioè quella che è una serie di studi che parte dal venticinque e che nel giro di cinque anni cambia il paradigma storiografico quindi una serie di studi a partire dagli studi di Chabot sulla signoria comparsi sulla rivista storica italiana che attaccano la teoria dell'Ercole di una signoria popolare e mostrano invece la signoria come una signoria violenta ottenuta con la forza e poi naturalmente Ottokar Nicola Ottokar quindi un esole russo fortemente antimarxista che pubblica un saggio sul comune di Firenze in cui viene messa in crisi la visione appunto della lotta tra magnati e popolani come conflitto di classi che aveva costruito Salvemini e poi naturalmente Benedetto Croce che interviene direttamente attaccando attaccando la scuola economico giuridica allora che cosa esce fuori da questi cinque anni noi potremmo aspettarci in qualche modo il declino dell'idea di signoria di Ercole invece viene fuori il declino e l'eclissi definitiva del comune interpretato come conflitto di classe e da quel momento in poi c'è da questo punto di vista una convergenza completa tra intellettuali fascisti e intellettuali più o meno discosti dal fascismo nel ridimensionare l'esperienza comunale e nel centrare di fatto l'attenzione sull'epoca successiva la tesi dell'Ercole tutto sommato sopravvive e sopravvive soprattutto soprattutto mi viene da dire non tra gli storici che pure la riprendo in una maniera molto rispettosa ma anche in una maniera molto articolata nell'articolazione di pensiero pensiamo adesso non abbiamo tempo di soffermarci a figure come Giorgio Falco in primis ma anche Masi anche lo stesso Chabot Cantimori ma sopravvive soprattutto negli studi di scienza politica ecco per esempio se vediamo le voci democrazia comparse sull'enciclopedia italiana sul dizionario di politica del partito nazionale fascista opera rispettivamente di Felice Battaglia e di Curcio ecco viene ripresa testualmente l'idea della signoria popolare dell'Ercole depurata soltanto della chiave di lettura marxista che del resto abbiamo visto Ercole aveva recuperato soltanto in un secondo momento negli anni negli anni venti ho proprio veramente finito ecco quindi da questo punto di vista negli studi di scienza politica è più evidente se vogliamo l'ideologizzazione del dibattito in quelli storici il dibattito rimane un po' più complesso e è fortemente interessato come dire coinvolto più quasi che dall'ideologia dal problema dell'aggiornamento storiografico e dell'internazionalizzazione anche con il cambio di passo determinato da queste letture che mettono in crisi l'impostazione della scuola economico-giuridica e per dare una prospettiva ulteriore verso il come dire il futuro il post fascismo questo tipo di impostazione ha un'ulteriore svolta a partire dal 46 dove c'è innanzitutto un problema che qui posso solo enunciare e che riguarda il fatto che nel primo articolo della nostra costituzione la sovranità appartiene al popolo e Ercole così come presentava la sua teoria sulla signoria mostrava che invece la signoria emana dal popolo che cosa ben diversa di fatto a partire dal 46 la tesi di Ercole viene completamente rimossa pure anche nei suoi aspetti come dire di maggiore articolazione e c'è un articolo che compare nel 50 di Chabot ancora una volta in una sede significativa cioè gli studi in onore di Benedetto Croce dove in qualche modo Ercole viene subisce la damnazio memoria una damnazio memoria davvero perché poi di fatto questo tema scompare dall'agenda della medievistica fino fino al 2000 grosso modo insomma allora quindi proprio per per concludere velocemente possiamo dire che almeno dall'inizio degli anni 20 e del 900 con i contributi di Ercole Solmi e Cognasso su tutti si sviluppa una visione relativamente coerente del comune della signoria dove mentre il primo viene ridimensionato all'interno di un'eredità prevalentemente culturale quale momento comunque fondativo della nazione italiana la seconda riceve una valutazione fortemente positiva per il conferimento di poteri da parte del popolo e la capacità di costruire uno stato inteso in senso moderno quindi una signoria democratica esattamente come Ercole faceva negli stessi anni sostenendo la dittatura di Mussolini alla coloritura nazionale del medioevo italiano si associa la perdita di interesse per le istituzioni duecentesche del comune e questa prospettiva di fatto poi si riversa anche negli studi di scienza politica e potremmo dire qui non ho avuto il tempo di svilupparlo negli anni 39-42 ha un'ulteriore accelerazione in senso nazionalistico e militarista avrei ricostruito bene questa cosa guardando gli studi di Cognasso c'è però anche da dire che tutto sommato a partire dagli anni 30 la medievistica si rivela molto meno originale complessivamente anche perché viene accolto il richiamo espresso a chiare lettere da Walter Maturi di occuparsi sempre più di contemporaneità grazie grazie Riccardo Rao ha svolto una relazione molto ricca e mi dispiace che per ragioni di tempo sia stata sacrificata qualche pagina ma insomma già abbiamo molti elementi per discutere quindi grazie chiamo adesso per la seconda relazione Antonino De Francesco prima di dire due parole su di lui mi sono dimenticato mi scuso con voi c'è un piccolo cambiamento nella procedura e nello svolgimento dei lavori perché il collega amico Giovanni Berardelli ha un impegno e quindi ci deve lasciare allora la proposta che io farei è questa dopo aver ascoltato la relazione di De Francesco ascoltiamo quella di Berardelli apriamo un dibattito solo sulla relazione di Berardelli che poi ci deve lasciare no no c'è il tempo per fare così no non cambiamo l'ordine anche perché c'è una logica di cronologia in questa successione e dicevo dopo che Berardelli ha svolto la sua relazione apriamo dieci minuti di dibattito solo sulla sua è un peccato non discuterle tutte insieme ma c'è una ragione ovviamente comprensibile a cui dobbiamo dare la precedenza poi facciamo la pausa poi dopo la relazione di Benadusi facciamo la discussione generale Antonino De Francesco non è certamente sconosciuto a molti di voi è uno studioso che ha studiato la storia della Francia dell'America la storia d'Italia la storia della Sicilia la storia dell'Italia settenzionale la storia dei movimenti democratici italiani e si è concentrato anche se non è solo questo il suo campo di studi sugli ultimi decenni del diciottesimo ai primi del diciannovesimo secolo e quindi ascolteremo dalla sua voce la relazione su rivoluzione e fascismo 1789 e 1793 nella cultura politica del regime con molto interesse a te la parola molte grazie molte grazie anche agli organizzatori per questo graditissimo invito io cercherò di collegarmi immediatamente alle parole di Riccardo Rao nonché del nostro presidente di sessione ricordando delle considerazioni che sono state recentemente fatte da uno storico britannico della rivoluzione francese secondo il quale commentando il fatto che l'argomento ormai è in caduta libera non costituisce più un tema particolarmente significativo all'interno del panorama storiografico internazionale secondo il quale la prima cosa da fare si dovrebbe scindere la categoria di rivoluzione da quella di modernità nel senso che la modernità a suo avviso ha ormai acquisito un significato sul fureo introduce una distinzione tra una stagione precedente ed una considerata propria al tempo rivoluzionario quindi introduce delle gerarchie fra dei migliori e dei peggiori distingue tra un noi che sarebbero tutti quelli che hanno vissuto e approvato la rivoluzione e un loro che sarebbero tutti quelli invece che l'hanno rifiutata respinta o semplicemente non conosciuta o addirittura subita splendori della world history va da sé nel senso che qui si tende come dire a sottolineare il fatto che in una dimensione degli avvenimenti storici che devono svolgersi su un terreno geografico quanto più ampio possibile dove non si debbano introdurre delle primazie non si debba fare una questione di scala ma si debba in qualche misura cercare di insistere invece sulle interconnessioni tra un episodio e l'altro stabilire che la rivoluzione francese fosse l'equivalente della modernità significa in qualche misura partire col piede sbagliato peccato che con questo piede sbagliato si sia partiti dal 1789 in poi e tutti sostenitori epigoni nonché detrattori su quel punto hanno sempre insistito sul fatto cioè che il 1789 costituisse l'avvio della modernità e la stessa cosa fa anche l'Enin con l'Ottobre nel senso che la rivoluzione dell'Ottobre nella sostanza altro non è che la prosecuzione e il miglioramento e il superamento di quanto negli anni rivoluzionari si era avviati si era avviato ma non si era riusciti a portare a termine ecco il fascismo fa la stessa cosa il fascismo come ricordava Marco in apertura di seduta vive il tempo presente e si considera la modernità per eccellenza ragion per cui entra subito in polemica con la rivoluzione francese e con la rivoluzione bolshevica asserendo di essere un soggetto nettamente migliore l'unico che sia stato in grado di risolvere i problemi che il 1789 aveva posto senza portare a compimento e che il 1917 andava cercando di risolvere in termini sostanzialmente sbagliati insomma il fascismo ha preteso da subito di essere una rivoluzione che superando quella del 1789 dava concreta soluzione ai molteplici problemi di ordine sociale ed economico che quella aveva sollevato senza riuscire a risolvere il fascismo era la punta avanzata della modernità politica di secolo XX perché liquidava anche come un cascame del 1789 la rivoluzione dell'ottobre che infatti si voleva continuatrice della fase radicale e terroristica di quella e quindi il fascismo reclamava di essere la guida di un nuovo ordine mondiale che anche successivamente il nazionalsocialismo presto alleato concorrente non avrebbe potuto dovuto sottrargli credo che questa impostazione trovi un'interessante definizione nel manifesto del regime pubblicato nel 37 da Roberto Farinacci la sua storia della rivoluzione fascista tuona contro il 1789 che come scrive ebbe corto respiro per il suo carattere individualistico e negativo e per la superficialità del suo pensiero ma ebbe conseguenze e attinse risultati enormi nell'economia alla cui fase capitalistica dette inizio impulso e non è casuale che Farinacci subito accosti alla rivoluzione francese e sono sempre sue parole il comunismo totalitario che annulla gli stessi individui che vuole salvare dall'individualismo capitalistico perché perché non è il superamento ma la egoistica antitesi semplice e rude di questo individualismo del quale non nega lo scopo ma il metodo e il sistema la conclusione per il RAS di Cremona era semplice solo il fascismo costituiva un reale superamento dell'unpass nella quale la rivoluzione dell'89 aveva precipitato la modernità nel corso di questo breve intervento seguirò soprattutto questa prospettiva perché a mio avviso questa è di gran lunga la più interessante e lo è perché costituisce la lettura di maggior significato per la sua capacità di restare in circolo certo con altre finalità certo sotto angolo molto diverso anche ben oltre la caduta del regime e poi perché riallacciandomi a quanto ci ricordava Riccardo Rao questa interpretazione nonostante abbia dei sicuri antecedenti tra i predecessori dichiarati del fascismo è una interpretazione che si afferma in modo particolare negli anni 30 quindi è espressione di una generazione sostanzialmente fascista ossia che aveva vissuto gli anni della formazione quando già il regime era presente mentre invece come abbiamo sentito prima gli storici che venivano dalla scuola economico-giuridica avessero come dire aderito o meno per lo più aderirano avevano avuto altra formazione lo so che vado facendo concorrenza al marchese di La Palis ma non dobbiamo dimenticarci che prima del 1922 tutti quelli che poi aderirono al fascismo avevano avuto altra esistenza altra vita politica che è difficile dimenticare che è difficile cancellare allora credo che non si debba pur insistendo su questa lettura del cosiddetto fascismo sociale mandare per scontato altro argomento molto banale e cioè che il fascismo è un prodotto ibrido fatto dell'incontro di molte componenti culturali rimaste nel corso del ventennio puntualmente distinte l'una dall'altra e che solo il duce in definitiva sarebbe riuscito pur tra qualche difficoltà a tutte raccogliere e tutte tenere in equilibrio di conseguenza non esiste una sola lettura della rivoluzione francese da parte del fascismo bensì una pluralità di interpretazioni che fanno tutte diretto riferimento a quadri ideologici tra sé anche molto diversi in taluni casi contrapposti la prima è quella che si è avuto modo di ricordare attraverso la citazione di Farinacci riflette posizioni di ascendenza sindacalista e massimalista nella quale si collocava come ben noto lo stesso Mussolini prima che la scelta concordataria del 29 non gli suggerisse di cambiare almeno ufficialmente registro e poco punto tornare sull'argomento poi vi è altra lettura che si ricollega direttamente alla svolta segnata dai patti lateranensi ed è di matrice profondamente reazionaria perché riflette quella cultura politica di parte cattolica largamente maggioritaria nel corso dell'Ottocento passata sotto traccia all'indomani dell'unità ma tornata a prendere forza proprio all'indomani del 29 per assumere una piena visibilità lungo tutti gli anni 30 tramite la traduzione in italiano dell'opera di Pier Gaxot un iscritto all'Action Francaise nonché la traduzione di altri lavori di impostazione contro rivoluzionari e la pubblicazione nella collezione dei libri verdi della Mondadori di lavori che fanno centro su alcuni aspetti della vicenda rivoluzionaria quale la fuga di Varenne il processo a Luigi XVI e a Maria Antonietta la tragica fine del loro figlio il mai salito al trono Luigi XVII eccetera eccetera per inciso Pier Gaxot e la sua Rivoluzione Francaise credo che sia l'opera che ha avuto il maggior numero di esemplari venduti nella stessa Francia nel corso del Novecento e anche questo dovrebbe dire molto sulle fortune della storiografia rivoluzionaria che noi tendiamo in qualche modo ad esagerare ma che uscendo dall'ambito accademico drammaticamente si contraccono e poi accanto a questa lettura chiaramente come dire contro rivoluzionaria se ne affianca un'altra d'impronta nazionalista perché nello studio della rivoluzione francese e della sua estensione all'Italia affiora ripetutamente la polepica verso il mondo liberale e si procede auspice il passaggio decisivo della grande guerra alla riscoperta di uno spirito di popolo tratteggiato come animato da un animo patriottico rispetto all'egoismo delle sue tradizionali elite sulle quali viene di conseguenza accadere una durissima critica negli anni 30 c'è tutto come dire un ritorno d'attenzione verso il cardenale ruffo verso come dire le insorgenze popolari si arriva addirittura a recuperare l'elemento borbonico come una parte costitutiva del processo di formazione di uno spirito nazionale insomma chi più ne ha più ne metta conferma del fatto che il fascismo non si faceva poi troppi scrupoli in questa logica predatoria dell'andare a piscare qua e là tutto quello che poteva fare consenso tutto quello che poteva in qualche misura ulteriormente ampliare il consenso sociale alla sua politica e poi ovviamente vi è anche un'altra impostazione che è quella di carattere tipicamente liberale nazionale la figura come dire di riferimento è stato più volte citato è quella di Gioacchino Volpe non faccio torto a Giovanni Pelardelli e qui mi taccio per ricordare non di meno che Volpe sul 1789 ha come dire un atteggiamento molto diverso nel senso che se insiste sulla via tutta italiana al risorgimento mette in rilievo come la rivoluzione francese fosse stata un autentico maremoto che invadendo la penisola avesse distrutto l'antico regime e avesse quindi indirettamente consentito ai patrioti ritiratesi le acque di andare a cercare tra quello che restava tra le macerie e tra i detriti della fiumana quanto potesse venire utile per costruire appunto un processo risorgimentale queste direttrici tutto dicono di come il fascismo eccezione fatta per le correnti di ispirazione democratica che sempre tenero fermo sul valore della rivoluzione che puntualmente vennero messe da parte nel corso del ventennio pretendesse di riassumere al proprio interno le differenti opzioni affermatesi a riguardo nell'Italia dell'Ottocento e sotto questo segno si ripromettesse di essere incontro e sintesi di mondi in precedenza pur contrapposti non di meno al di là di questa impostazione che gli consentiva di assorbire al proprio interno voci e posizioni tra sé molto differenti quando non contrapposte resta il fatto che il contributo originale dato dalla cultura politica del regime all'interpretazione dell'89 sia quello da cui abbiamo preso le mosse di cui Farinacci costituisce solo un modesto epigono e nel quale sin dagli inizi della sua avventura politica Mussolini si era riconosciuto sulla linearità riguardo dei convincimenti del duce conviene però subito porre le mani in avanti perché Mussolini era maestro nell'uso predatorio delle citazioni e nei cambiamenti di opinione che gli consentivano con gran naturalezza di riposizionarsi in tempi rapidissimi sullo scacchiere politico tuttavia non vi sono dubbi che agli inizi egli avesse un'idea della rivoluzione alla stregua di un fenomeno ferocemente borghese nel corso del quale la classe operaria era stata violentemente perpetrata a meri fini di classe il sonetto che dedicò Giovinetto a Baboeuf nel corso dell'anno scolastico 1899-1900 sta a rivelare come la sua precoce attenzione verso la rivoluzione si colorasse dalla condanna verso il molto di antisocialista che in quella vicenda aveva avuto modo di brutalmente appalisarsi insomma per il giovane Mussolini poetare su Baboeuf significava come per larga parte dei socialisti del tempo denunziare l'esito borghese dell'89 che aveva mozzato la testa al primo dei loro e sancito in tal modo il trionfo dell'ordine plutocratico doveroso sottolineare infatti come egli arrivasse alla figura di Baboeuf nel quadro di una cultura politica che guardava alla grande rivoluzione con il prisma dell'esperienza comunarda ossia di quel dramma nel quale si era compiuta la scissione tra socialisti e radicali portando gli uni a rifiutare come opportunista e conservatrice quella terza repubblica dagli altri proposta come naturale rede invece della vicenda politica democratica dischiusasi nel 92 con la caduta della monarchia su questa esperienza avrebbe poi fatto ricasco la stagione del sindacalismo rivoluzionario che agli inizi del novecento segnò in profondità la sinistra francese italiana distinguendo i circoli radicali da quel socialismo possibilista che in Francia con Jaurès e in Italia con Turati tentarono con alterne vicende di inserirsi nel gioco politico parlamentare inutile dire che la posizione di Mussolini fosse di risoluta ostilità al parlamentarismo e ogni prospettiva di democratizzazione della vita politica italiana in polemica con Salvemini che nel 5 dette alle stampe una rivoluzione francese dove si tentava la difficile sintesi tra le posizioni delle varie famiglie della sinistra italiana Mussolini apprezzò il fatto che oltre al 1792 il lavoro non andasse ossia non si addentrasse laddove maggiori erano i motivi di tensione e lo invitasse sia a parlare in un circolo socialista imperiosamente delucidandogli non di meno che di quello e quello soltanto avrebbe dovuto parlare non certo del suffragio universale per il quale l'altro tanto si stava impegnando e nei cui confronti Mussolini non aveva invece interesse alcuno così ancora la vigilia della grande guerra il giudizio di Mussolini riguardi la rivoluzione francese restava duro e in questa denuncia della nascita dell'ordine borghese non distingueva affatto tra l'89 e il 93 tra una stagione dei diritti dell'uomo e quella della dittatura del terrore entrambe le fasi erano accomunate da una dimensione borghese che aveva per la verità rivelato il suo volto più truce proprio nell'anno secondo quando la radicalizzazione del processo politico aveva se possibile maggiormente infierito sul proletariato in una lezione dedicata al significato della rivoluzione che tenne nel maggio del 13 nell'ambito di una scuola di cultura socialista Mussolini tornò sul punto con determinazione perché stando a resoconto dell'avanti ricordò come la mancanza di contenuto sociale nella grande rivoluzione ci spiega l'avvento di Baboeuf in Mussolini fa la biografia di Baboeuf e alla prossima lezione tratterà della cospirazione degli uguali non sembra che Mussolini abbia proseguito la propria attività didattica nulla sappiamo di come egli avrebbe inteso sviluppare il tema tuttavia le coordinate seguite per descrivere gli avvenimenti di Francia erano ancora una volta quelle della tradizione la polemica non era insomma di nessuna originalità perché riprendeva puntualmente quella condotta oltre le Alpi da Georges Sorel oltre che da Charles Péguy e da Hubert Lagardel ora quanto caratterizzava l'atteggiamento di Tietrini riguardo l'89 era proprio il rifiuto totale della rivoluzione anche della sua fase democratica e sociale pure dell'anno secondo e del governo rivoluzionario che nulla divideva a detta di tutti e tre dagli anni precedenti per tutti questi uomini che avrebbero contestato la scelta parlamentare del socialismo di Georges la rivoluzione aveva d'altronde reso illegali le organizzazioni operaie dissolto ogni legame all'interno della società di Francia abbandonato l'individuo lo potere del nuovo ordine amministrativo sostituita la dimensione sociale d'ogni uomo con una concezione astratta della cittadinanza da questo lato delle Alpi il tema venne ripreso da altri punti di riferimento del futuro duce del fascismo quali Enrico Leone Angelo Oliviero Olivetti nonché Paolo Orano i quali nella sostanza riprendevano le tesi che erano state sviluppate sull'onda di Sorel in Francia poi per Mussolini sarebbe venuto il tempo dell'interventismo la riscoperta della nazione a colorare di tinte differenti il suo modo di guardare alla grande rivoluzione e il 1789 d'improvviso gli sembrò il momento in cui un giovane proletariato aveva rovesciato un ordine plurisecolare consentendo la nascita della Repubblica prima concreta esperienza di una stagione democratica nella vecchia Europa l'oro francese insomma lo portò a riscoprire gli immortali principi i meriti di Jaurès il valore democratico dell'esperienza repubblicana e poi di nuovo le cose mutarono all'indomani di Versailles ed è all'indomani di Versailles che inizia anche a porsi all'interno dei primi circoli fascisti il problema di come distinguersi dall'altra rivoluzione nel frattempo intervenuta e qui ancora una volta è Olivetti il punto di riferimento per Mussolini il quale nel 19 parlando del bolshevismo suggerisce come Lenin sia soltanto la scimmia di Robespierre e Trotsky un marat senza passione mentre il comunismo sovietico gli appariva una variante purtroppo raffinata di quel giacobinismo da cui aveva preso avvio l'ordine liberale distruttore dell'associazionismo operaio stato borghese e stato socialista finivano dunque per Olivetti e presto anche per il Duce per coincidere sotto il segno di un ordine sempre e comunque ostile allo spontaneismo rivoluzionario questa linea politica il fascismo avrebbe nella sostanza seguito e la condanna dell'89 come del 93 divenne il rifiuto di un ordine che aveva fallito e al quale il nuovo movimento politico organizzato da Mussolini avrebbe dovuto rispondere risolvendo i drammatici problemi d'ordine sociale e politico che la rivoluzione aveva sollevato tuttavia benché fosse ormai dichiaratamente ostile al mondo plutocratico degli immortali principi all'indomani della presa del potere negli anni di costruzione del nuovo regime Mussolini fece spesso riferimento all'esempio della rivoluzione per giustificare la propria esemplare a questo proposito il discorso tenuto in Parlamento nel 27 dove il Duce difendendo le ragioni della propria opera di repressione del dissenso faceva un riferimento al terrore per dimostrare come le misure di polizia fossero ben poca cosa rispetto a quanto accaduto nell'anno secondo e di lì a breve sempre in polemica con i circoli degli oppositori faceva un deliberato ricorso all'armamentario polemico di parte rivoluzionaria equiparando l'antifascismo ai contro rivoluzionari della Francia di fine settecento che di rivoluzione vera e grande si tratti declamava il Duce lo dimostra il fatto che in un'affermazione almeno i vandeani dell'antifascismo i borbonici dell'antifascismo gli emigrati dell'antifascismo sono unanimi nel riconoscere cioè la impossibilità di un ritorno all'antico regime che il fascismo ha composto per sempre nella fossa e dunque parole che rivelano la stretta equivalenza tra il fascismo soggetto rivoluzionario e l'antifascismo soggetto contro rivoluzionario al punto da meritare di essere identificato con quanti all'indomani dell'89 avevano preso addirittura le armi per contrastare il nuovo ordine non voglio sopprare troppo tempo quindi posso ancora dieci minuti vado allora con ordine a tenere assieme quindi questa posizione critica nei confronti della rivoluzione quale fenomeno individualistico e borghese erano molte molte voci tuttavia con l'approvazione dei patti lateranensi la cosa cominciò a cambiare e suggerì soprattutto ai fascisti di formazione sindacalista che sostenevano la tesi che poi sarebbe stata ripresa da Farinacci di rimanere sul punto per impedire che gli splendori sanfedistici antirivoluzionari che sembravano crescere potessero prendere il sopravvento ma accanto a queste due linee se ne aggiunse presto una terza che è quella sviluppata dal da Giuseppe Bottai dal ministro delle corporazioni il quale si fece carico già nel 1930 di proporre altra lettura ancora della rivoluzione che accostasse anziché contrapporre il 1789 al 22 a sua detta era sbagliato demonizzare la rivoluzione francese la cui il Pars Destruens doveva invece essere elogiata e di cui il fascismo poteva a ragione rivendicare di essere la Pars Construens i valori dell'89 contro i quali il primo fascismo tanto si era battuto dovevano quindi essere rivalutati avendo cura di ricordare quanto essi fossero stati distorti dal successivo processo storico e da quelle liberal democrazie che se ne volevano eredi ed interpreti insomma i valori in sé erano nobili solo erano stati rovinati da chi il liberalismo li aveva poco plausibilmente fatti propri questo approccio che mirava trasformare il fascismo in una rivoluzione capace di sottrarre il testimone dell'89 al bolshevismo vale a spiegare perché nella cultura politica fascista degli anni 30 i riferimenti alla rivoluzione francese si diversifichino tra quanti volevano fare del fascismo il continuatore e perfezionatore del precedente di Francia e chi insisteva sull'irriducibile contrapposizione tra i due processi politici e tuttavia queste due interpretazioni pur contrapposte dell'89 avrebbero finito per convergere nella comune ricerca di quanto nel corso della lontana vicenda rivoluzionaria di Francia si fosse differenziato dall'indirizzo liberale e borghese presto preso dagli avvenimenti originava da qui un ritorno di interesse per il 1793 ossia per la stagione del governo rivoluzionario e della dittatura robespierrista nel cui inchiostro molte penne fasciste finirono per intingere questo spiega anche le fortune dell'interpretazione in chiave sociale ed economica messa a punto dal Bermatier la cui fatica non certo a caso comparsa in traduzione italiana sin dal 1933 valeva porre in rilievo la distorsione in senso liberale di un processo rivoluzionario nato contro il privilegio e purtuttavia presto declinato nell'interesse dei pochi la cosa non deve stupire qualora si ponga mente al nesso competitivo sempre indicato dagli intellettuali del regime nei confronti del boscevismo anche se rimane ancora oggi difficile indicare con precisione la molteplicità dei presupposti che consentivano il mantenimento dell'interesse per il 93 all'interno del mondo fascista di certo però il riferimento all'anno secondo veniva utile per confermare il ruolo del fascismo sul terreno della modernità politica perché il modo di rapportarlo all'89 si riprometteva di farne l'espressione più alta e compiuta mai raggiunta fino ad allora dalla statualità così per quanti guardavano con interesse alle tesi di Bottai il riferimento tutto sommato in positivo all'89 permetteva di scavalcare sul loro stesso terreno le democrazie parlamentari e consegnava al duce il testimone della contrapposizione al bolcevismo per questa via vanno lette le tesi di Ugo Spirito il quale proprio prendendo le mosse da Bottai si spinse a indicare come il fascismo grazie alla dimensione corporativa arrivasse a inverare e riassumere il bolcevismo Spirito proprio diceva non credo che si renda un buon servigio al fascismo quando lo si contrappone in maniera affatto antitetica al bolcevismo come il bene al male o la verità all'errore noi siamo oggi l'unica nazione che può giudicare con serenità la rivoluzione bolcevica perché siamo l'unica nazione che ha già fatto suo e può senza preconcetti o limiti estrinseci continuare a far suo quanto di vivo e fecondo si trova nella grande esperienza russa e ancora altri come dire altre penne vicino a queste posizioni avrebbero suggerito è il caso di Bruno Spampanato come lo stato moderno nasca dalla rivoluzione francese ma vi nasca solo in fieri la modernità esige uno stato totalitario che interessi tutti i cittadini che impegni la loro solidarietà che rappresenti effettivamente la loro vita la circostanza e mi accingo a concludere la circostanza che presto non mancassero puntuali accostamenti tra Mussolini e Robespierre lascia inoltre intendere come l'esempio dell'anno secondo venisse utile per i lavori di quanti negli anni 30 insistevano sul regime quale propugnatore di uno stato totalitario apparentemente nulla della tradizionale cultura fascista poteva condurre ad una valutazione in positivo di Mattier nella sostanza invece nell'ambiente culturale della cosiddetta sinistra fascista le cose si facevano assai differenti perché l'opera di Mattier poteva essere letta come prova provata dell'irresistibile dimensione borghese e plutocratica della rivoluzione e credo che da questo punto di vista il testo fosse più interessante è quello di Giuseppe Maranini 1935 Giuseppe Maranini un allievo di Solmi classe stato nella rivoluzione francese che è un lavoro dedicato a Benito Mussolini con fede nel presente e nell'avvenire e nel corso del quale si sottolinea come il dramma della rivoluzione fosse stato lo scioglimento delle corporazioni a seguito della legge Le Chaplier e come nella sostanza tutta la vicenda dell'anno secondo fosse il tentativo di costruire una statualità che permettesse di reggere la prova del disordine sociale cui le prime mosse di impianto chiaramente liberale all'indomani del 1789 avevano portato insomma la rivoluzione francese nella penna di Maranini pur ricostruendo nel dettaglio anche le vicende rivoluzionari stesse era un elemento di costante confronto con il fascismo non tanto perché aveva avviato quella modernità di cui Mussolini si voleva il più raffinato degli interpreti bensì perché aveva davvero posto quella questione che soltanto lo stato integrale lo stato elemento sussuntore dei molteplici interessi della nazione voluto dal Duce era riuscito compiutamente a risolvere quindi fatica profondamente calata nell'identità culturale del fascismo riflesso dell'identità nazionale che il regime sempre avrebbe rivendicato e che la componente sociale del fascismo sempre avrebbe tentato di difendere quale tratto distintivo dell'irripetibile originalità del movimento nella vicenda dell'Europa di secolo XX l'opera di Maranini è di una conoscenza precisa e puntuale della grande tradizione storiografica francese del tempo da Jaurès a Mathieu declinata ovviamente a sostegno di un recupero del movimento corporativo su cui si sarebbe dovuto fare centro per costruire della nuova statualità si accettavano tutte le premesse tutte le considerazioni della storiografia francese sulla rivoluzione salvo poi distinguersene quanto alle conclusioni ossia non era possibile immaginare una soluzione favorevole sulla base della cultura politica francese soltanto il fascismo avrebbe potuto recuperare quanto era rimasto interrotto nel 1793 però è questo il punto sul quale veramente concludo cioè le coordinate allora tracciate da Maranini i molti stilemi che egli contribuiva a fissare attorno alla vicenda rivoluzionaria tra l'89 e il 94 la lettura tutta favorevole alla montagna e al robespierismo hanno trovato ed è questo l'elemento interessante il modo di agevolmente superare il crollo del regime e di riproporsi nella storiografia italiana dell'immediato dopoguerra dove sotto un segno ideologico ben differente sarebbe avvenuta la riscoperta della scuola storiografica francese è questo un aspetto a lungo passato inosservato all'interno della riflessione sull'interesse per l'89 nell'Italia del secondo dopoguerra e tuttavia non è certo un dettaglio di poco conto perché le fortune del robespierismo e dell'anno secondo nell'Italia degli anni 30 possono valere da utile osservatorio per prospettare in termini più articolati di quanto tradizionalmente accolto la trasmigrazione sotto le insegne del comunismo di una generazione intellettuale cresciuta sotto gli auspici del fascismo come perché dopo il 45 si potesse correre la raccolta in storiografia sotto le insegne del giacobinismo e nella lotta politica a tener fermo sul rifiuto sempre e comunque della democrazia è infatti questione che va oltre il dato storiografico per investire le modestie e le insufficienze delle prime stagioni culturali della Repubblica e per una via si fatta riproporre la questione dei termini sostanzialmente autoritari che innervarono anche a sinistra la vita civile italiana del secondo novecento grazie grazie molto grazie Antonino De Francesco scusami mi sono dimenticato di dire che insegna all'università degli studi di Milano ma nel programma c'è scritto ogni tanto si può perdonare questa dimenticanza ti ringraziamo anche per la puntualità svizzera con cui hai rispettato la mezz'ora di tempo neanche i 35 minuti quindi grazie doppiamente perché guadagniamo un po' di tempo invito Giovanni Belardelli che insegna all'università degli studi di Perugia gli do subito la parola Giovanni è come moltissimi di voi sanno da oltre due decenni un editorialista sulla grande stampa nazionale e affianca questa attività di commentatore anche della vicenda non solo storica ma politica del nostro paese ai suoi studi insegna storia insegna si è occupato molto anche di storia delle dottrine politiche ha fatto studi che vanno dall'Italia liberale alla grande guerra al fascismo e all'Italia repubblicana studiando anche gli intellettuali italiani da Carlo Rosselli a intellettuali del fascismo e dell'antifascismo e però si è occupato molto anche in termini ravvicinati e anche recentemente di Mazzini su cui sappiamo che la storiografia ha dato tutta una serie di stratificazioni successive nell'approccio interpretativo sappiamo anche che il fascismo ha grossolanamente cercato di trasformare Mazzini in un apostolo di italianità e basta apostolo dell'indipendentismo cassando via il repubblicanesimo e la democrazia che non sono proprio degli incidenti di percorso nel suo pensiero ma meglio di Giovanni Bellardelli non possiamo avere e quindi gli do subito la parola grazie 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 agli organizzatori di questo convegno sono tornato sull'argomento non sono Mazzini ma anche Mazzini il fascismo sono molto volentieri dopo anni in cui mi era capitato di occuparmene allora cercherò di procedere abbastanza schematicamente perché poi in questi ultimi anni se ne è scritto abbastanza varie persone se ne sono occupate quindi è un argomento abbastanza noto appunto la quantità notevolissima dei richiami fascisti e Mazzini tanto per partire da un punto 1932 la famosa intervista i colloqui di Emil Ludwig con Mussolini e il duce dichiara che nel fascismo c'è già una classe di eccellenti governanti per esempio Grandi Balbo Bottai ecco questi tre personaggi citati da Mussolini tutti e tre in qualche modo avevano avuto nella loro formazione una avevano visto un ruolo importante del richiamo a Mazzini e continuavano a richiamarsi a Mazzini non entro nei dettagli Balbo aveva fatto la tesi sui doveri dell'uomo insomma sono cose che un po' si sanno poi le leggerete chi vuole negli atti ecco questo fenomeno torniamo un primo punto naturalmente si è verificato anche nel cinquantennio liberale abbiamo avuto per citare due presidenti del consiglio Agostino De Pretis e Francesco Crispi che nella loro biografia avevano avuto una fase mazziniana ecco la differenza nel caso dei tre gerarchi citati da Mussolini era che i grandi Balbo e Bottai in quello stesso anno e negli anni successivi continuavano a richiamarsi a Mazzini considerando e di questo parlerò naturalmente che il fascismo riprendeva e addirittura attuava elementi fondamentali del pensiero mazziniano proprio così per dare dei riferimenti quantitativi abbiamo avuto in Italia quattro ministri della pubblica istruzione e poi con la nuova denominazione di educazione nazionale gentile Balbino Giuliano più volte citato Francesco Ercole già citato Bottai che in un modo o nell'altro appunto hanno scritto cose su Mazzini si sono richiamati a Mazzini hanno rivendicato il legame Mazzini fascismo abbiamo avuto giovani intellettuali fascisti che si sono richiamati a Mazzini citerò per la centesima volta Roberto Pertici l'avrà sentita mille volte perché l'ha usata anche lui occupandosi di Cantimori appunto Delio Cantimori ricorderà dopo la guerra che si era iscritto al partito fascista citazione immaginando che questo avrebbe fatto la rivoluzione repubblicana sindacale nazionale di Corridoni e di Mazzini altro giovane intellettuale piuttosto noto e studiato Berto Ricci si richiamava anche lui a Mazzini a un'idea di tradizione italiana che aveva in Mazzini uno dei suoi capisaldi ripeto sono cose molto studiate Roberto Pertici le conosce quanto è più di me però farò un riferimento che secondo me Roberto tu non conosci ma è una cosa proprio piccolissima allora l'assai più giovane Luciano della Mea che negli anni 60 sarebbe stato un esponente della sinistra extraparlamentare nel 1940 si arruolava in guerra ricorderà anche lui nel dopoguerra da convinto fascista qual era diventato grazie a Mazzini per dire la presenza massiccia di questi richiami appunto gli esempi potrebbero essere enormi un'enormità come il numero allora perché cominciamo a entrare nel merito e chi sono questi Mazziniani in camicia nera no perché ovvio il titolo sta per i Mazziniani Mazzini in camicia nera il Mazzini dei fascisti allora c'è innanzitutto il settore del repubblicanesimo italiano perché perché c'è attraverso il repubblicanesimo il richiamo a quella idea a quel mito mito in senso sorelliano mito come immagini motrici diceva Sorelli idea operatrice insomma nella storia della rivoluzione italiana che Mazzini per primo diffonde i repubblicani conservano e continuano a diffondere di una rivoluzione che era stata rotta a mezzo aveva detto Mazzini o tradita andava ripresa una rivoluzione che non era andata a buon fine diciamo così sia naturalmente per l'esito monarchico sia per la mancanza di partecipazione popolare una rivoluzione sociale e nazionale che sembrava fatta apposta perché il fascismo vi si richiamasse essendo nelle sue varie e molto differenti correnti il fascismo però un movimento che vedeva queste correnti tutte variamente mescolare il dato sociale e il dato nazionale in particolare questa idea di rivoluzione italiana dove era soprattutto sopravvissuta come elemento politicamente rilevante era naturalmente sopravvissuta nella regione nelle regioni di maggior insediamento dei repubblicani italiani e cioè in particolare in Romagna dove aveva alimentato quell'humus sovversivo che come è noto appunto è caratteristico di quella regione e non a caso appunto dobbiamo necessariamente individuare il primo gruppo o gruppetto se vogliamo di fascisti mazziniani appunto chi viene all'ambito repubblicano soprattutto all'inizio prima della marcia su Roma nelle origini del fascismo del 19-20 c'è un grande quando il fascismo è ancora repubblicano oltretutto c'è una grande appunto simpatia interesse per il fenomeno per il fenomeno fascista e il fenomeno Mussolini c'è poi questa fiammata di entusiasmo non dura moltissimo per la verità anche se rimangono alcuni significativi esponenti diciamo che venivano organicamente dalla storia del mazzinianesimo italiano che restano fascisti per tutto il decorso del regime io ho lessi anni fa appunto una tesi di dottorato di Michele Finelli che appunto si intitolava Mazziniani all'ombra di Mussolini questo se ci riferiamo proprio ai mazziniani in senso proprio possiamo parlare anche di un fiume carsico perché nell'ultimo come è noto in completo volume della biografia mussoliniana di De Felice si racconta come dopo la proclamazione della Repubblica Sociale vi fossero dei repubblicani mazziniani scrive De Felice anche che che si erano mantenuti estrane indipendenti insomma rispetto al fascismo che di fronte alla Repubblica il mito della Repubblica insomma aderiscono appunto alla Repubblica Sociale Italiana mi pare che tu stessi nominando il padre Carlo Cantimori è uno è uno di costoro che si era poi allontanato dal fascismo ma finitorna quindi c'è questa prima componente diciamo dei fascisti mazziniani sono i repubblicani evidentemente poi però c'è anche direi l'altra grande componente il sindacalismo rivoluzionario italiano quei sindacalisti che fra guerra di Libia e guerra mondiale erano passati come loro stessi raccontavano la propria storia in modo abbastanza fedele nel passaggio dalla nazione alla classe erano stati accompagnati da Mazzini ma non nel senso che l'avessero scoperto in quel momento lì perché anche da sindacalisti rivoluzionari alcuni di loro avevano citato mostrato interesse per Mazzini non si ricorda mai che nelle riflessioni sulla violenza di Sorella ci sono degli apprezzamenti molto positivi di Sorella per Mazzini salto le citazioni che si potrebbero dare anche perché sono scelto così un po' casualmente come esempio il già fin troppo citato poi alla fine Angelo Oliviero Olivetti che adesso non ne possiamo fare una gigante diciamo così della storia italiana forse però la sua esperienza è molto significativa di cosa allora delle citazioni che avevo qui di Olivetti ne vorrei leggere una soltanto Olivetti appunto si richiama allo strumento divinato da Giuseppe Mazzini naturalmente la corporazione che appunto viene ripreso dal fascismo e non è solo lui ma c'è tutta una schiera di persone che ripetono questo questo tema quella sarebbe stata la base della rivoluzione fascista come rivoluzione sociale appunto la corporazione divinata da Mazzini ma ecco una citazione di Olivetti è interessante anche di un aspetto perché rischiamo sempre di e poi questo farò un'osservazione alla fine su questo però di pensare che questi siano riferimenti casuali allora non lo sono evidentemente non è che Olivetti citava Mazzini invece poteva citare Cavour insomma no e ma spesso sono anzi sono sempre riferimenti che ovviamente quando parliamo di riferimenti a Mazzini o a Marx o a chi vi pare a voi alcuni decenni dopo appunto che l'interessato è morto si mescolano con varie influenze culturali ecco appunto perché vorrei citare questa frase del sindacalista rivoluzionario Olivetti perché siamo nel 1909 la sua rivista Pagine Libere richiama il fatto che ogni lotta sociale è un urto di due minoranze sul corpo inerte della gran massa anonima ridotta ad un pensiero e ad un'azione di secondo grado gli uomini rappresentativi nella storia sono coloro che posseggono il fascino solenne e misterioso che desta e trascina e solleve adormienti in un attimo di vita intensa a creare una città non sembrerebbe particolarmente Mazziniano prima vista solo Mazziniano subito dopo invece Olivetti non la pensava così ma dal manipolo di avanguardia deve emanare un'idea ed un'azione fatta di continui conati sperimentali ed educativi concezione meravigliosa di Giuseppe Mazzini la virtù educativa del conato anche se disgraziato cioè le tante imprese tentate sfortunatamente da Mazzini allora qui è ovvio che se andiamo ad analizzare i componenti di queste affermazioni che ci troviamo ma proprio subito Mosca e Pareto gli studi franco-italiani sui comportamenti e la psicologia delle folle c'è Sorella probabilmente c'è anche Nietzsche perché il sindacalismo dirà dieci anni dopo Olivetti è una dottrina aristocratica dottrina veramente del superuomo perché ha dita all'uomo di superare se stesso eccetera eccetera ma ecco Mazzini viene naturalmente diciamo impastato mescolato ma è uno degli ingredienti non è un ingrediente secondario ma un ingrediente diciamo come nella cucina insomma dipende quali cibi quali ingredienti mettiamo nella preparazione di un cibo sicuramente appunto Mazzini il sindacalismo rivoluzionario occupa un posto di rilievo ripeto risparmio le citazioni gli esempi eccetera 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 naturalmente e qui vado proprio molto rapidamente perché il caso è non noto ma notissimo c'è Giovanni Gentile che scopre Mazzini curioso perché sia Gentile che Mussolini scoprono Mazzini per esempio dopo certamente i repubblicani dopo i sindacalisti rivoluzionari di cui ho parlato lo scoprono durante la guerra in modi naturalmente molto diversi ovvio allora nella costruzione particolare dell'interpretazione particolare dell'idea d'Italia di Gentile appunto Mazzini diventa una figura diciamo così che interpreta una parte una potenzialità che diventano decisive dopo la guerra nella storia d'Italia è grande scontro la lettura che dà Gentile della storia d'Italia fra l'Italia di Giolitti e l'Italia di Mazzini non occorre dire l'Italia di Mussolini lo scriverà dopo ovviamente dopo il 22 di quale di queste due Italie è erede se voi prendete i due volumi nell'edizione delle opere di Gentile pubblicata dalle lettere ormai una ventina di anni fa politica e cultura il secondo nome più citato dopo quello del Duce è quello di Mazzini non mi voglio soffermare su tutto questo se non per dire che il tema la lettura in particolare della nazione che già aveva durante la guerra Gentile formulato in termini che la distinguevano dalla nazione dei nazionalisti una nazione su duri dati oggettivi mentre invece come è noto per Gentile bisogna separare la nazione da un dato oggettivo da ciò che ha a che fare con la biologia e con la razza ma invece farne consapevolezza di sé la nazione è ciò che si costruisce sempre ecco questa stessa concezione verrà poi ripresa negli anni del fascismo mi pare nel 25 questa citazione in cui dice un altro degli articoli della fede mazziniana altra gloria immortale del Mazzini è questo concetto che in una nazione non è un'esistenza naturale ma una realtà morale nessuno la trova perciò dalla nascita ognuno deve lavorare a crearla è naturalmente un Mazzini attualizzato nel senso un Mazzini fatto con un bisticcio cronologico seguace dell'attualismo ma non arbitrario questa la nazione conclude Gentile per cui gli italiani non potranno non sentirsi sempre affiliati della giovane Italia mazziniana e oggi si dicono fascisti il richiamo insistito di Gentile a Mazzini anche nella idea che il fascismo non fosse soltanto una concezione politica ma anche una concezione generale della vita una concezione di tipo religioso o meglio una concezione religiosa morale politica che non separava queste sfere tutto questo naturalmente assume qui c'è una citazione un po' lunga e ve la rispanio ma assume spesso in Gentile come è noto in questi scritti che sono spesso interventi ci sono sempre interventi legati all'attualità spesso discorsi un tono una curvatura retorica molto forte ond'è che noi fascisti rivolgendoci indietro a cercare nella storia di questa Italia che è la nostra ardente passione il nostro modello sentiamo di incontrare nell'austera figura di Giuseppe Mazzini la forma più pura e più luminosa della nostra fede e del nostro ideale applausi recita appunto il testo quindi è vero che c'è una forzatura dentro la dimensione dell'attualismo c'è una forzatura certamente retorica però appunto un'operazione mi tocca ricitare Roberto Pertici perché l'ha scritto lui unilaterale ma non del tutto arbitraria e condivido perfettamente questo giudizio e direi che questo giudizio si può estendere al complesso dei richiami fascisti a Mazzini allora sempre rapidamente chi sono questi Mazziniani allora repubblicani sindacalisti rivoluzionari gentile naturalmente lui il duce su questo possiamo essere molto rapidi se l'è scritto più volte nel passaggio dal Mussolini socialista al Mussolini fascista all'inizio almeno del Mussolini fascista vi dedica un paragrafo nel suo libro Mussolini e la storia la nostra organizzatrice Paola Salvatori per cui insomma mi posso non non soffermare su tutto questo ho già detto che per un'anime giudizio direi degli studiosi Mazzini viene scoperto durante la guerra quindi Mussolini non nasce Mazziniano insomma il numero di citazioni potrebbe essere veramente infinito mi limito a due punti telegrafici il primo riguarda appunto sì due citazioni nell'ottobre 1939 dichiara Mussolini io leggo spesso i libri di Mazzini e ritengo purtroppo che pochi italiani facciano altrettanto si accorgerebbero che le sue idee sono di tale palpitante attualità che si direbbe vissuto nel nostro tempo questa citazione può essere fatta seguire immediatamente da un'altra citazione da una pagina abbastanza nota del diario di Bottai siamo nell'aprile del 40 in cui in qualche modo ci certifica De Visu che questo è vero perché è andato a Palazzo Venezia Mussolini sta immerso su un grosso volume è uno dei volumi dell'opera Omnia di Mazzini che sono circa 100 volumi ha sottolineato alcune frasi ne legge qualcuna dove risuona il fiero monito del genovese una più alta vita morale dell'Italia poi ci sono citazioni registrate da Bottai di ciò che gli declama Mussolini quindi vuole dire sembrerebbe proprio vero che appunto io leggo spesso i libri di Mazzini diceva il Duce è abbastanza probabile sottolineerei ma solo così come una suggestione non mi ci voglio soffermare il fatto anche che si potrebbero trovare poi anche citazioni come dire implicite di sostanza in Mussolini in cui Mazzini non è citato faccio un unico esempio dalla dottrina del fascismo cioè la voce dell'enciclopedia italiana nel 1932 sarebbero vari esempi da quella voce che hanno un che di Mazziniano a chi è abituato un po' alla prosa di Mazzini un po' ne conosce i testi per esempio questa frase Mussolini vi affermava che non mai come in questo momento i popoli hanno avuto sete di autorità di direttive di ordine ecco io ci sento qualcosa di una famosa frase di Mazzini il mondo ha sete in oggi che per altri si dica di autorità quindi lo stesso tema autoritario peraltro ovviamente presente nel fascismo in quella voce nel regime in tutto che lo sappiamo così preponderante nell'esperienza fascista ecco conteneva un elemento di matrice democratica cioè l'elemento di tipo autoritario tra virgolette se volete certo per il senso diverso che aveva in Mazzini che gli assegnava appunto il fondatore della giovane Italia insomma gli stessi nazionalisti che pure abbiamo visto avevano una concezione della nazione non mazziniana secondo Gentile con qualche ragione però appunto Rocco il già citato Francesco Ercole scrivono fanno discorsi scrivono saggi su Mazzini quindi non mi ci soffermo per motivi di tempo un paio di eccezioni che segnalo appunto proprio perché sono delle eccezioni in questo panorama di mazzinianesimo diffuso chiamiamolo così Roberto Forges Tavanzati nel Balilla Vittorio appunto libro per le elementari per la quinta classe delle elementari in cui riprende la tradizionale visione conciliatorista del risorgimento però appunto l'opera concorde di Garibaldi di Cavour di Vittorio Emanuele invece non vi si nomina quasi Mazzini e poi personaggio piuttosto singolare come è noto Cesare Maria De Vecchi direttore della rassegna fra le altre cose insomma della rassegna storica del risorgimento che era però come è noto un fascista ultramonarchico e forse più ultramonarchico che fascista il quale questo lo racconta De Felice in un suo saggio sugli storici italiani durante il fascismo rifiutò due articoli per la rivista perché trovava che non fossero abbastanza critici nei confronti di Mazzini però appunto sono così particolari a conferma di tutto il resto lasciamo perdere ma si potrebbe fare questo elenco il numero non solo diciamo così di articoli saggi e libri su questo Mazzini autorizzato attualizzato rispetto al tempo fascista ma anche su Mazzini fascista appunto la vita di Mazzini narrata ai giovani fascisti a Mazzini visto con cuore di fascista quindi se ne potrebbero citare moltissime cose di questo tipo si potrebbero citare molte iniziative dell'ottobre 25 la casa natale di Mazzini viene creata monumento nazionale viene a Genova lì viene inaugurato nel 1934 l'istituto Mazziniano con un discorso di gentile che si intitola Mazzini e la nuova Italia uno studioso che ha ricostruito tutta la un po' nazionale sostiene che il regime sia stato il regime a dare un grande impulso alla pubblicazione di questa opera veramente imponente nella mostra che come è noto non si fece la E42 era prevista una sala dedicata a Mazzini e di questo mazzinianesimo fascista nonostante ovviamente si fosse particolare non indifferente in Italia monarchica ecco ho un grandissimo ritorno di fiamma come è noto durante la Repubblica sociale il 9 febbraio proclamazione della Repubblica Romana è la data di giuramento degli appartenenti all'esercito repubblicano il 10 marzo 1944 a Roma in piazza Cavour si commemora la morte di Mazzini e fra l'altro quel corteo dopo la celebrazione sarebbe stato oggetto di un attentato gappista appunto l'effigio di Mazzini veramente dilaga abbiamo una interessante particolarità ma di cui non mi posso occupare qui evidentemente per motivi di tempo che abbiamo una fortissima presenza negli anni della guerra civile di Mazzini su due fronti basta fate una cosa semplicissima prendete il libro di Claudio Pavone una guerra civile andate all'indice di nomi e vedete tutti i partigiani che si richiamano a Mazzini sia nel nome della formazione partigiana sia in una lettera ai familiari insomma abbiamo veramente Mazzini su due fronti abbiamo è storia nota mi capitò proprio a me qui di affrontarla qui nel senso a Pisa qualche anno fa un convegno su Mazzini nel novecento del partito comunista italiano in particolare Togliatti che fa una geniale operazione appunto politico culturale è di cominciare improvvisamente dopo aver scritto delle cose durissime contro Mazzini in chiave anti Carlo Rosselli giustizia e libertà sono scritti famosi no? dando sostanzialmente a Mazzini del fascista lo riscopre in chiave patriottica appunto nei discorsi durante la seconda guerra mondiale se volete questa riscoperta lo dico perché ho appena citato quegli anni ma c'è poi quel famosissimo testo l'idea di nazione di Chabot che sono le sue elezioni universitarie nel 43-44 dove a Milano occupata da tedeschi come è noto qual è l'obiettivo di Chabot è di dire noi con quella roba lì con il razzismo non c'entriamo perché noi siamo eredi di Mazzini perché l'idea di nazione di Mazzini è basata sulla volontà non è basata sul duro e obiettivo dato oggettivo della razza e Chabot facendo questa operazione vedete come si mescolano i Mazzini annesimi italiani in cui vuole distanziare attraverso Mazzini distanziare l'esperienza italiana da quella tedesca ripropone Mazzini che non è molto diverso dal Mazzini che aveva letto Gentile quindi appunto singolare interessante storia però appunto non tutte le suggestioni di questo argomento adesso qui si possono seguire io vorrei limitarmi a elencare elencare un po' i temi principali un po' un fatto riferimento meno di quanto avrei voluto perché in realtà ho abbastanza abbreviato quello che mi ero appuntato di questo mazzinianesimo fascista cioè quali sono i temi mazziniani nell'ambito del fascismo allora l'ho detto a proposito cioè l'ho detto l'ho enunciato semplicemente rispetto a Gentile la concezione religiosa della politica e della vita ecco a proposito di Gentile la concezione di Mazzini ferma Gentile è sì concezione politica ma di quella politica integrale la quale non si distingue così come dalla morale dalla religione da ogni concezione della vita da potersi fissare come per sé stante divise ed astratta da questi altri interessi fondamentali dello spirito umano in Mazzini l'uomo politico è quello che è in quanto a una dottrina morale religiosa filosofica e certamente diciamo chiunque abbia letto dieci pagine di Mazzini su questa affermazione di Gentile su Mazzini non potrebbe non convenire quindi c'è questo tema della concezione religiosa della politica e della vita c'è naturalmente strettissimamente collegata l'idea della religione della patria cioè il tema della patria della nazione che evidentemente pervade il fascismo c'è il tema notissimo della giovinezza che sappiamo quale importanza abbia appunto fin dal nome della giovine Italia dalla regola che non si poteva essere iscritti almeno in teoria se si aveva meno di 40 anni ma tema della giovinezza che è declinato non solo come giovinezza diciamo anagrafica ma anche come giovinezza nazionale ho citato prima quel discorso del 34 di Gentile il titolo su Mazzini e la nuova Italia ma la primissima in senso assoluto credo storicizzazione della marcia su Roma perché è del gennaio mi pare 23 in articolo di Gioacchino Volpe su gerarchia quindi proprio come dire a caldo insomma mentre marciavano su Roma dopo il 28 ottobre appunto le camicie nere si era messo a scrivere o giù di lì ecco si intitola appunto Giovane Italia e c'è un esplicito richiamo appunto all'esperienza di Mazzini e della Giovane Italia mi rendo conto che tutte queste cose andrebbero poi analizzate con calma andrebbero visti e citati i testi ma adesso volevo semplicemente provare così un po' un elenco di questi temi c'è il tema dell'educazione della pedagogia sappiamo quanto questo tema è importante evidentemente l'educazione degli italiani per Mazzini e sappiamo quanto appunto per lo stato fascista il tema dell'educazione degli italiani sia rilevante ma inizia con Mazzini tutto quel tema che sarà variamente declinato nella storia intellettuale e politica italiana che è la riforma del carattere degli italiani ecco penso per mettere l'etichetta e capire un po' di che cosa ci stiamo che cosa stiamo parlando insomma e quindi questo tema può avere nella lettura dei fascisti appunto un'ascendenza mazziniana è uno dei motivi che induce a guardare a Mazzini ma evidentemente visto che poi qui stiamo in un convegno sto parlando di un convegno che si intitola fascismo e storia c'è il tema del risorgimento allora l'ho detto un po' all'inizio c'è il tema della rivoluzione risorgimentale come una rivoluzione non andata a buon fine ecco il primo è Mazzini nelle parole di fuoco che riserva allo stato nato dopo il 1870 no? c'è solo lo scheletro della nazione manca l'anima sì certo perché perché è finita finita con uno stato che è un regno ma non solo per questo perché non c'è stata questa rieducazione nazionale non c'è stata la partecipazione attiva di un popolo rigenerato ecco dal punto di vista del rapporto con il passato storico del paese indubbiamente questo è il Mazzini più rilevante nei richiami fascisti e c'è un luogo famosissimo e benché sia famosissimo e molto noto non posso fare a meno di citarlo perché è un discorso del 1927 il famoso discorso dell'ascensione in cui c'è il collegamento da parte di Mussolini esattamente all'idea del fascismo del risorgimento come rivoluzione interrutta questo grande modello che sappiamo è stato declinato in vari periodi precedenti al fascismo e successivi ma non ce ne occupiamo qui insomma questo modello della interpretazione della storia d'Italia in cui mi viene da dire una definizione molto giusta di un grande storico italiano del novecento Rosario Romeo dicendo che gli italiani avevano in maggioranza l'idea della storia sbagliata c'era sempre qualche cosa che non era andata bene aveva sempre preso da sceto la storia nazionale ma per limitarci al rapporto del fascismo e risorgimento il discorso dell'ascensione che cos'era lo Stato quello Stato che abbiamo preso boccheggiante eroso dalla crisi costituzionale avvidito dalla sua impotenza organica lo Stato che abbiamo conquistato all'indomani della marcia sul Roma è quello che ci è stato trasmesso dal sessanta in poi non era uno Stato ma un sistema di prefetture malamente organizzato in questo Stato fino al 1922 il proletariato che dico il popolo intero era assente refrattario ostile il folletto dei refusi qui dell'opera omnia di Mussolini si è divertito e ammesso che in questo Stato non fino al 1922 come correggo io ma fino dal 1922 il popolo intero ma appunto benissimo oggi preannunziamo al mondo la creazione del potente Stato unitario italiano eccetera 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 che si esprime in una democrazia accentrata organizzata unitaria nella quale democrazia e il popolo circa suo agio eccetera eccetera non era solo Mussolini c'è una citazione che è salto di critica fascista che sostiene esattamente la stessa cosa il risorgimento come un processo nel quale il popolo era rimasto fuori dallo Stato e che invece appunto viene sanato dal 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 fascismo strettamente connesso come avete anche un po' visto da queste ultime citazioni al tema del risorgimento incompiuto che il fascismo completa è il tema appunto a cui accennava Aurora insomma in questa citazione Mussolini non mi ci posso soffermare insomma è il tema della democrazia fascista mettiamoci naturalmente le virgolette ovvio ma anzitutto nella voce fascismo dell'enciclopedia italiana la parte scritta da lui non soltanto firmata cioè quella di Gentile Mussolini dice che il fascismo respinge la democrazia a brevio del suffraggio universale la democrazia del voto per inciso riprendendo una famosa di fatto una famosa affermazione di Russo nel contratto sociale quando dice gli inglesi pensano di essere liberi quando vanno a votare è precisamente in quel momento che diventano schiavi ma dice se noi intendiamo la democrazia in un altro senso una democrazia che costruisce la più ampia partecipazione popolare il popolo che circola nello stato eccetera eccetera allora il fascismo è una democrazia più completa di quella democrazia rappresentativa appunto che è sostanzialmente vuota perché si risolve nel mettere ogni tot anni una scheda nell'urna a questo si collega e posso solo enunciarlo evidentemente sono tutti temi strettamente collegati la critica del risorgimento il tema della democrazia fascista il corporativismo appunto come peculiare forma attraverso cui quella democrazia si attuerebbe perché la peculiare forma attraverso la quale il popolo entra nello stato vi risparmi un paio di citazioni di Giuseppe Bottai su questo tema ma insomma ve le potete immaginare per andare rapidamente a alcune conclusioni considerazioni finali allora bisognerebbe anche vedere una volta fatto questo rapidissimo e velocissimo e troppo veloce inventario dei temi mazziniani e delle componenti diciamo così del fascismo sostanzialmente quasi tutte che si richiamano a Mazzini poi andare a vedere questo sarebbe un altro interessante lavoro come il peso specifico di questi elementi muta nel tempo cioè per esempio un opuscolo di Carlo Morandi che non ho ritrovato e quindi non vi so dire esattamente l'anno ma è durante la seconda guerra mondiale sulla guerra europea in cui reinterpreta la guerra come l'affermazione di un europeismo fascista che distinguerebbe l'Italia appunto dentro l'asse dal nazismo citando a più non posso Giuseppe Mazzini Carlo Morandi era uno storico professionalmente più che ferrato come come è noto ora come mai appunto tutti questi richiami che poi forse è la vera domanda interessante tutti questi richiami fascisti a Mazzini allora ha citato stamattina Paola Salvatori questa interessante ma forviante forse definizione di qualcuno genealogie incredibili è una genealogia incredibile no cioè nel senso che tutte le genealogie sono incredibili è una rinvenzione del passato o certo che sì ma chi è che non reinventa il passato a cominciare da quella galantuomo di cui solo bene mi sentirei di dire che è stato il nostro ex presidente della repubblica Carlo Azzello Ciampi che ha inventato una storia nazionale che andava da risorgimento alla resistenza il fascismo non si parlava perché svolgeva un'opera di pedagogia nazionale come forse i presidenti della repubblica devono sempre fare benissimo applausi diciamo così è una rinvenzione del passato come ne sono esistite tutti conosciamo il famoso libro curato da Hobsbom e Ranger l'invenzione della tradizione in cui ci sono vari casi di reinvenzione del passato insomma la politica reinventa il passato ma appunto lo reinventa però secondo diciamo delle coerenze rispetto al proprio discorso diciamo non credo all'idea del supermercato diciamo al supermercato vero noi andiamo non è che entriamo dobbiamo fare la spesa prendiamo ciò che ci serve cioè che è compatibile con il nostro stile di alimentazione non prendiamo delle cose che arriviamo a casa sono per noi immangiabili quindi diciamo è vero che ci sono diciamo queste reinterpretazioni reinvenzioni ma non sono incredibili hanno una loro ragione qual è la ragione profonda diciamo anzitutto l'estrema diciamo varietà interpretabilità del pensiero mazziniano lungo diciamo così l'asse che collega il tema nazionale al tema sociale che è precisamente l'asse che collega tutte le componenti del fascismo che variamente miscelano nazionale e sociale quindi diciamo così Mazzini sembrava fatto apposta se mi passate l'espressione un po' così così e poi il fatto importantissimo che con Mazzini il fascismo ha a disposizione non a caso la usa una tradizione rivoluzionaria che non è evidentemente uno simoro una tradizione rivoluzionaria nel senso duplice senso di una tradizione rivoluzionaria autottona italiana ma anche di un richiamo alla rivoluzione che permette di stabilire quello che per ogni regime rivoluzionario sempre un riazionario è un problema che il rapporto ho io col passato per quanto posso insistere sulla novità sulla scesura eccetera per quanto molto insistesse sulla novità il fascismo però un qualche rapporto con il passato io perché vengo da lì insomma no lo devo stabilire con Mazzini c'era precisamente questo una tradizione rivoluzionaria che permetteva di collegarsi alla storia nazionale ma soltanto per dire che non andava bene che andava ripresa che faceva schifo come aveva detto Mazzini e noi abbiamo risolto esattamente quei problemi quindi la continuità la tradizione la rivoluzione la rottura sono particolarmente diciamo si trovano già preparati in qualche modo in quella che era stata la tradizione mazziniana repubblicana dentro la storia nazionale quindi se ripendiamo un binomio di un famoso libro che solo diciamo così le persone con qualche anno in più ricordano che non c'entra nulla con la storia il caso e la necessità direi che c'è più necessità che caso insomma nel richiamo nel richiamo a Mazzini necessità ovviamente va interpretata ma non è ecco nel senso che non è un caso non è un richiamo fatto tanto fatto tanto per fare certo ultimissima considerazione che dava un po' per scontata la potevo vedere all'inizio ma dico le fine è ovvio che resta fuori qualcosa altro che ovviamente no? cioè quando diciamo che appunto l'interpretazione fascista o le interpretazioni dei Mazzini del fascismo sono unilaterali ma non del tutto arbitrarie è ovvio che l'elemento dell'unilateralità sta nel fatto che resta fuori che cosa? resta fuori l'afflato umanitario evidentemente del mazzinianesimo che rendeva in ipotesi assurda un Mazzini redivivo poco compatibile con il fascismo però guardate c'è questa singolare circostanza su cui mi invito a riflettere e poi veramente mi taccio che io qui non ho parlato naturalmente dei richiami antifascisti a Mazzini nel corso del ventennio ma i richiami antifascisti a Mazzini sono riscontrabili quelli veri non quelli di Togliatti nella seconda guerra mondiale eccetera l'antifascismo mazziniano sostanzialmente chi è? Carlo Rosselli giustizia e libertà il mondo dei repubblicani fuoriusciti cioè quel mondo lì quel mondo che poi del resto viene da quell'esperienza che ha fatto un'esperienza nel mazzinianesimo nel repubblicanesimo italiano insomma e poi però basta diciamo l'antifascismo non è in maggioranza mazziniano se avessi fatto questo intervento su Mazzini antifascista si potrebbe benissimo fare mi sarei dovuto limitare a un settore molto chiaramente identificabile dell'antifascismo è soltanto nel fascismo che invece noi troviamo questa mi pare notevole peculiarità cioè che un po' tutto il fascismo un po' tutti i fascisti sono mazziniani insomma e qui concludo grazie anche questa relazione ricchissima di tanti elementi che a questo punto però sulla base dell'apertura della discussione sulla tua relazione discutiamoli appunto discutiamoli subito vediamo se ci sono sì io mi scuso scusate il treno poi dopo ma va bene va bene così no figurati ma va bene così perché appunto tantissimi elementi hai offerto e ti ringraziamo di questo quindi solo sulla tua relazione non voglio fare tantissime cose tutte giustissime però c'è questo aspetto del mazzinianesimo dell'impegno personale come una religione che è quello secondo me più importante nella concezione di Mazzini nel fascismo e poi il discorso che tu hai fatto sulla critica al risorgimento eccetera ti porta poi al partito d'azione la mia domanda è questa poi un'altra cosa questi personaggi legati a Mazzini ci siamo chiesti ma quanto si leggeva quanto leggevano Mazzini i ragazzi quanto Mazzini c'era nei licei e nelle scuole superiori perché l'enormità tanto 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 proprio tanto perché il sanno della mea attribuiva la scuola la sua scoperta ad un'altra di Mazzini citato prima io non ero un po' polemica con col partito d'azione alla fine poi tutti criticano l'Italia liberale no? e quindi ma volevo chiederti non sarebbe venuto il momento da che abbiamo scoperto abbiamo smesso l'abitudine negazionista e quindi siamo pronti a discutere del rapporto tra Mazzini e il fascismo e da che ormai ci ripetiamo come tu stesso hai detto all'inizio che queste cose sono note e arcinote non è il caso di fare un passo avanti in questo rapporto in queste ricerche e vedere invece io trovo troverei più produttivo vedere perché Mazzini viene citato nella polemica interna al fascismo cioè le citazioni di Mazzini e i riferimenti a Mazzini sono molte volte delle spie del dibattito ideologico interno alle varie correnti del fascismo più che presentare come dici tu Mazzini presente in tutte le componenti sarebbe interessante invece scovare andare a evidenziare e sottolineare come l'uso di Mazzini sia funzionale alla distinzione ideologica delle varie componenti del fascismo che la concezione mazziniana della nazione ripresa da Gentile fosse una polemica contro la componente nazionalistica del fascismo questo Gentile lo porta avanti cioè questa concezione etica spiritualistica della nazione è una polemica interna al fascismo contro la componente nazionalistica io aggiungerei fra le altri aspetti che il fascismo fa proprio è come dire l'antimaterialismo questo è perché la polemica antisocialista e antimarzista del fascismo si e anche di Gentile si sostanzia spesso di questa componente antimaterialistica che era presente fin da Dalmazzini degli anni 40 e anche quello che si potrebbe chiamare il doverismo non saprei come esprimerla ecco il doverismo cioè questa che era presente in Gentile ma che è presente cioè questa visione della vita da cui oggi siamo totalmente lontani che in qualche modo metteva al centro della vita i doveri dell'uomo però ricordo che i doveri dell'uomo erano stati resi un testo per la scuola già dal 1902 al 1903 da un ministro dell'Italia liberale da Nunzio Nasi Massone che aveva introdotto all'interno per cui anche da questo punto di vista ci sono delle linee di continuità insomma secondo me che emergono abbastanza sempre più spesso in questi interventi fra il mondo precedente al fascismo e il fascismo stesso insomma però è vero che questa che Mazzini diventa un segno di contraddizione che Antimori lo usa contro quelle componenti confessionali e reazionarie che erano emerse dopo il concordato di cui ha parlato Antonino cioè quindi contro i vari storici che rivalutavano Solaro della Margarita che rivalutavano le insorgenze borboniche eccetera eccetera ecco era questo che posso dire un altro poi me ne scordo le cose devi riaccendere forse ah si devo riaccendere no è acceso sì Roberto queste cose che hai detto poi siccome alcune di queste erano affidate a delle citazioni figurati ma lo stesso Mussolini cioè riforgendosi ai lavoratori appunto dei diritti ma anche i doveri hai voglia quante volte è la componente spiritualista sì nell'idea che il fascismo sia una fede una religione figuriamoci insomma ma ripeto io inviterei a leggere un testo che è poco considerato che è la dottrina del fascismo siccome è l'unico testo che abbia il crisma ufficiale è abbastanza interessante anche abbastanza interessante per l'inciso dell'evoluzione del fascismo perché uno si chiede lo so che va di moda a sostenere che diciamo così il fascismo è stato sempre antisemite che dal 19 dall'adunanza di Piazza Sansepolcro voleva fare le leggi razziali però allora uno si chiede ma perché il duce che forse le cose che cioè poteva scrivere quello che diavolo gli pareva cioè che cosa dice degli ebrei sulla dottrina del fascismo 1932 nulla non c'è nulla poi naturalmente quello fotografo del fascismo nel 1932 insomma l'avesse scritta qualche appena qualche anno dopo altro che se non avrebbe scritto delle cose certo però appunto questi temi spiritualisti lì ci sono le componenti sì ma certo la componente il nazionalismo è una componente sì è ovvio ma nel fatto che ho detto che ciascuno poi ho fatto quell'esempio appunto addirittura di Mazzini forse che è miscelato con Nietzsche in quella citazione di Olivetti è ovvio che si miscelano cose diverse però diciamo è diciamo nel tavolo diciamo del fascismo sappiamo tutti quanto siano potenzialmente divergenti queste componenti e come però forse l'elemento più strano dell'ideologia fascista ho questa impressione cioè che ci sono queste però tutti hanno la percezione che essere fascisti è qualcosa che a loro poi alla fine è chiaro forse probabilmente perché è chiaro diciamo così lo rende chiaro la presenza del duce stesso del regime certamente sì resta il fatto vediamo naturalmente le componenti però resta il fatto che non è a me nota una presenza in nessun altro periodo della storia d'Italia così pervasiva di di Mazzini insomma poi appunto ciascuno ha citato appunto il ministro Nasi nel 1904 i doveri dell'uomo nelle scuole naturalmente in edizione spurgata erano tolti tutti i riferimenti alla monarchia che pure quella diciamo così una bella ultimissima osservazione sto facendo a ritroso la cosa del partito d'azione sì è stata cioè è un po' su quel canale lì insomma di ripresa di temi mazziniani a cominciare come è evidente dal nome dal nome stesso insomma no cioè un problema di riprendere la rivoluzione italiana no di riformare gli italiani di riprendere c'è anche con degli elementi diciamo così su cui forse Mazzini non sarebbe stato in disaccordo insomma no e cioè c'è qualcuno che scrive nei quaderni di giustizia e libertà nel 1944 che bisogna questo è un paese che fa schifo gli italiani adesso la dico così bisogna cambiarlo ma sbrigiamoci prima di convocare appunto le elezioni cioè va fatta in un altro cioè la sottovalutazione dell'elemento come abbastanza ovvio insomma no cioè Mazzini non è una novità che non fosse Benjamin Costant insomma ecco se no ve lo dico io ma insomma lo sanno tutti quindi c'è l'elemento diciamo così elettorale elettoralistico non lo entusiasmava poi naturalmente la storia è più complicata la storia dei repubblicani ha fatto sì che rivendicassero ma questa è anche la storia dei socialisti insomma che vogliono fare la rivoluzione però intanto dacci il voto insomma no un piccolo inciso Mazzini se lo possono accreditare tutti che vogliono fare la rivoluzione ma guarda io adesso sì adesso direi ma sì l'unica cosa che mi viene in mente è che c'è un un famoso libro di Bonomi sulla Repubblica Romana e non mi ricordo chi forse in una lettera proprio a lui gli dice tu hai pubblicato questo bellissimo libro ma non se n'è proprio parlato appunto perché naturalmente si dà il caso che ci fosse ci fosse il re e quindi direi così al lume di naso posso sbagliare però direi che la Repubblica Romana appunto era precisamente ciò di cui non non si parlava insomma se non ci sono altre domande altri interventi io vi ringrazio ringrazio Giovanni soprattutto di questa sua anche discussione replica agli interventi non posso essere liberale come Leandro Polverini stamani quindi io vi inviterei una pausa break molto più breve di 20 minuti tanto so che ve ne prenderete 30 questa è l'ultima relazione di un pomeriggio di lavoro molto intenso che spero si concluda con la discussione l'ultima relazione sempre per le generazioni più giovani di Lorenzo Benadusi che insegna all'Università degli Studi di Roma 3 ha all'attivo come sapete gli studi di genere o di gender history sono non voglio dire appannaggio ma insomma sono molto ovviamente praticati dalle colleghe storiche invece Lorenzo ha il merito di essersi occupato di un tema anche molto nuovo innovativo della storia sociale e culturale dell'Italia fascista una storia al suo attivo una monografia sulla storia degli omosessuali il nemico dell'uomo nuovo oltre a tantissimi altri contributi anche sull'antifascismo su Ingrao su tante altre figure e la mia presentazione finisce qui perché questa sua relazione è anche l'unica che da adito ha un po' di suspense dalla grande guerra alla fantascienza il fascismo tra passato presente e futuro siamo tutti curiosi di sapere di cosa ci parli allora il titolo forse poteva anche cambiare visto che abbiamo terminato la relazione precedente con il discorso del 27 di Mussolini che viene pubblicato con il titolo Ieri, Oggi e Domani quindi Mussolini stesso poteva essere utilizzato come titolo di questa relazione e pensavo di iniziare per legarci all'invenzione della tradizione lo fa solo il fascismo lo fanno tutti che specificità c'è nel fascismo in questa appropriazione della storia a un brano molto famoso tratto da 1984 di Orwell che quasi in ogni capitolo ripete il concetto chiave dell'opera che è quella chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato e il protagonista ovviamente del romanzo uno dei protagonisti è questo addetto al Ministero della Verità che ha proprio il compito di modificare e falsificare la storia di distruggerla e rifabbricarla in base alle esigenze del momento a volte anche riprendendo una storia distrutta dimenticata che può diventare invece utile in altre circostanze e quindi trasformando il passato attraverso il controllo di fatto sulla memoria delle persone e sui documenti e questo però come dicevamo è un aspetto non solo del fascismo quindi forse quello che è interessante vedere è come il fascismo tende a riscrivere questa storia e quanto c'è di specifico in questo quindi nella visione di Orwell ovviamente questo ha la specificità di tutto questo è proprio un controllo totale sulla possibilità di avere una memoria e un passato e quindi di poter cancellare radicalmente tutto ciò che ha a che fare con una memoria e un passato che si vogliono eliminare e quindi memoria del il rapporto anche del fascismo tra passato presente e futuro e come il fascismo cerca di sintetizzare questi elementi a questo proposito forse l'emblema o uno delle a mio avviso degli aspetti dove più in maniera più chiara si può vedere questa sintesi tra passato presente e futuro è l'obelisco del foro Mussolini ora molto importante a Roma per i romani e i romanisti in quanto è l'accesso privilegiato per lo stadio olimpico fra un po' lo sarà meno perché avremo il nuovo stadio e quindi forse perderà questa centralità però era altrettanto centrale proprio per questo messaggio molto importante che dava di legame tra passato presente e futuro il passato è rappresentato ovviamente dall'obelisco di ispirazione egizia e quindi un legame a una celebrazione antica ma anche dalla decisione di realizzarlo con un unico blocco proprio come nell'antichità e quindi è un vero e proprio monolite che viene trasportato sul Tevere eretto e inaugurato in occasione del 29 di ottobre del 1932 quindi all'indomani del decennale e ecco la scritta Dux Mussolini rappresenta proprio il presente del fascismo allo stesso tempo però rappresenta anche il futuro perché presumibilmente anzi quasi sicuramente al suo interno nel basamento lo sapremo solo quando sarà distrutto è conservato il cosiddetto Codex Fori Mussolini e cioè uno scritto in elogio del fascismo e di Mussolini composto in latino da uno studioso di letteratura cristiana antica che è Aurelio Giuseppe Amatucci e ovviamente un messaggio per il futuro e per i posteri dove si raccontano le gesta del fascismo sin dalle sue origini e soprattutto poi invece il programma futuro che i giovani del non si sa quale epoca quale era dovranno realizzare e quindi il rapporto con il tempo è molto importante per il fascismo proprio Bottai diceva la preoccupazione principale di Mussolini è proprio questa lotta incessante con il tempo questa necessità di controllare il tempo e soprattutto di inverarsi nel futuro il problema della durata e del tempo è fondamentale per il fascismo innanzitutto perché è un movimento un'ideologia nuova e quindi a necessità di legittimarsi anche attraverso il passato ha la preoccupazione di essere un qualcosa di effimero che può finire e terminare nell'arco di una breve stagione l'immediato dopoguerra il periodo di eccezionalità post prima guerra mondiale e quindi il passato anche come momento e possibilità invece di diventare e assumere una idea di inevitabilità di un percorso storico quindi il fascismo come realizzazione di un Italia in cammino per citare Volpe e allo stesso tempo però anche una preoccupazione di rimanere troppo vincolati al passato Orano scriveva a proposito dei precursori che abbiamo tanto citato scriveva il paravento dei precursori stiamo attenti ai precursori perché i precursori ci obbligano anche a un presente e un futuro di un certo tipo e quindi senza arrivare alla rottura netta con il passato auspicata dai futuristi vi è nel fascismo questa doppia volontà da una parte di realizzare un qualcosa di completamente nuovo ma allo stesso tempo anche invece di dare continuità a un percorso e gli storici del fascismo tra cui ad esempio Griffin hanno rappresentato questa immagine questo rapporto ambivalente tra passato e futuro con l'idea di Mussolini come un arciere che ha la freccia del tempo nelle sue mani e la punta verso il futuro quindi verso il davanti ma è girato verso all'indietro proprio per cercare ispirazione e individuare la traiettoria dove deve essere lanciata la freccia non è un'immagine di Griffin ma in realtà già qualcuno molto prima di lui aveva ci aveva dato una rappresentazione molto simile ed è il futurista Volt che in Nova et Vetera immagina e ci descrive il fascismo come un movimento futurista e reazionario il fascismo come un giano bifronte che guarda al passato e che guarda al futuro quindi questa ambivalenza e poi vi dicevo il problema del tempo che è un problema legato anche a quello di cui parlava oggi Giardini cioè la velocità il tempo per il fascismo è la necessità di durare nel tempo e anche una necessità di connotare il tempo presente e quindi la preoccupazione di Mussolini dice sempre Bottai è quella di fare mille cose il più velocemente possibile con un estremo dinamismo proprio per non lasciar scorrere il tempo in vano e quindi per dare anche un senso di eternità al fascismo un fascismo che sa e che può connotare di sé il ventesimo secolo sono numerosi i richiami alla durata di Mussolini inizialmente nel ventisette dice pensavamo che bastassero cinque anni non bastano più e dobbiamo moltiplicare questo cinque per dodici e nel più avanti dirà il fascismo ha bisogno di almeno un altro decennio o quindicennio per poter realizzare le sue cose e i suoi obiettivi e soprattutto il Mussolini inizia a immaginare quindi la possibilità di dar vita a un nuovo tempo a una nuova era e quindi a una nuova storia che inizialmente parte dal 1915 e che poi invece inizierà a partire proprio dal 28 ottobre del 1922 come poi è molto evidente anche nel cambiamento del calendario che viene introdotto e cito forse la frase che meglio rappresenta tutto questo che è proprio la confessione di Mussolini a De Begnac e Mussolini dice il nostro pensiero lavora per il domani di cui ogni nostro atto presente già era l'avvenire al quale ieri c'eravamo con decisioni diretti il nostro atto era la nostra dichiarazione di fede in un domani costruito secondo la nostra volontà e qui entra in gioco un altro elemento importante cioè la volontà l'idea che il tempo e lo spazio e la storia può essere creata in base all'azione alla volontà individuale e quindi da questo punto di vista è molto evidente la contrapposizione con Croce la polemica Mussolini-Croce dove Mussolini dice Croce è un imboscato della storia cioè è colui che racconta male in maniera vergognosa e non obiettiva la storia mentre noi siamo quelli che la facciamo la storia e che quindi siamo la storia in atto la storia che si realizza nel presente quindi in questo c'è ovviamente la matrice antistoricista del fascismo che è sintetizzata a mio avviso in maniera perfetta dal libro di Tilger storia antistoria nel quale lui stesso mostra ormai come l'epoca presente è un'epoca antistorica la storia non serve più a nulla perché la storia non serve a spiegare il presente ma è il presente che serve a spiegare la storia e quindi c'è stato e si è attuato un totale ribaltamento dei valori le persone non hanno più interesse a studiare la storia che è un sapere ormai dell'ottocento ormai morta per sensibilità contemporanea scrive Tilger non è più il passato che spiega e condiziona il presente è piuttosto il presente che condiziona il passato che nel caos amorfo degli infiniti eventi la cui congerie riempie secoli morti si sceglie quelli nei quali riconosce se nel passato il suo passato oggi l'attenzione è tutta al presente e non c'è nessuna nostalgia e interesse per il passato e poi va avanti spiegando l'importanza che ha il fascismo in questa visione potremmo dire attualistica della storia e soprattutto dicendo secondo questo punto di vista la storia quindi è la storia delle grandi personalità e il fascismo ci insegna a fare la storia delle grandi personalità perché sono loro che fanno la storia e soprattutto ci porta all'idea quindi di un presente che diventa storia questa è una citazione di Paola che usa proprio la categoria di presente storia ma che ci dà in maniera chiara proprio l'idea che il tempo presente sta diventando storia in atto e quindi sta realizzandosi una nuova era e una storia intesa anche come storica cioè eccezionale del tutto diversa per alcuni versi dal passato le considerazioni di Burkhardt che faceva Kugler nel 1871 compiacendosi con lui perché aveva rifiutato la cattedra di storia contemporanea sono qui totalmente ribaltate ancora una volta perché invece il processo un po' ce lo diceva Riccardo oggi è quello proprio di arrivare alla storia contemporanea Volpe è un esempio Salvemini è un altro esempio Volpe che diceva attenzione a fare la storia del presente a tuffarsi nella storia del presente perché ci si annega e proprio Volpe invece fa questo procedimento lo stessa cosa diceva Croce attenzione a fare la storia contemporanea e poi abbiamo invece questo esito ma i Pieri è un altro esempio Volpe Salvemini Omodeo e molti altri e quindi una storia del presente che diventa a questo punto anche soprattutto una storia del momento come anche qui che dà la sensazione di un'era nuova e di qualcosa di nuovo che sta accadendo e che ci spinge quindi a spiegare questo cambiamento che è la Prima Guerra Mondiale quindi l'evento per antonomasia che spiega questa torsione verso il presente è il cambiamento e la cesura possiamo dire epocale proprio rappresentata dalla Prima Guerra Mondiale da questo punto di vista ci sono molti studi proprio sul rapporto tra fascismo e guerra basta citando Gentile tutti i suoi studi sulla trincerocrazia l'importanza della guerra come eredità che poi viene trasmessa e divulgata dal fascismo però la guerra stessa è una storia sfuggente che non facilmente il fascismo può ricondurre a unità e quindi questa appropriazione monopolistica del ricordo della guerra ha delle difficoltà dovute innanzitutto al fatto che la guerra l'hanno combattuta molte persone la loro memoria le loro esperienze sono diverse dovuto al fatto che la guerra ha visto una spaccatura tra interventisti e neutralisti e ha visto un movimento interventista molto eterogeneo molto complesso con diverse anime e quindi la rappresentazione stessa della guerra rischia di non poter essere univoca vi ho portato a proposito Roberto non me ne vorrà perché parlare di viareggio davanti a un viareggino è molto pericoloso ma insomma oggi rischio e qui siamo di fronte innanzitutto alla la prima polemica importante anche su cosa si celebra della prima guerra mondiale pensiamo al non mollare e la decisione di non celebrare il 24 maggio del 1925 e in generale di non celebrare il 24 maggio perché ci si dice l'interrogativo è perché celebrare il 24 maggio quali sono i paesi che celebrano l'entrata in guerra quello che va celebrato è la fine della guerra il 4 novembre noi scrivono non siamo i cannibali come fascisti siamo antifascisti perché non siamo cannibali noi festeggiamo il 4 novembre e non il 24 maggio e il 24 novembre però diventa a questo punto anche invece una celebrazione del fascismo e quindi una sovrapposizione tra guerra e fascismo tanto che le due date 28 ottobre e 4 novembre tendono a coincidere quindi di fatto a realizzare un unico festeggiamento e una sovrapposizione qui siamo di fronte al caso invece di una rappresentazione locale della guerra che sfugge da un controllo centrale l'opera è ideata da Lorenzo Viani e è il monumento ai caduti di Viareggio e viene ideato e immaginato nel 1921 ed è proprio l'impronta chiara della forte tradizione di Viani precedente alla prima guerra mondiale e cioè di rappresentare un'umanità sofferente è il liberato mondo che in questo caso viene rappresentato proprio attraverso il corpo di un marinaio e di un fante quindi di un soldato dell'esercito che danno in eredità al contadino le sementa della fiamma ideale che dovrà permettere il riscatto degli umili e quindi la guerra come momento di passaggio per coloro che sono stati in qualche modo sconfitti o che comunque sono stati sono le classi sociali diseredate che invece possono avere attraverso proprio anche la guerra un'occasione di riscatto il monumento del 21 verrà realizzato inaugurato solo nel 27 proprio perché sin da subito appare inappropriata questa rappresentazione della guerra il legame e l'anarchismo di Viani viene visto con sospette quindi tutto questo alimenta una forte ostilità proprio nei confronti della realizzazione del monumento e in occasione poi della seconda guerra mondiale apparirà inaccettabile un monumento del genere proprio perché è considerato un monumento sovversivo di matrice sovietica di ispirazione sovietica e quindi ci sarà una richiesta accolta di distruggere il monumento di Viani nel 40 ovviamente c'è ancora e Roberto ce lo conferma e c'è ancora perché nel 41 probabilmente per volontà dello stesso Mussolini il monumento non verrà distrutto e quindi si deciderà di lasciarlo un altro esempio evidente è il monumento a Battisti abbiamo visto che il monumento della vittoria non è il monumento a Battisti è quello che ha fatto vedere Alessandro stamattina cioè il monumento di Bolzano il monumento alla vittoria perché in questo caso l'appropriazione da parte del fascismo di Battisti viene osteggiata in primo luogo dalla moglie di Battisti che scrive con fermezza una lettera durissima al duce e che non accetta quindi questa appropriazione e viene celebrato un battista antifascista addirittura nel rifugio Battisti sulla Presanella e soprattutto questo monumento viene anche qui a un iter lunghissimo che vede poi dal 16 addirittura al 35 poi la realizzazione e che quindi diventa anche qui un qualcosa che sfugge al controllo del regime questo invece è un monumento che adesso è a Genova davanti all'edificio per i mutiliati invalidi ma che doveva essere invece un monumento per innalzato sul monte San Michele e che non verrà mai innalzato proprio perché invece in questo caso la volontà centrale ne vieta la realizzazione il monumento doveva essere una sorta di via crucis che saliva sulla montagna fino a culminare nell'immagine di un fante che viene abbracciato da Cristo alle sue spalle e Mussolini scrive non possiamo accettare un'immagine della guerra come sacrificio come olocausto come via crucis la guerra è un evento vittorioso e glorioso e quindi un'immagine pagnucolosa non può essere ammissibile l'unica cosa che rimarrà è proprio questo cioè l'immagine dell'invalido e del cieco che viene però collocato in un altro contesto e con tutt'altro significato il monumento è di Baroni e l'idea di una visione unica e centrale della guerra ovviamente al suo momento culminante nella mostra del 32 su questo abbiamo ci sono moltissimi studi e moltissime ricerche quindi non mi soffermerò su questo ma quello che è importante dire è che anche questa visione che poi negli anni 30 riesce in qualche modo invece a diventare monopolistico comunque a diffondersi sempre più quindi di una appropriazione da parte del fascismo o della guerra ha un altro rischio importante che ci ricollega al rapporto col tempo e cioè quello di rendere questo evento un evento eterno metastorico e a questo punto anche un evento privo di significato per il presente quindi monumentalizzare il passato lo dice benissimo Monelli dove dice basta con mettiamo i catenacci e la guerra basta con questa gente che in qualsiasi luogo va sulle montagne a merendare pensa che ci sia una zolla sacra e basta con i comitati per le onoranze basta con chi mi chiede le reliquie della guerra come si faceva per il risorgimento basta con le madri di qualche mutilato portate a spasso in giro per il paese in qualche palcoscenico di fronte a una ventina di idioti noi la guerra la celebriamo andando a bere tra noi vecchi combattenti e soprattutto basta con questo tanfo di museo che sali dalle parole guerra e reduci noi non vogliamo rimanere inchiodati al passato e non vogliamo puzzare di stantio non vogliamo essere figurine di cera nel museo degli orrori quindi basta con questo passato che diventa un passato eterno e e questo ci aiuta forse anche però a capire questo sforzo quindi che di eternizzazione del passato come la risposta anche a questo sforzo sia invece una proiezione verso il futuro e quindi a fianco anche a questa eternizzazione del passato c'è qui forse utilizzo impropriamente il titolo di un capitolo di Giardina sulla romanità che mi è sembrato però carino anche proprio per il film che ne è scaturito cioè ritorno al futuro visto che ci introduciamo alla fantascienza e cioè l'idea che il nuovo e il futuro invece può diventare un trampolino di lancio verso proprio nuove realizzazioni l'idea di rivoluzione continua che è comunque presente nel fascismo e che in tirmettenza porta anche all'idea di cancellare il passato e di rompere i legami col passato e quindi il richiamo alla seconda ondata il richiamo a un terzo tempo il richiamo a nuovi obiettivi da raggiungere l'impero la razza la guerra la diffusione mondiale del fascismo e tanto che Zunino parla dei fascisti in questo caso in questa loro spinta verso il nuovo li definisce come dei fanatici dell'apocalisse quindi una visione millenaristica che è proiettata interamente verso l'avvenire e che quindi cerca legittimità in questo caso non più nel passato ma cerca legittimità attraverso le cose che si devono ancora chiompiere e quindi attraverso gli obiettivi da raggiungere e quindi quello che il fascismo farà quello che il fascismo realizzerà a prescindere poi se questi obiettivi siano o meno ben delineati ben definiti nelle loro tappe ma anzi più sono forse irrealizzabili e più diventano eroici e quindi anche meritevoli di essere compiuti e veniamo quindi proprio al rapporto col futuro che a mio avviso è un rapporto con la fantascienza anche se la fantascienza implica delle grosse problematiche proprio perché è un futuro che immagina un qualcosa di altro quindi che rompe di per sé la fantascienza ogni legame col conformismo la fantascienza è di per sé un fantastico che fa riferimento a un altro un altro temporale un altro come luogo un altro come creature diverse come universi paralleli quindi un qualcosa che non può essere ricondotto e che anzi che serve proprio come radicale contestazione a volte del presente e quindi una fantascienza intesa come delirio sociologico cioè come tentativo di mettere in luce problemi del presente e non a caso il legame più forte in questi due libri lo vedete con la fantascienza è proprio soprattutto il legame futurista ma non è vero che non esiste una fantascienza fascista a lungo si è pensato che non esistesse una fantascienza fascista perché la fantascienza è un prodotto prevalentemente americano e quindi la chiusura del fascismo vedremo che questo non è vero c'è però una fantascienza che ci rappresenta in maniera problematica il rapporto col presente con il passato e con il futuro anche con il passato sarebbe interessante uno studio visto che ci sono molti antichisti sulla romanità nella fantascienza da Guerre Sterlari ad Asimov a Conan il Barbaro sono moltissimi gli esempi che possiamo trovare di questo in questo caso la proiezione sul futuro è una proiezione che si lega a delle preoccupazioni del presente qui abbiamo l'uomo senza sesso di figlia che è una trilogia che si basa proprio sul rapporto della società con la dimensione sentimentale e sessuale e in sintesi il messaggio di figlia in questi tre libri è quello di un separamento della distinzione tra uomo e donna perché con l'avvento della società meccanica non ha più senso una divisione tra uomo e donna la forza fisica e la potenza ormai è un requisito non più necessario neanche all'uomo perché sono le macchine a svolgere queste funzioni e quindi si creerà quell'uomo senza senso senza sesso quindi come sostantivo neutro un uomo universale un uomo che non ha nessuna differenza tra maschio e femmina però finisce con l'ultimo sentimentale del 1927 nel quale invece torna proprietontemente la natura intesa in questo caso non più come sentimento che deve essere superato e abbandonato ma come carica istintiva sessuale che anche di fronte alla meccanicità del mondo torna a imporre il bisogno del diremo dell'amplesso e in chiave differente è un tema che aveva affrontato che affronta anche Bacchelli nella città degli amanti in cui in questo caso però la visione della sessualità e dell'orotismo viene visto come una distopia e quindi questa città immaginifica in un nel Texas in un luogo inesistente nel luogo irraggiungibile la città di speranza di giorni di mare dove la libertà sessuale è praticata e dove tutte le esperienze sessuali dalla confusione alla dei sessi alla libertà sessuale sono ampiamente praticate e dove il culto del dell'eros libero e sfrenato è alla base e quindi affarismo ed erotismo si legano in questa denuncia in realtà moralista della modernità intesa come di fatto immoralità e la città degli amanti termina con l'assurdo in cui nessuno riesce ad amarsi gli unici due amanti sono il giovane italiano e la giovane italiana che si sono innamorati durante la disfatta di Caporetto e che sono costretti a lasciare la città degli amanti governata da Pisciavino perché di fatto la città è ormai diventata un regno della degenerazione e neanche più dell'amore la città degli amanti di Bacchelli è importante lui immagina altri luoghi immaginifici in altri romanzi tra cui anche una città degli universitari forse l'ho voluto citare forse proprio perché mi sembrava una riflessione un po' carina sul mondo universitario che cita cioè che viene definita da Bacchelli la città di Ladronia che combatte contro i Valle Magnini perché è considerata nemica per eccellenza di questi incolti e la città invece di Ladronia quindi degli universitari grazie all'inganno e alla menzogna riesce a imporre la sua volontà sulla diciamo su quest'altro mondo alternativo e e oltre però alla dimensione quindi legata al costume e alla società nel durante il periodo fascista si sviluppa anche la fantascienza intesa proprio come fantapolitica cioè immaginare un fascismo dopo il fascismo immaginare una realtà oppure un'altra storia cioè una storia che è andata diversamente rispetto a come la a come realmente è accaduto nel caso della fantapolitica il romanzo più significativo è sempre è di volte e si intitola La fine del mondo è ambientato nel 2247 è ambientato a Roma dove a San Pietro si è insediato il Parlamento degli Stati Uniti d'Europa l'Italia ha vinto una seconda guerra mondiale e quindi è diventato il fulcro centrale del nuovo assetto mondiale addirittura e il Papa è stato cacciato Papa Silvestro XX è stato cacciato sulle sponde della Niene vicino a Tivoli in una collinetta dove quattro seguaci fanatici e invasati lo seguono sull'altra sponte del Tevere c'è un partito che è il partito futurista che si chiama partito dinamico anche qui sono pochi invasati che stanno sforzandosi in tutti i modi per creare un'astronave e andare a conquistare Giove l'Italia è governata da due forze che hanno il controllo quindi di fatto dell'Europa che sono un partito comunista ma ormai stemperato della sua carica rivoluzionaria e borghese e la massoneria e ovviamente il partito dinamico combatte contro questa unione tra comunismo e massoneria e il libro termina con un'immagine anche qui penso la prima immagine forse figurata del fungo atomico e cioè termina con questi uomini del partito dinamico che riescono finalmente a creare quest'astronave cercano di arrivare su Giove non inizialmente non riescono arrivare su Giove e sganciano una bomba su Roma i rari passanti che in quel mattino piovoso erravano sulle terrazze pensili del Pincero videro il cupolone sollevarsi balzare nel cielo come un guscio d'uovo e ricadere in pioggia di rottami dietro le colonne dell'alta faccia crollate la città eterna vacillò ondeggiando come una nave in tempesta un enorme pino un gigante nero di fumo e polvere levava la sua forma minacciosa fino allo zenith al di sopra del luogo dove fu San Pietro quindi finale apocalittico con la distruzione di Roma l'esempio però forse più bello e più divertente è questo lo zardo non è morto dei dieci per gli amanti di Wu Ming non si sono inventati niente perché in questo caso i dieci li vedete nomi qui ben espressi ci sono tra i maggiori letterati italiani del periodo quindi è un romanzo a venti mani chi indovina l'ordine dei capitoli che non sono firmati vincerà mille lire scusatemi chi ne indovida tutti tranne uno cinquecento quindi già questo crea una fortissima attenzione per il romanzo perché il pubblico vuole partecipare vuole vincere Marinetti è abile nel trovare strumenti di promozione per le sue opere e lo zar non è morto non è altro che immaginare lo zar non più Nicola III non più ucciso durante la rivoluzione bolshevica ma ancora vivo e nascosto in Manciuria e un giovane fascista è riuscito giovane bello e forte è riuscito a trovarlo e a questo punto tutta la storia potrà cambiare perché grazie alla presenza dello zar il bolshevismo e lo stalinismo potranno essere sconfitti l'alleanza possibile minacciosa tra comunismo sovietico e potenziale comunismo cinese con 500 milioni di uomini che possono diventare tutti comunisti e conquistare il mondo potrà essere fermata grazie al fascista Pierre degli Orti che quindi un James Bond del 29 che combatte contro ovviamente una spia russa altrettanto cattiva come quelle della Spectre cioè con Ivan Zellerin ed è cogiudato dalla invece spia bella e coraggiosa che si chiama Oceania Ward quindi già qui immaginate quello che è tutta la rappresentazione e e e ovviamente finisce con il tentativo anche qui la chiesa ha un ruolo perché si scopre che in realtà questo questo zar non è lo zar ma è un militare aiutante dello zar che e si capisce però l'importanza di far finta e di far credere che è realmente lo zar e nell'ultima riga la sorpresa generale è che finalmente un non mi ricordo se l'innunzio comunque un addetto al Papa decide di avvalorare l'idea che questo che questo diciamo sosia se realmente lo zar e quindi grazie all'imprimatur del Vaticano tutto il mondo sa che lo zar non è morto e scoppia una nuova rivoluzione russia che abbatterà da lì si immagina il comunismo e ovviamente la tradizione si lega moltissimo anche all'idea di mondi alternativi giambo è molto noto nei primi dell'ottocento si e però ci sono anche una fantascienza divulgativa che ha enorme successo il riformatore del mondo è una un romanzo anche qui che immagina un futuro invece dove la tecnologia e la scienza servono per creare di fatto un regime totalitario e il riformatore e il romanzo di avventure è una raccolta della sonzogno di romanzi che escono mi sembra 159 numeri di fantasy e di fantascienza una lira che hanno un enorme successo un filone importantissimo è quello ovviamente dei fumetti il primo SK1 che è forse il primo fumetto che si ispira in qualche modo a Flash Gordon quindi che cerca di creare un Flash Gordon italiano nel 1934 e però forse il più bello e anche il più importante è questo che viene pubblicato nel Natale del 1936 sui tre porcellini che è Saturno contro la Terra e che è considerato un capolavoro nei fumetti della fantascienza tanto che verrà tradotto nel 1940 anche in America avendo un enorme successo anche in America questo è dovuto anche soprattutto al fatto che il fumetto è ideato e realizzato da Zavattini e non disegnato ma su soggetto di Zavattini e quindi si immagina qui dei marziani Rebo e il cattivo che poi ha avuto un influsso molto forte su molti film di fantascienza e romanzi di fantascienza dei giorni nostri qui vedete una nube nera che viene mandata per sconfiggere la Terra l'immagine di creature che vengono ingigantite come mostri per distruggere la modernità in questo caso anche della Terra e che termina con il trionfo ovviamente dello scienziato e del filo dello scienziato italiani che tornano in patria acclamati e accolti come eroi e ora la nostra parola d'ordine deve essere ricostruire l'Italia culla della civiltà del mondo ha vinto e darà l'esempio come sempre di cui miracoli sono capaci l'ordine e la disciplina quindi una rappresentazione che in ogni puntata torna con quest'ultima vignetta in cui c'è un richiamo a un messaggio di attualità sulla scienza sulla politica sulla civiltà e quindi che è proprio la di chiusura di ogni episodio l'episodio arriveranno fino al 1947 quindi avrà un enorme successo e abbiamo l'avventuroso che realizza anche delle storie di Giambro stesso la più forse la più bella è quella di Robottino proprio perché anche qui si immaginano poi dei futuri che sono dei futuri che noi abbiamo molto a mente grazie ai film di fantascienza un episodio è Robottino e la sua passeggiata nello spazio e è del tutto simile all'immagine del film di Kubrick 2001 di Stia dello spazio in questo caso è Robottino che rischia di perdersi nello spazio e per concludere arrivo però al fatto che se esiste un'utopia e una distopia come abbiamo visto nel caso dell'amore e della sessualità esiste un'utopia e una distopia anche nei confronti della meccanicità del futuro e quindi del rapporto con la modernità è il futurismo stesso a sviluppare al suo interno l'anti-macchinicismo noi abbiamo solo l'immagine di Mussolini scusatemi di Marinetti come saltatore della macchina ma Marinetti è anche colui che ci dà l'immagine invece di un mondo di macchine che è un mondo molto simile a un mondo diabolico infernale negli indomabili Marinetti immagina una città delle macchine dove di fatto il clima è insopportabile le luci sono continuamente non permettono di dormire veramente simile a Blood Runner quindi il mondo delle macchine appare dipinto a tinte infernali e gli uomini stessi sono assoggettati alle macchine e descritti quindi come privi di ogni capacità di azione e quindi come larve umane ma chi rappresenta meglio di tutti questo proprio l'angoscia delle macchine quindi lo spettro di un uomo che non è più uomo ma viene governato dalle macchine e è Vasari che in due libri che sono il primo l'angoscia delle macchine e in Raun narra proprio un mondo futuro in cui le macchine hanno trasformato l'uomo in un automa e se la prende con gli stessi futuristi scrive ad esempio a Marinetti io vedo io vado al di là del futurismo perché mentre da un lato esalto la macchina dall'altro ne provo orrore e perché perché la macchinizzazione distrugge lo spirito quindi lo spirito è morto anche l'uomo è morto o resta l'automa senza vita senza desideri senza gioie che ci vuole a scrivere come fa Marinetti o macchina meravigliosa creatura io sono tutto preso nei tuoi ingranaggi nel tuo fermento ecco questo è banale Marinetti stesso l'ha superato e va superato le macchine sono nel caso dell'angoscia delle macchine governano l'intero mondo attraverso la macchina cervello una macchina che controlla attraverso dei raggi che sono inculcati nella mente delle persone attraverso dei caschi i loro pensieri quello che devono fare li dirige e di fatto li priva di ogni forma di individualità e la macchina cervello è quella che vince che alla fine infatti nel momento in cui l'inventore cerca di distruggerla e qui siamo veramente a 2001 l'odissea nello spazio al contro gli astronauti e la macchina cervello alla fine vince mentre in 2001 l'odissea nello spazio perdeva perché fulmina attraverso il casco il casco con cui controlla gli uomini tutti gli uomini e li epitifrica e finisce il romanzo con il mondo controllato dalle macchine la scena termina con le macchine che incominciano a intonare con le sirene un canto angoscioso lugubre e staziante il raun ovviamente finito invece la sostanza è simile ma qui c'è un primo provveditore del servizio sessuale che addirittura riesce a creare gli uomini senza la possibilità senza la necessità che si geri di un rapporto sessuale che crea nuova vita e quindi la ginomacchina ha il controllo totale della razza e della vita e della morte delle persone la ginomacchina però finalmente viene distrutta in questo caso e quindi l'inventore insieme a pochi sopravvissuti vengono catapultati in una isola deserta e quindi il trionfo dell'uomo automa antispirito è in qualche modo la contrapposizione tra civiltà meccanica e civiltà borghese ma l'esito finale è una vita pre-borghese allo stadio primitivo in un'isola deserta e quindi veramente chiudo forse in tutto questo ci sta quello che poi a noi è molto familiare soprattutto grazie alla rappresentazione dell'automa e del controllo totale della società da parte delle macchine nella visione per esempio di Blade Runner e nella famosa fase terminale del film in cui in questo caso non ci sono ci sono dei replicanti anche qui che si generano vengono creati da un inventore e quindi io ne ho viste cose che voi uomini non potreste immaginarvi navi da combattimento in fiamme a largo dei bassini d'oriente e ho visti raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser e tutti questi momenti andranno perduti come lacripe nella pioggia grazie grazie Lorenzo e anche in questa relazione naturalmente ci sono molti spunti e elementi per riflettere connettere pensare anche a nuovi suggestivi orizzonti di ricerca io apro subito la discussione non commento niente mi perdonate ma preferisco dare la parola ad altri e se c'è poi uno spazio minimo magari dico anch'io due cose io vorrei semplicemente prendere spunto dall'interessante relazione di Lorenzo Benadusi per ringraziare un po' tutti i relatori della giornata di oggi perché secondo me uno dei due scopi che c'eravamo prefissi organizzando questo convegno che era quello appunto di avere una visione lunga della storia utilizzata dal fascismo si è realizzato e credo che si sia realizzato proprio in modo esemplare prendendo in considerazione tutte le relazioni dalla storia greca alla fantascienza perché rifacendomi un po' a quello che ha detto prima il professor Belardelli che adesso purtroppo non c'è e a quanto poi ci siamo detti anche in pausa caffè con lei e ovviamente sono d'accordo insomma credevo penso di essere stata spero di essere stata chiara nella breve introduzione che ho fatto questa mattina sono d'accordo con l'idea che la la storia nel regime fascista sia utilizzata un po' con quella tipica vocazione onnivora che è sempre stata riconosciuta a Mussolini ora non ricordo chi disse che Mussolini utilizzava la storia con questa vocazione onnivora cioè prendendo quello che un po' gli faceva comodo fra virgolette io sono d'accordo anche con quanto ha detto oggi il professor Belardelli cioè che per utilizzare la metafora del supermercato quando entriamo in un supermercato prendiamo quello che ci interessa ma non quello che ci capita a caso e quindi per rifarmi poi alla questione delle genealogie incredibili sono in qualche modo delle genealogie con dei salti temporali sono incredibili perché a volte noi troviamo nello stesso momento per esempio l'esaltazione di Marx o di Mazzini e mettere insieme due personaggi del genere all'occhio dello storico ha dell'incredibile ma la cosa che secondo me è più incredibile è questa fusione dei tempi storici che ha ben sottolineato Lorenzo che permette durante tutto il vent'anni fascista ma anche che cosa ho toccato nei vent'anni precedenti la marcia su Roma ha permesso a Mussolini di utilizzare con la stessa capacità insomma con la stessa sottolineare con la stessa importanza tempi storici tanto differenti come la Roma Antica le varie fasi della Roma Antica la storia medievale il risorgimento il futuro insomma presente passato e futuro che si fondono in un unico grande tempo storico quindi volevo semplicemente puntualizzare appunto questi due aspetti e ringraziarvi nuovamente per questi interventi io vorrei sapere se può tornare sul problema del rapporto tra una fantascienza fascista in senso stretto quindi di contenuti fascisti anche come ha di cui ha fatto qualche esempio e in termini più generali la fantascienza durante il fascismo cioè che rapporti di forza ci sono tra questi due diciamo ideal tipi certo schematici che però credo vadano tenuti distinti in secondo luogo se ha dei dati sull'effettiva circolazione quindi sulla successo editoriale di queste opere anche di critica non so se ha già qualche riscontro a questo riguardo e poi la terza domanda ma qui io essendo veramente ignorante dell'argomento forse dico qualcosa di banale mi ha molto colpito il fatto che appunto la distopia della fantascienza statunitense si radica in una civiltà delle macchine che è in atto la distopia di cui ci ha parlato di cui ha fatto qualche esempio per quanto riguarda l'Italia fascista paventa una civiltà delle macchine che è più una minaccia esterna forse che non si radica nei fatti nella realtà dell'Italia dell'epoca e in più appunto è un pericolo rigettato a livello ideologico dal concetto egemone che diceva lei cioè dal fatto che il fascismo solitamente a parte i suoi connotati più futuristi si caratterizza per il rigetto della civiltà delle macchine e per il primato dello spirituale allora procedo per ordine cioè la prima domanda è abbastanza impegnativa che è poi il problema del rapporto tra fascismo e storia d'Italia quindi c'è il fascismo ma c'è anche l'Italia quindi quanto c'è di fascismo nella fantascienza e quanto invece la fantascienza procede a prescindere dal fascismo io non vi ho parlato dei romanzi di fantascienza più chiaramente fascisti forse il romanzo proprio più dichiaratamente fascista perché immagina Mussolini a 70 anni che celebra i successi del fascismo nel 1950 è le cinque taglie di Lucio D'Ambra dove la quinta Italia è proprio quest'Italia del 1950 e dove lì c'è tutta proprio la rappresentazione di un fascismo futuro e c'è un legame fortissimo con le altre quattro Italia la prima Italia è quella risorgimentale la seconda è quella dell'Italietta post-risorgimentale la terza è quella della guerra la quarta è quella del fascismo la quinta è quella del futuro e quindi c'è in questo caso proprio una proiezione di tutta la storia del fascismo fino ad arrivare al futuro poi c'è un tentativo e un controllo del fascismo sulle opere di fantascienze anche di questo non vi ho parlato ad esempio attraverso la censura che è un altro aspetto importante non ho avuto modo di farlo vi cito solamente l'esempio più noto più importante e anche più significativo che è l'uomo forte di Corrado Alvaro censurato proprio per per alcune sue connotazioni che richiamano a un totalitarismo che controlla totalmente l'individualità e le persone e che quindi Corrado Alvaro è costretto a pubblicare con un'avvertenza specificando che il romanzo è ambientato in un'Unione Sovietica anche se in tutto il romanzo non c'è un nome russo e non c'è mai un riferimento alla Russia e quindi di tutto questo anche non vi ho parlato ce ne sono anche opere teatrali censurate quindi c'è molto anche su questo che ci fa capire come il fascismo cerca di intervenire sulla fantascienza e poi c'è il problema della ricaduta che lei mi chiedeva di queste opere sulla società italiana e quindi il problema della ricezione di queste opere io non insomma il romanzo dei dieci è considerato è un romanzo di enorme successo ed è continuato ad essere un romanzo di enorme successo perché è diventato poi anche un romanzo per collezionisti quindi chi lo aveva lo considerava un qualcosa di incredibile di unico ora è stato ripubblicato qualche anno fa e quindi ha perso anche tutto l'appeal che ha avuto ma è un enorme successo ed è recensito anche durante gli anni del fascismo il romanzo è del 29 quindi questo è importante sottolinearlo e quello che ha più successo e di cui invece abbiamo più chiaramente l'idea della ricaduta sono i fumetti i fumetti della fantascienza dell'avventuroso vengono venduti in 500.000 copie quindi qualcuno rilegge e qualcuno rilegge e qualcuno e qualche ragazzo si fa un'idea di avventura di mondo di cose anche attraverso quei fumetti e penso di aver esaurito sulle domande che mi aveva posto si posto non c'è bisogno di avermi tornato per fare una domanda di Francesco perché mi è molto colpito la tua relazione la tua roba anche di interesse perché noi siamo stati abituati a leggere il fascismo su base di una dialettica di un'articolazione di un fascismo movimento di un fascismo regine dalla relazione che ci ha fatto tutti invece messo questa lunga permanenza del problema della rivoluzione all'interno della storia del fascismo però poi ci hai anche il proposto diciamo così parinacci che riflette su questo tema allora volevo sapere da te se come dire se questo questo tema deve continuare una rivoluzione incompiuta che non è giunta diciamo così a termine se la possibilità di riprendere l'opera là dove era stata interrotta in qualche modo altera diciamo la lettura tradizionale che fa poco con un fascismo che tende alla stabilizzazione un fascismo che invece impaziente quando è prende la rivoluzione interrotta o no questo volevo sapere la mia sensazione è che sia un po' la compiutezza di un processo di evoluzionare nel senso che a mio avviso queste figure degli anni 30 diciamo perdere parinacci perché parinacci è un fascista da prima ora ma tutta questa nuova generazione che entra sulla scena degli anni 30 che a mio avviso è quella per certi versi più interessante perché è quella che nasce con il fascismo che si sviluppa all'interno del fascismo e quindi ha il fascismo come proprio orizzonte politico e nulla più nella sostanza beh questa mi sembra convinta del fatto che la vicenda della rivoluzione invadita della rivoluzione interrotta dell'italietta liberale che in fin dei conti aveva detuffato quelle che erano le grandi aspettative del movimento nazionale questo è un problema finalmente risolto ed è risolto in grande stile nel senso che ha fatto sì che il fascismo divisi un punto di riferimento all'interno del XX secolo anche rispetto ai precedenti rivoluzionari che nessuno nega la cosa affascinante è che il 1789 viene visto come un momento della modernità solo che il fascismo la supera supera addirittura anche la rivoluzione francese e quindi fonda per eccellenza una modernità che è iniziata nel 1789 ma anche qua la confidenza soltanto con il regime questa è un po' la mia edizione vediamo se ci sono qualche altro intervento sicuro prendo la parola mi auto della parola io non oso nemmeno commentare le relazioni mi sentite lo stesso non oso commentare le relazioni di oggi ma anche quelle di stamani ho imparato molto questo lo scopo di un convegno no? di aprirci a tante curiosità a tanti confronti mi sentirei di fare due altre osservazioni brevissime uno è che anche con la tua grazie alla tua grazie anche a altri abbiamo un po' forse dimenticato che il rapporto tra il fascismo e la storia è il rapporto tra il fascismo movimento rivoluzionario ideologia ibrida come diceva De Francesco o regime con tutte le sue strumentazioni le sue invenzioni questa volta non ideologiche ma concrete di una strumentazione statale parastatale partitica associazionistica tutta volta appunto alla ricerca del consenso ma senza dimenticare le necessità di prevenire e reprimere il dissenso cioè inibendo come dittatura con forti pulsioni totalitarie qualsiasi manifestazione di pluralismo ovviamente politico ma anche culturale il rapporto tra il fascismo e la storia italiana perché il rapporto anche con la dimensione internazionale europea naturalmente della storia è più incerto e non posso aprire una discussione anche con con Riccardo Rao ma a me pare che che pure ha introdotto un nuovo elemento la signoria come una specie di protostato nazionale e quindi abbiamo parlato di stratificazione di civiltà abbiamo parlato di nazione abbiamo parlato di popolo mettiamoci anche lo stato io ho un dubbio da sempre da quando ero studente universitario che il fascismo abbia fatto male e con grande difficoltà i conti almeno con un momento della storia italiana che è il rinascimento perché col suo universalismo e cosmopolitismo si poteva provare a italianizzarlo ma insomma fino a un certo punto era più facile italianizzare le repubbliche marinare oppure il risorgimento oppure la romanità e cose veramente un po' più lontane con questa ossessione però che il regime ha avuto sempre di retrodatare l'Italia anche quando come sappiamo tutti la romanità non è l'Italia gli etruschi non sono Italia nella storia dell'Italia in Audi si parla del paese chiamato Italia ma chiamato da chi? cominceranno Virgilio e poi Dante a chiamarlo Italia l'umile Italia con significati fra l'altro tra loro diversi come intendevano Virgilio e Dante richiamo in questo la lezione delle bellissime considerazioni finali di Candeloro nella sua storia dell'Italia moderna in cui torna al passato ancora più remoto di quell'Italia che aveva ricostruito l'Italia moderna appunto dal 700 al 1950 quindi la dimensione forse comparata nello studio anche dei fascismi ci serve indirettamente per ulteriormente non so se arricchire o complicare il nostro quadro di riferimenti metodologici e concettuali perché il fascismo sta dentro il ventesimo secolo perché utilizza il radio perché utilizza il fumetto perché utilizza il cinema e quindi non è solo la velocità attribuita allo scatto del saluto fascista fra l'altro a 45 gradi mentre Hitler mi ha sempre colpito che rattrappiva il suo braccino o lo stendeva paternalisticamente a 90 gradi sulle folle osannanti con un gesto diciamo implicitamente un po' più un po' meno veloce insomma del saluto del saluto fascista o romano che dir si voglia quindi questa dimensione anche di comparazione del nostro soggetto fascismo movimento regime eccetera ci può servire in molte in molte dimensioni e seguendo anche questa bellissima suggestione o non suggestione cioè analisi approfondimento di una diacronia lunghissima e l'ultima osservazione che volevo fare è che sono stati qui evocati molti nomi e ci siamo dimenticati di dire che tutti questi nomi hanno operato a Pisa piccolo particolare Bottai ha creato le sue istituzioni le cattedre le discipline di studi di diritto comparativo e ha insegnato come docente universitario per chiara fama a Pisa Candeloro l'ho nominato io nella sua ultima parte di magistero ha insegnato a Pisa come Claudio Pavone Mazzini mi pare che abbia vissuto a Pisa ma come ha vissuto anche Mazzini tanto recuperato è stato Mazzini dal fascismo quanto dimenticato nei suoi ultimi anni pisani quando è morto praticamente esulo in patria e prima ancora di tutti questi nomi ovviamente gentile di cui nessuno ha detto una cosa che tutti sappiamo e che forse va anche detta che ha animato moltissime attività politico-culturali editoriali eccetera ma ha anche fatto vivere alla normale alla scuola normale di Pisa una sua stagione tutt'altro che secondaria non so se un ex normalista come Alessandro Natta quando definì Gentile un corruttore sia stato animato solo da una vis polemica molto dura e ci sono tanti di studi fra questi nomi c'è anche un altro insigne normalista come Delio Cantimoria naturalmente e però dalla normale di Pisa sono usciti anche appunto Alessandro Natta gli antifascisti o uno dei pochi livornesi che ha amato tantissimo Pisa come Carlo Azzeglio Ciampi allora è un piccolo omaggio da parte mia permettetemi questo piccolo vezzo ma le poche o tante volte che ho varcato anche questa sede c'è stata in me sempre una certa emozione io non ho mai studiato qui in normale non ho mai studiato a Pisa credo che questa insomma in conclusione sia anche la sede logistica e istituzionale adatta per svolgere questo bel convegno vi saluto vi ringrazio moltissimo dell'attenzione con cui avete seguito tutti i lavori e ci diamo appuntamento naturalmente secondo programma e secondo orari svizzeri che raccomando a domani quindi arrivederci grazie a tutti stamattina abbiamo tanto presiedo io spero di comportarmi bene di non essere troppo condiscendente verso gli oratori perché abbiamo dei tempi un po' stretti stamattina c'è un argomento molto particolare tocca il mondo della scuola e dell'istruzione un tema che è centrale nel fascismo basta pensare ai litigi che ci sono stati tra chi si occupava di scuola pensate all'opposizione che Gentile ha avuto da parte di altri fascisti dalla riforma del 23 fino alla carta della scuola di Bottai per cui è un nodo oggi noi parleremo di due livelli della scuola manuali scolastici e concorsi universitari un argomento che oltre a essere importante nel fascismo si proietta anche nel dopo come abbiamo visto ieri parlando dei griscisti o degli antichisti allora io comincerei con questa relazione di uno studioso che conosce molto bene queste cose Adolfo Scott di Luzio che insegna all'università di Bergamo e che ha preparato un intervento sui manuali di storia nella scuola fascista vedete che l'argomento ancora rientra nel tema generale del convegno autori temi figure Adolfo a te la super parola mezz'ora avremmo deciso ti va bene? il condizionale è un'autorizzazione a delinquere posso anche sparare a un certo punto dopo aver avuto dei presidenti gentilissimi bravissimi avete una spesa di gen cara sarò nei tempi innanzitutto vi ringrazio per questo invito ringrazio Andrea Giardina e per aver pensato a me per questa relazione mi devo scusare perché io poi non riesco a restare fino alla fine devo rientrare a Milano mi scuso con tutti voi mi scuso in particolar modo col collega e amico Roberto Pertici e preciso che il tema che mi era stato proposto è molto ampio e che io arbitrariamente cercherò poi di ottemperare a questo arbitrio negli atti mi sono come dire ho circoscritto il mio intervento al tema diciamo così della storia contemporanea e in maniera particolare della disputa intorno al al risorgimento che impegnò diciamo così autori scrittori negli anni 30 e 40 allora l'insegnamento della storia nella scuola italiana durante il fascismo in modo particolare la disputa intorno al risorgimento costituiscono uno di quegli argomenti complessi che sono incauta e sommaria formulazione del titolo di una relazione da presentarsi a un convegno è in grado di tenere insieme senza apparenti problemi quello che infatti può apparire come la messa a fuoco di un problema di carattere generale è in realtà l'indicazione di un conflitto o quantomeno di una tensione che coinvolge due spazi istituzionali molto diversi quali sono appunto la scuola e l'ordinato svolgimento di un programma di studi e il dibattito militante spazio quest'ultimo ulteriormente scomponibile in ambiti molto diversi tra loro come la produzione accademica l'intervento divulgativo degli storici la pubblicistica di propaganda due o più ordini del discorso dunque con le proprie regole di produzione e di organizzazione i propri destinatari e contesti con attori sociali differenti ma anche due e più modi di mettersi di fronte al passato di leggere storicamente il passato e quello nazionale in modo particolare questa distinzione che ha avuto e ha avuto negli studi sul fascismo tra istituzione e movimento può essere formulata in un modo diverso il fascismo infatti non fu come è noto solo movimento e nel farsi regime operarono fattori di stabilizzazione e normalizzazione che riguardarono con i rapporti politici la produzione culturale ed estetica la scrittura e la testualità tuttavia il fascismo anche quando si pensa come regime e non più solo come movimento porta con sé nei riguardi del passato una insofferenza una fretta di sbrigarsi degli impacci della storia che ne segnala una notevole difficoltà a collocarsi nella vicenda pubblica della nazione nello svolgimento della sua storia recente questa difficoltà è legata alla irrinunciabilità da parte del regime mussoliniano a rappresentarsi come un potere nuovo portatore inevitabilmente di una frattura difficilmente mediabile sul piano per essere più precisi due tendenze si muovono lungo tutta la durata del ventennio mussoliniano da un lato la richiesta avanzata a cominciare dal discorso con cui Giovanni Gentile inaugura nel 1925 l'Istituto Fascista di Cultura di riallacciare dopo il necessario trauma della rivoluzione i legami con l'Italia di prima una richiesta tra l'altro esplicitamente motivata sulla scorta dell'esempio storico della riflessione post-risorgimentale di Pasquale Villari dall'altro una logica culturale che al contrario opera nel solco della frattura rivoluzionaria mitizzandola la enfatizza e la approfondisce generando una tensione irriducibile con tutto ciò che viene prima letteralmente così inteso il fascismo non ha un passato reale essendo il passato italiano un errore e come tale appropriabile a costo di troppe amputazioni il caso del risultato a questo proposito emblematico quale risorgimento quali orientamenti politici fino a che punto ad esempio l'internazionalismo mazziniano il principio di autodeterminazione dei popoli sono compatibili con l'espansionismo e con l'aggressività nazionale del fascismo il risorgimento come fatica della nazione nell'accezione di Giuseppe Lombardo Radice della sua prospettiva pedagogica redentiva la consapevolezza del passato per un riorientamento del futuro in che termini è compatibile con l'immagine marmorea del condottiero italiano propagandata dal regime sono questi solo alcuni degli interrogativi che si posero nella pubblicistica educativa degli anni 30 e che possono essere letti questa è la mia proposta come sintomi di una difficoltà culturale di più ampia portata rappresentando il vertice al di là del quale tutto smette di essere come prima la forza che incarna il cambiamento come mito che fa del suo essere nuovo il tema della propria autocomprensione il regime viene così indotto dalla sua stessa logica culturale a trasformare il passato che cessa di essere una storia e diventa un vero e proprio magazzino dell'immaginario nazionale il gigantesco repertorio di scena cui attingere di volta in volta le maschere più adeguate al momento all'interno del quale selezionare e combinare i tratti perenni di un passato fisso irrigidito ed eterno il pastiche e la spazializzazione del passato sono i due procedimenti per mezzo dei quali un regime incapace di riconoscere un legame attivo con ciò che lo precede nella vicenda collettiva della nazione prova a darsi uno sfondo cerca senza trovarla una profondità temporale tutto questo istituisce la scuola con la sua organizzazione curricolare prima ancora con la base ideologica che ne sostiene e legittima l'operato all'interno di un campo di tensioni che rappresenta l'aspetto più rilevante del processo di fascistizzazione degli anni 20 e 30 al di là degli omaggi formali del riferimento obbligato alla storia il campo della cultura fascista si struttura sulla base di una tensione tra storia e mito tra distanza e memoria che a dispetto di ogni proposito di normalizzazione fa del sapere accademico il presidio di uno spazio non completamente appropriabile dalla logica culturale del regime un vero e proprio limite del progetto totalitario mentre non riesce a sottrarre il progetto di una storia dell'italia contemporanea alla minaccia di una incombente delusione culturale come ad esempio il caso del progetto di divulgazione della storia d'italia di giochino volpe all'interno di questa cornice la prima questione che si pone a chi voglia considerare l'insegnamento e la didattica come spazi specifici della ricerca per una storia culturale del fascismo riguarda innanzitutto la reperibilità delle fonti la cultura italiana ha mostrato generalmente uno scarso interesse per il documentario della nostra scuola gli archivi dell'istruzione sono rari e la sua memoria è essenzialmente affidata alle carte dell'amministrazione centrale e periferica sul piano storiografico ad esempio la consapevolezza dell'importanza della natura documentaria e testimoniale di oggetti come i manuali scolastici è piuttosto recente e proviene prevalentemente da studi stranieri in prima linea francesi in generale si può aggiungere che alla tematizzazione dei problemi metodologici connessi alla costituzione di questi testi come oggetti specifici della ricerca storica solo raramente e spesso per ritrovamenti fortuiti corrisponde una disponibilità sporadica del materiale documentario considerati per lunga tradizione autorevolmente riprodotta dall'antiscolasticismo della pedagogia idealistica oggetti minori i libri di testo sono stati abbandonati all'oblio istituzionale all'incuria e alla disinvoltura degli usi particolari degli studenti la loro estrema deperibilità dunque la loro rara se non attraverso il ricordo di autori accademicamente prestigiosi ha sottratto alla storia della scuola insieme alla fonte e alla trama delle relazioni politiche sociali e culturali che le sono connesse la possibilità stessa di immaginare una storia dell'istruzione come storia dell'insegnamento per non parlare di una storia degli insegnanti in questo quadro assume dunque una grande rilevanza il progetto di ricerca intrapreso alla fine degli anni 90 dal gruppo di studiosi raccolto intorno a Giorgio Chiosso che sull'esempio francese del service d'histoire dell'educazione dell'instituto nazionale dell'instituto pedagogico ha intrapreso la monumentale opera di censimento dell'editoria scolastica ed educativa italiana dell'ottocento progetto divulgato con l'acronimo di Teseo il risultato è stato il censimento di 601 editori tipografi attivi tra il 1744 e il 1899 meticolosamente identificati per nome luogo durata numero e funzioni dei diversi collaboratori autori vicissitudini tecnologiche ed economiche oltre ad una dettagliata bibliografia ne è derivato un campione editoriale messo insieme con cura che fornisce un saggio dell'evoluzione dell'editoria scolastica ed educativa lungo tutto un secolo e nella sua varia articolazione dai catechismi ai libri di grammatica ai manuali scientifici nel corso del primo decennio del primo decennio del nuovo secolo il progetto è poi proseguito con il censimento degli editori scolastici ed educativi del primo novecento accanto a questo gigantesco repertorio delle fonti corredato di una sezione introduttiva di inquadramento storico-storiografico della vasta e incerta area dell'editoria scolastica si sono affiancati nello stesso giro di anni tentativi di ricostruzione più specificamente saggistico-storiografici mi riferisco innanzitutto al libro di Giovanni Genovesi dedicato nel 2009 ai manuali di storia in Italia dal fascismo alla Repubblica un progetto dunque che fin dal titolo coglie il nesso costitivo tra insegnamento della storia e fratture storico-politiche tra ordinamento scolastico e conflitto ideologico la scelta di Genovesi è molto diversa dall'approccio visto in precedenza di fronte alla variegata produzione manualistica l'autore infatti sceglie di raccogliere la vicenda narrata intorno ad autori e testi giudicati esemplari e così il fascismo è innanzitutto il libro di Arrigo Solmi il risorgimento italiano 1814-1918 pubblicato però nel 1919 dalla Federazione di Ispirazione Socialista Riformista delle Biblioteche Popolari nella collana della cultura popolare dove tra il 1916 e il 1920 escono altri quattro volumi dalla tessitura di Luigi Tonelli al Medioevo nel primo millennio dopo Cristo di Gioacchino Volpe il libro di Solmi è foscoleianamente una storia della rinascita della virtù guerriera degli italiani di guerre che approdono alla grande prova della prima guerra mondiale la data di pubblicazione del libro di Solmi assolutamente decentrata rispetto alla vicenda vera e propria del regime contraddice la pretesa dei genovesi di fare di questo libro un esempio della manualistica scolastica di epoca fascista e dovrebbe semmai renderci più avvertiti circa le modalità di appropriazione per mezzo del quale il fascismo annette ed integra al proprio codice materiali concepiti largamente al di fuori del perimetro storico della sua esperienza più congruo l'altro esempio fornito da Genovesi tratto però dalla manualistica della scuola elementare dopo l'instaurazione del libro unico di Stato tra il 1929 e il 1930 il libro per la quinta elementare di Alfonso Gallo ci restituisce un procedimento tipico della narrazione fascista della storia a livello di divulgazione popolare la galleria degli eroi dei condottieri degli artisti e dei santi che nella loro successione i tratti stabili dell'italiano eterno incarnato dal tipo mussoliniano è un modo di funzionare del codice narrativo del fascismo di cui dovremo tenere ancora conto intanto tra i materiali ulteriori disponibili per una storia della manualistica scolastica di epoca fascista va senz'altro segnalato il fondo degli scolastici della biblioteca nazionale braidenze recuperato dalle cantine dell'istituto restaurato e catalogato alla fine degli anni 90 nell'ambito di un progetto che ha coinvolto la cattolica di Milano mi riferisco di qui in avanti alle note con cui Rossella Coarelli presenta il fondo degli scolastici della braidenza del volume che ne pubblica il catalogo dalla scuola all'impero per gli anni del fascismo esiste un gruppo consistente di quasi 500 titoli pubblicati in prevalenza in area lombarda e appartenenti soprattutto alla seconda metà degli anni 30 e dei primi anni 40 frutto cioè di una distribuzione che al di là dei uomini dal caso e dallo stato di estremo abbandono in cui si trovavano al momento del loro reperimento si organizza intorno a due poli della bonifica libraria e della scuola media unica grosso modo tra De Vecchi e Bottai la composizione della raccolta riflette innanzitutto lo spostamento in direzione dell'istruzione secondaria della produzione editoriale per la scuola determinata alla fine degli anni venti dall'introduzione del testo unico per la scuola elementare perché la stampa dei testi fu assunta dall'istituto poligrafico dello stato mentre invece il grande affare del testo unico fu la distribuzione assegnata ai editori e questo determinò diciamo sì la crisi della centralità della produzione scolastica toscana e il trasferimento dell'asse del mercato editoriale verso la Lombardia il potere di Mondadori ai danni di Bempora si instaura appunto a partire dall'introduzione del testo unico nel 1929 1930 questo passato della storia scolastica italiana va sottolineato l'esplicita volontà che la vocazione scusatemi la composizione della raccolta riflette innanzitutto lo spostamento in direzione dell'istruzione secondaria della produzione editoriale per la scuola determinata alla fine degli anni 20 dal testo unico per la scuola elementare ma è frutto anche della più generale politica scolastica del fascismo negli anni 30 a cominciare dalla radicale ristrutturazione del vasto campo dell'istruzione professionale ricondotta alla competenza del ministero della pubblica istruzione tra il 1928 e il 1930 perché per lunga tradizione risorgimentale parte dell'istruzione tecnica e tutta l'istruzione professionale apparteneva diciamo così alle cure amministrative del ministero dell'agricoltura e del commercio e poi del ministero dell'educazione nazionale Mussolini alla fine degli anni 20 decide per trasportare questo intero settore alla gestione del ministero ben più politico che era il ministero dell'istruzione della pubblica istruzione questo passaggio dicevo prima nella storia scolastica italiana va sottolineato l'esplicita volontà che la vocazione realizza di un più stretto controllo politico di un settore che coinvolgeva vasti strati popolari e piccolo borghesi periferici affida ai manuali un ruolo importante di indirizzo e di inquadramento ideologico di settori strategici per la costruzione del consenso al regime in generale il regime concepisce manuali scolastici a partire dalla seconda metà degli anni 20 nel quadro della fascistizzazione e come si è detto capovolgendo l'atteggiamento che aveva caratterizzato la precedente impostazione gentiliana come strumenti culturali politici e sociali con lo scopo di formare una nuova coscienza nazionale e di creare il tipo dell'italiano nuovo come recitava un decreto emanato il 18 mese 1928 che dettava disposizioni relative ai libri di testo per la scuola elementare e per i corsi integrativi di avviamento professionale non c'è da stupirsi allora della rapidità con cui i libri di testo si allineano alle richieste ideologiche del regime nel quadro della ridefinizione dei programmi dell'insegnamento secondario agli inizi degli anni trenta tanto per le scuole professionali nel maggio del 1933 quanto per l'istruzione media nel giugno del 1933 il tratto distintivo di questa produzione editoriale non è evidentemente visto che è scontato il suo conformismo testimoni di una fase in cui il regime attraverso la spinta impressa la diffusione dell'istruzione professionale prova a staccare la scuola secondaria dalle basi della sua fondazione gentiliano risorgimentale i manuali riflettono innanzitutto le aporie all'interno delle quali si batte la lingua fascista nel momento in cui si prova a mettere in forma l'esperienza storica degli italiani la nuova cultura che i testi per la scuola sono chiamati a rappresentare si pensa letteralmente nei termini del fotomontaggio della combinazione delle immagini della connotazione nostalgica del presente attraverso stili desunti direttamente dal magazzino dell'immaginario romano classicista la scomparsa di un referente reale e concreto nel rapporto che il fascismo intrattiene con il passato della nazione ridotto ad una catena di precursori fatti giocare contro il proprio tempo spinge gli autori dei libri di scuola sulla base tuttavia di una logica culturale che come vedremo va ben oltre il perimetro di questa produzione a forzare i limiti del tempo storico trasformando letteralmente il presente in uno spazio in cui si incontrano i diversi elementi di cui è fatta l'immagine dell'italiano eterno il forte investimento ideologico nell'insegnamento scolastico della storia trova un corrispettivo istituzionale a metà degli anni trenta nella riorganizzazione e nella centralizzazione degli studi storici in Italia in corrispondenza della nomina di Cesare Maria De Vecchi alla direzione dell'educazione nazionale nella figura del ministro si accentrano la guida dell'istruzione e quella delle istituzioni della ricerca storica in Italia la presidenza della giunta centrale per gli studi storici quella della società nazionale per la storia del risorgimento come è stato ricordato De Vecchi durante il suo mandato la Minerva avrebbe fondato l'istituto italiano per la storia antica ricondotto come quelli per il medioevo e per l'età moderna e contemporanea sotto la direzione della giunta centrale insieme alla rete diffusa delle deputazioni e delle società di storia patria si delinea in questo modo un sistema istituzionale che modificando sensibilmente l'impianto idealistico mette le strutture della ricerca storica al servizio delle esigenze di inquadramento ideologico del fascismo l'incompetente energico voluto da Mussolini alla guida della pubblica istruzione assolve così al suo compito di ridurre la frammentarietà del campo degli studi allineandole alle nuove richieste del potere politico e la scuola reagisce con prontezza la nuova logica culturale del fascismo viene esplicitata ad un alto livello di consapevolezza da uno degli autori censiti nel fondo scolastico della Braidenze Guglielmo Strata professore di storia della scuola secondaria superiore per Strata autore dell'Italia imperiale un testo del 1942 le antologie storiche devono essere considerate come pagine di vita devono essere drammatiche emotive umane ma è soprattutto dell'impiego delle immagini che l'autore mostra una chiarezza non comune circa le nuove tecniche di scrittura e di comunicazione necessarie del tipo di legame che il fascismo stabilisce con la sua base sociale di consenso ciò che rende l'immagine particolarmente efficace sostiene Strata non è la sua spettacolarità connessa all'uso del colore ma il fatto di poter montare accostandole epoche storiche differenti anche le illustrazioni scrive hanno una loro dialettica questa è una citazione sono insieme documentazione e confronto di epoche sintesi delle faticose conquiste dell'uomo attraverso il lavoro e l'intelligenza per questo professore di storia il passato è innanzitutto una vasta collezione di immagini immagazzinate nel museo di un'eterna italianità da questo punto di vista il fascismo è propriamente una cultura spaziale che più che per mezzo del tempo ama pensarsi come un'epopea della terra pensate questa singolare definizione si trova in decreto per i programmi scolastici di qui l'importanza che negli anni 40 il rapporto con la guerra e il fascismo annette all'insegnamento della geografia la guerra come realizzazione della natura del fascismo in quanto regime della mobilitazione permanente ha comuna storia e geografia rompendo così il nesso gentiliano con l'insegnamento della filosofia sul terreno della funzione rappresentativa come le pagine delle antologie di storia dovevano essere drammatiche vive ed emozionanti secondo strata la geografia è chiamata nelle parole di un altro decreto del 30 luglio 1940 a farsi carico di un compito analogo lettura delle carte geografiche e lettura delle pagine vive ricche di impressioni preferibilmente di autori che conoscono quel che descrivono si ritrovano alla base della fruizione di una disciplina integrata all'insegnamento come momento costituito del progetto educativo fascista cito l'Italia e il suo impero dovranno essere presentati agli alunni nella loro connessione vitale e nel loro comune destino questi movimenti nella produzione editoriale per la scuola appartengono corrispondono a quello che ho ritrovato nell'analisi della letteratura educativa degli anni trenta in quella sua sezione particolare che assume il passato come oggetto del proprio progetto pedagogico mi permetto qui di richiamarmi al mio libro l'appropriazione imperfetta pubblicato dal mulino ormai vent'anni fa nel 1996 una linea molto netta mi pare separare dal punto di vista della politica della lettura il progetto di Giuseppe Lombardo Radice dalla scuola del leggere degli anni trenta nel quadro della pedagogia idealistica la rappresentazione del passato era ancora legata ad una prospettiva che all'inizio ho definito di tipo redentivo la scuola elementare nella scuola media degli anni venti il risorgimento e non la romanità imperiale come avverrà nel decennio successivo sta al centro di una proposta educativa in cui la versione la visione retrospettiva del passato prossimo della nazione ha essenzialmente per scopo riorientare il presente in vista della conquista di un futuro pienamente rinnovato il fascismo si inquadra in questa prospettiva di riscatto collettivo sulla base di questi presupposti la riforma gentile allestisce il catalogo delle biblioteche scolastiche e delle proposte di lettura rivolte alla gioventù è bene anche notare che si tratta di letture e non di manuali scolastici nel quadro di una pedagogia in cui il rapporto con il libro è ancora un rapporto individuale sottratto non solo alla disciplina di quello che gli idealisti definivano con disprezzo lo scolasticismo ma allo controllo ideologico dello stato educatore il manuale al contrario trasferisce la lettura dallo spazio privato all'aula è per usare le parole di una circolare di bottai dei primi anni 40 lettura collettiva e non lettura individuale ebbene non perdere di vista questo slittamento nei significati di un gesto che qualifica in maniera radicalmente diversa il rapporto tra soggetto e istituzione al passaggio tra anni 20 e 30 l'impianto idealistico viene progressivamente sabotato sotto la spinta delle esigenze ideologiche connesse alla costruzione corporativa della società fascista la nuova scuola fascista pretende di superare la scuola borghese restaurata da gentile si coglie tuttavia solo un aspetto della questione se si resta sul piano della disputa ideologica tra gentiliani e antigentiliani nel quadro del progetto sociale del regime il punto di rimettere dei fatti è strettamente legato al rapporto con il passato la proposta pedagogica idealistica non era in grado di soddisfare le esigenze educative del fascismo perché implicava un'assunzione globale del passato italiano la funzione che ho richiamato redentiva dello studio della storia nella prospettiva della riforma del 1923 implicava infatti la capacità da parte dello studente di confrontarsi con l'insieme delle questioni e dei conflitti veicolati dal passato italiano proprio perché sulla base di questa rinnovata consapevolezza della profondità storica del presente i giovani fossero in grado di elaborare l'eredità storica collettiva costruendo un orizzonte nuovo ma questo implicava appunto l'assunzione di tutto il passato della nazione quello in cui era possibile identificarsi e quello che al contrario agli occhi della nuova Italia poteva rappresentare una fonta l'obbligo morale di guardare che ad esempio Giuseppe Lombardo Radice ritrovava nella proposta pedagogica risorgimentale di De Amicis e che estendeva come principio costitutivo la formazione della biblioteca ideale della gioventù confliggeva con l'esigenza fascista di trasfigurazione del presente della sua trasformazione in un catalogo delle immagini nella comprensione di questo passaggio non conta dunque solo come si è detto il primato corporativo dell'esperienza collettiva rispetto al privilegio borghese della sfera individuale privata ma l'intera concezione del rapporto al passato subisce una significativa modificazione e questo è il caso che ho illustrato attraverso la polemica di Volpe contro le mitiche origini celebrate dal fascismo nel 1933 Gioacchino Volpe pubblica per Treves un libro per ragazzi storia degli italiani e dell'Italia raccontava sinteticamente la vicenda nazionale da Roma al fascismo sulla base però di un escamotaggio narrativo la storia nella forma di un racconto fatto da un nonno ai suoi nipoti questo permetteva all'autore di imprimere al libro un ritmo che si faceva via via più serrato ed emotivamente coinvolgente man mano che il piano della storia veniva a sovrapporsi a quello della memoria del narratore l'assunto implicito era che la storia che contava veramente era in relazione allo specifico problema educativo degli anni 30 il passato che intratteneva un rapporto vivente con l'orizzonte avanzante del presente sulla falsariga di una continuità storica assicurata dal richiamo generazionale insomma di una storia come affetto familiare il nesso risorgimento prima guerra mondiale definiva il terreno effettivo della nuova educazione nazionale un nesso caratterizzato dalla progressiva immersione alla luce della storia del nuovo attore collettivo della vicenda italiana tale da trasformare l'impulso francese e napoleonico in una compiuta vicenda nazionale alla maniera di Volpe ed era chiaro fin dal titolo il libro spostava infatti e drasticamente il centro affettivo della storia dalle figure isolate dei condottieri secondo il cliché diffuso nella letteratura per ragazzi e nel testo unico della scuola elementare al protagonista collettivo gli italiani sempre e rigorosamente con la lettera maiuscola questa attitudine storiografica di Volpe ricavava il suo contesto specifico dalla polemica ingaggiata fin dalla seconda metà degli anni venti contro la pubblicistica storica in funzione propagandistica del regime già nel 1920 nelle prime pagine dell'Italia in cammino Volpe metteva in guardia il lettore dall'andare alla ricerca delle mitiche origini della storia recente del paese un decennio più tardi nel 1939 ritornava sull'argomento sì ho finito ritornava sull'argomento addirittura nella storia del movimento fascista perché non ci fossero dubbi al riguardo cito ogni fatto per quel che gli era essenziale e proprio apparteneva al suo tempo di conseguenza conveniva lasciare in pace i precursori si chiamino essi Giovanni delle Bande Nere o Gian Galeazzo Visconti o Giulio Cesare la proposta di Volpe era chiarissima nessun progetto concepito sulla base della divulgazione del passato sarebbe stato pedagogicamente efficace se avesse soppiantato ciò che appartiene al tempo con ciò che invece è proprio di una collezione di immagini trionfali il tempo dunque e non il magazzino dell'immaginario il suo fluire non la sua disposizione spaziale era il discrimine individuato dallo storico nella costruzione della sfera culturale del fascismo anche in questo caso sulla base di presupposti ideologici differenti dall'idealismo pedagogico degli anni 20 il problema era costituito dall'attitudine che si assumeva nei confronti del passato di fronte alle ragioni dello storico non stavano tanto le differenti regole della scrittura propagandistica quanto la difficoltà di darsi una tradizione sulla base del suo rifiuto nel nome della grandezza eterna della grande bellezza italiana finito grazie di una perfezione con il tempo interessantissimo l'argomento che hai trattato c'era tutto avete capito no? il conflitto tra Gentile il progetto di Gentile e poi Bottai e tutto quello che ne comporta De Vecchi un personaggio col quale non c'è una gran simpatia è quello che sistematizza poi tutte le scuole storiche io ho trovato particolarmente interessante e dovrebbe essere un po' ampliata la parte sull'educazione professionale l'educazione professionale tecnica che vi è lasciata sempre un po' da parte no? perché non è si occupa del liceo dei manuali di storia eccetera e invece è quella che forma la maggior parte della forza lavorativa italiana no? questo controllo della scuola professionale è un passaggio rispetto al discorso che si faceva sulle istituzioni molto importante perché passa dal ministero dell'economia 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 agli interni o all'economia o all'economia nazionale il ministero dell'agricoltura è quello che diventa nel corso del tempo il ministero dell'economia nazionale nel 1929 questo l'intero diciamo si comparto dell'istruzione professionale viene trasferito per decisione personale di Mussolini al ministero della pubblica istruzione completato poi da Belluzzo nel 1931 e quindi è un passaggio significativo per la preparazione di intere generazioni di giovani no? grazie grazie allora adesso sempre scuola studio però questa volta a un livello più alto nel senso che parliamo dell'università e soprattutto di un aspetto i concorsi universitari in discipline storiche negli anni del fascismo e finalmente abbiamo un normalista con noi è il primo naturalmente dopo il professor Giardina che ci parlerà di questa Andrea Mariuzzo quindi sei in casa parli proprio in pratica siamo tutti ospiti suoi no? quindi dovremmo della scuola della scuola storia politica e carriere i concorsi universitari in discipline storiche negli anni del fascismo anche te sarei così bravo perfetto dovrei quanto meno ringrazio la parola ringrazio intanto gli organizzatori Andrea Giardina e Paola Salvatore per avermi per avermi invitato ma vado direttamente nel vivo della relazione per per evitare di sporare quindi come già il titolo anticipava questo intervento verterà sulle pratiche concorsuali per le cattedre in discipline storiche e per questo mi rifarò nella presentazione ai dati raccolti da me e da Matteo Caponi nel database storia storica e cultura politica nell'Italia Unita la raccolta di tutti i documentali delle pratiche concorsuali in discipline storiche compiute dall'approvazione della legge Casati nel 1859 per ora fino al primo concorso a cattedre e storia contemporanea ma la prospettiva è quella di arrivare fino al 1980 cioè l'anno della riforma generale dei ruoli universitari e quindi si può dire della fine dei concorsi a cattedre nella forma originaria in cui erano conosciuti dal sistema fino ad allora il progetto è stato diretto dal professor Daniele Menozzi con la collaborazione anche di Mauro Moretti dell'Università per Stranieri di Siena e il database è stato realizzato per conto del centro archivistico della scuola con per quanto riguarda la parte tecnico-informatica da Umberto Parrini comunque in sostanza per ogni concorso la banca dati l'individuo del concorso per sede disciplina e date di proburgazione scadenza delle domande e deposito del verbale e per ogni pratica concorsuale sono raccolti i nominativi dei commissari dei concorrenti e dei vincitori per ogni vincitore è indicata la sede di chiamata visto che i vincitori almeno da un certo punto in poi saranno i cosiddetti ternati cioè ci sarà per ogni concorso tre concorrenti riconosciuti vincitori uno solo dei quali otterrà il singolo posto messo a concorso generalmente anche se non sempre il primo classificato mentre gli altri due potranno essere chiamati da altre sedi sul territorio nazionale qui naturalmente l'attenzione sarà rivolta pressoché esclusivamente ai concorsi del ventennio successivo alla riforma gentile ma è comunque bene ricordare che i dati raccolti ed elaborati riguardano un periodo più lungo i cui aspetti caratteristici sono da tenere sempre in considerazione con questo studio infatti intendo analizzare il meccanismo fondamentale che ha retto fin dagli anni settanta dell'ottocento in punta di diritto fin da prima visto che già nella legge casati il concorso è la forma fondamentale di reclutamento universitario però di fatto solo con il 1985 questo tipo di selezione diventa procedura standard in luogo della nomina ministeriale per singolare perizia ex articolo 69 della legge comunque con questo studio intendo esaminare il meccanismo fondamentale delle dichiarettole dinamiche della professionalizzazione del contesto accademico della professione storica e in generale il sorgere dello studio della storia dell'unità contemporanea attraverso l'individuazione del personale destinato a gestire sul piano locale le politiche dell'alta formazione e della ricerca questo è vero per due motivi intrecciati ma distinti uno più generale relativo al regolamento della pratica concorsuale come procedura peculiare attraverso la quale l'università italiana selezionava i suoi cattedratici e quindi come caposaldo della politica universitaria in tutti i settori disciplinari l'altro per il quale effettivamente la distinzione disciplinare diventerà più significativa relativo alle dinamiche di selezione sia nella costituzione e nel consolidamento con l'attribuzione di cattedre degli orientamenti di studio sia nella ridefinizione dell'offerta degli insegnamenti e dei settori della ricerca storica su questi due campi così sensibili si snodò l'effetto delle politiche universitarie e culturali fasciste in tema del clutamento accademico ed è necessario prenderle in considerazione entrambi per comprendere le conseguenze della politica del regime sugli studi storici universitari partendo dal primo dei due aspetti che ho sottolineato cioè i regolamenti formali che regolavano le pratiche concorsuali occorre considerare che il concorso a cattedre ha costituito fin dagli anni 70 e l'ottocento l'elemento più peculiare del reclutamento accademico italiano rispetto ai sistemi nazionali generalmente più seguiti con i modelli di gestione da quello francese a quello tedesco infatti l'interazione tra potere politico amministrativo centrale sede accademiche locali e comunità scientifico accademiche non si risolse né attraverso una compiuzione Berufungspolitik coordinata continuativamente dagli uffici ministeriali né attraverso i percorsi di selezione per esame per l'ammissione della nobilità di Stato del copo di concorsi singoli in ogni occasione da quanto detto emerge in primo luogo che alla presa del potere il fascismo trova un sistema di reclutamento universitario ormai rodato esso certo era stato soggetto nel corso del tempo a numerosi mutamenti di regolamento e di prassi spesso poi abortiti nei tentativi più ambiziosi di garantire alle sedi universitari maggiore autonomia e conseguente responsabilità nell'assunzione di docenti in cattedra o nella revisione dei ruoli subalterni e degli incarichi generalmente gestiti localmente e spesso a sei più duraturi di quando si occorre il loro rinuovo annuale tuttavia pur tra molte critiche il sistema concorsoale va trovato da un ventennio nella propria stabilità nel regolamento promosso dal ministro Vittorio Monello Orlando nel 1904 in base al quale ogni concorso dava origine appunto alla terna graduata dei vincitori e quindi condizionava il reclutamento nazionale nella specifica disciplina era poi altrettanto chiaro che il regime non poteva proporsi di intervenire in un campo così nevralgico lo poteva non proporsi di intervenire in un campo così nevralgico della vita culturale italiana tanto più se varie sue componenti intendevano fare del mondo accademico un settore fondamentale per il compimento e la perpetuazione della rivoluzione fascista non è allora un caso che il primo intervento di riforma dei regolamenti concorsuali messo a punto dal governo Mussolini coincida proprio con la riforma gentile il grande intervento organico del nuovo esecutivo sulla scuola ed anche in questo specifico ambito come più in generale per quella che il Duceo in persona definì di riforme definire come fascista l'operato del filosofo di Castelvetrano non è impossibile ma è comunque problematico il soggetto a varie specificazioni in estrema sintesi sappiamo che la riforma gentiliana era fascista nel modo in cui lui era il suo autore si presentava cioè come strumento per condurre a una rivoluzione che realizzasse non un partito ma lo Stato-Nazione nella sua interezza inglobando in serie le energie e gli spunti migliori del dibattito riformatore dei decenni precedenti in tema educativo secondo una logica d'insieme del contempo autoritaria nei controlli e attenta allo sviluppo di capacità individuali e locali attentamente selezionate e preparate l'autentica rivoluzione concorsuale proposta da Gentile si inseriva ai fatti nel quadro del suo tentativo di rinnovamento degli ordinamenti universitari pensato su queste basi e sostanzialmente invertiva l'ordine dei fattori nei processi decisionali se prima il Ministero garantiva la base finanziaria per il posto e la comunità scientifica nazionale esprimeva la commissione lasciando alla sede locale la presidenza della cattedra soprattutto la possibilità di una moral suasion per la tutela dei propri interessi oltre naturalmente alla precedenza dell'assunzione dei vincitori il concorso gentiliano metteva proprio la sede locale quella stessa sede locale che acquisiva piena personalità culturale e giuridica attraverso l'elaborazione dello statuto e la piena autonomia nell'organizzazione dei propri corsi al centro ad essa infatti era demandato il compito di selezionare tra i partecipanti la terna di concorrenti graditi da proporre alla commissione di docenti di ruolo di domenica ministeriale per la decisione definitiva il controllo della qualità era effettuato a monte perché i concorsi a cattedra non erano più aperti ma riservati ai suoi liberi docenti selezionati per ogni disciplina ogni anno non più dagli atenei ma da un'assai più rigida a commissione nazionale tutta questa costruzione reagiva al sistema precedente tenendo conto di una serie di critiche che nei decenni le avevano accompagnato l'ultima delle quali era stata espressa proprio nei mesi dell'elaborazione della riforma da Giorgio Pasquali o pamflet l'università di domani scritto con Piero Canamandrei gentile a quelli va sicuramente le critiche del filologo che era poi chiamato alla normale fondate soprattutto sulla mendacia delle dichiarazioni nei giudizi a cui inevitabilmente si arrivava per ottenere risultati concreti attraverso gli accordi al ribasso per costituire le terne ma non accoglieva la proposta drastica di rifarsi esclusivamente alla chiamata diretta della facoltà sia per i rischi insiti di una procedura priva di contrappesi riconosciuti del resto anche dal coautore del volume di Pasquali visto che in un appendice Calamandrei prese le distanze dal collega proprio su questo punto sia per la necessità di dotare il centro amministrativo del sistema nazionale degli strumenti di controllo di verifica e di indirizzo necessari ai disegni gentiliani però il risultato fu quello di un sistema di selezione del personale ibrido e farraginoso che forse avrebbe richiesto tempo per rodarsi e che soprattutto aveva bisogno di una lista di liberi docenti che accedevano ai concorsi così da rendere sufficientemente sopportabile ogni scelta dei consigli di facoltà così non fu perché come spesso era e sarebbe accaduto nella legislazione italiana sull'università le costruzioni teoriche del sistema preconizzate dalle norme non tenevano conto del contesto pratico in cui si andavano a calare dopo il sostanziale blocco della vita amministrativa degli Atenei causata dalla grande guerra la necessità di assumere docenti e di riempire catteri si faceva sentire e si doveva procedere con la possibilità di partecipare alle selezioni di tutti i liberi docenti delle varie università equiparando nella qualifica a quella ancora non ingranata dell'esame nazionale post-riforma il combinato disposto dell'ampiezza della platea dei potenziali concorrenti con l'ampio margine di manovra delle facoltà per l'individuazione di possibili vincitori determinano nel giro di pochi anni la scesa in catena agli studiosi che fino al 1922 pur partecipando non erano stati presi seriamente in considerazione dei commissari per la raggiunta maturità scientifica di candidati già prima considerati maturi seppur non riusciti i vincitori attraverso l'elaborazione di criteri destinati a far discutere era il caso per restare nel campo degli studi storici che qui ci interessa del concorso di storia moderna bandito nel novembre del 24 a Catania dove risultò vincitore Giuseppe Palladino dopo che la facoltà aveva alimentato gli eleggibili della commissione composta da Michelangelo Schipa Pietro Egidi e Gaetano Salvemini soltanto al futuro vincitore e ad Angelo Pernice perché Luigi Genuardi terza componente della terna proposta non venne accettato dalla commissione giudicatrice perché i suoi titoli erano ritenuti esclusivamente orientati alla storia del diritto e quindi inadeguati alla cattedra in questo modo la facoltà esclusse studiosi già più affermati secondo altre valutazioni come Giovanni Battista Picotti Raffaele Ciasca e Nino Cortese perché mise a verbale l'esplicita richiesta che la cattedra fosse assegnata a uno studioso specialista nella storia del Mezzogiorno d'Italia però ancora più discutere gli esiti concorsuali della sede accademica che per ragioni contingenti poteva largamente approfittare delle nuove norme ovvero la cattolica che proprio dalla legislazione gentiliana otteneva il riconoscimento definitivo la mano libera garantita agli Atenei per la limitazione delle scelte e bensì confaceva del resto a un'università che faceva il proprio indiritto ideale culturale e confessionale la ragion d'essere ancora una volta i verbali dei concorsi storici aiutano a far emergere sul punto un certo disagio da parte dei commissari visto che proprio in occasione del nomine alla cattedra di storia moderna nell'Ateneo Gemelliano di Giovanni Soranzo uno dei commissari anonimo ma verosimilmente Salvemini ancora presente tra i selettori insieme a Schipa e Degidi mise a verbale quanto fosse evidente che le scelte dell'Istituto Giuseppe Tognolo per limitare i candidati graditi vertessero assai più sull'osservanza religiosa che sulla qualità degli studi il concorso tra l'altro vale la pena di notare si concluse con la vittoria del perdente nominativi suggeriti dall'università il commissario giudicava un idoneo Giovanni Battista Picotti che però era alternato nell'ultimo concorso a cattedre svolto con le vecchie regole effettuato per l'università di Cagliari e quindi potrei trovare posto proprio a Cagliari in ragione di quella vittoria non appena Alessandro Casati giungendo alla Minerva come successore di Gentile nelle state del 24 aprì al riconoscimento dei risultati dei concorsi stinuti dopo il 1920 primo passo verso lo smantellamento dell'impianto concorsuale gentiliano che nella sua sperimentazione non aveva mai convinto smantellamento avvenuto poi per mano di Pietro Fedele nel settembre del 25 con ritorno pressoché totale al regolamento precedente al 1923 dopo d'allora comunque i ministri dell'istruzione e dell'educazione nazionale del regime non smisero di interessarsi ai regolamenti concorsuali secondo un orientamento che però si allontanò progressivamente dall'idea gentiliana di partecipazione responsabile per quanto coordinata dall'alto dall'autorità dei vari attori del mondo dell'istruzione superiore con anche uno spazio riconosciuto di costruzione delle specifiche identità dei singoli atenei attraverso il reclutamento il piano inclinato verso la centralizzazione autoritaria dei concorsi conclamata con il decreto dei vecchi del 20 giugno del 35 che affermava o riaffermava visto che riprendeva la lettera della legge ai casati la completa nomina ministeriale delle commissioni e la possibilità da parte del ministro di annullare eventuali decisioni sgradite con provvedimento insindacabile e di sostituirmi non avendo per chiara fama senza neppure bisogno della proposta di una facoltà questo piano inclinato verso questa centralizzazione assoluta dicevo inizio già proprio confedele quest'ultimo infatti stabilì chiamando alla formazione delle commissioni la facoltà che bandiva imposto le facoltà omologhe di tutto il regno e il consiglio superiore della pubblica istruzione l'embrione del testo unico del 1933 in base al quale la facoltà banditrice aveva diritto di proporre tre nomi studiose della disciplina o di materi affini le altre facoltà sei nomi attraverso procedura elettorale e il consiglio altrettanti tra i quali il ministro avrebbe selezionato i cinque componenti rispettivamente uno da primo gruppo e due dagli altri della commissione la prassi che voleva il titolare del di Castero accettare i primi nomi della lista era sì quasi sempre rispettata ma non rendeva il passaggio al ministero una pura formalità nel caso in cui sorgessero problemi di natura politica sui nominativi prescelti come nel caso del primo concorso di storia delle religioni all'unità di Milano tenuto alla fine degli anni venti in cui una delle proposte delle facoltà di commissario era Luigi Salvatorelli e che non venne ovviamente selezionato dal ministro come commissario soprattutto poi con questa nomina composita pendente in ultima istanza quantomeno da una conferma dal centro si iniziava a mettere in discussione il principio dell'elettività pura della commissione di concorso rimbalzato all'irregulamento dell'età liberale tra le facoltà e gli individui titolari di cattedra con differenze comunque non sostanziali visto che solitamente ogni facoltà seguiva l'indirizzo letato da docente di materia pertinente e il principio dell'unica cattedra per ogni disciplina in ogni ateneo era allora rigorosamente rispettato questo sistema elettivo era ritenuto prima del 1923 uno strumento acquisito nelle dinamiche delle comunità disciplinari e peraltro nel corso del Tardo Ottocento ha contribuito a creare a livello di identità comunitaria e professionale un'identità appunto distinta da quella dei semplici cultori della materia da parte degli accademici che partecipavano alla definizione delle commissioni tutto questo appunto veniva messo prima in discussione e poi con De Vecchi veniva definitivamente cancellato questa pratica elettorale e in un cammino che può essere eletto e può essere eletto nell'imposizione di nome di condotta civile e politica sempre più stringenti al personale universitario dal giuramento di fedeltà imposto ai docenti al loro ingresso in ruolo all'obbligo della tessera di partito per il rinnovo di incarichi di insegnamento a termine tutti questi passaggi che caratterizzarono delle legislazioni universitarie all'inizio degli anni trenta e che in fondo erano avvicinabili anche all'obbligo dei candidati ai concorsi di presentare prima la certificazione di buona condotta poi dal trentacinque la tessera del partito nazionale fascista per poter accedere alla partecipazione in una spirale di controllo personale di insegnanti e studiosi quasi sempre più evidente ma al di là degli elementi formali che caratterizzavano in senso autoritario le pratiche concorsuali i meccanismi di assunzione di nuovi cattedratici erano interessati anche per valutare in modo più sottile le modalità attraverso le quali il clima politico del ventennio ebbe un impatto sulla struttura degli insegnamenti storici delle università italiane bisogna infatti ricordare che questo è un passaggio fondamentale per la conferma della comunità scientifica e accademica attraverso l'acquisizione della dignità di cattedra della piena accettazione di nuovi campi disciplinari dotati di un proprio profilo specifico riconosciuto e riconoscibile da questo punto di vista puoi lavorare proprio sul campo storico che può condurre a considerazioni interessanti sia per la posizione della storia nel panorama disciplinare divisa come era fin dalle origini del suo insegnamento tra diverse facoltà all'inizio lettere di jurisprudenza e poi altre e quindi assegnata a diverse comunità di docenti e studiosi sia per il legame particolare che tradizionalmente lo spirito politico del tempo intesse con la riflessione sul passato anche per quanto riguarda questo tema le riflessioni gli sviluppi conosciuti nell'ambito degli studi universitari di storia durante il fascismo possono essere letti in una continuità di più lungo periodo come parte di un processo che precede e segue il ventennio fin da quando negli anni settanta dell'ottocento le cattedre iniziano a decidere veramente per concorso è proprio il coinvolgimento diretto della comunità accademica a contribuire a rendere più mossa l'articolazione degli insegnamenti se infatti la legge Casati presupponeva che l'insegnamento storico fosse rimandato alle cattedre di storia antica e moderna a lettere e di storia del diritto a giurisprudenza tra 1876 e 1886 furono le commissioni di concorso procedendo alla verifica per titoli ed eventualmente per esami delle genitali candidati a sollevare nei verbali il problema della difficoltà a individuare studiosi in grado di dominare l'intera parabola storica con la stessa dimestichezza e proprio dei loro risultati nacque la tendenza a dividere i due insegnamenti nella parte antica e in quella moderna a questa prima ripartizione della materia però fino al 1914 si era giunta la sola immersione di una selezione concorsoale in storia del cristianesimo quella che vide vincita la Roma Ernesto Buonaiuti per la successione a Baldassare la banca nel 1913 e la scelta tra i ternati di Luigi Salvatorelli e di Umberto Fracassini si trattava però spiegherà più tardi Matteo Caponi di un caso particolare ovvero del tentativo di ottemperare al progetto di recupero in altra sede delle discipline criticamente e positivamente fondate dell'estinta facoltà teologica garantendo allo studio storico della cultura cristiana una continuità con la disponibilità della diffusione di cattedratici i ministeri fascisti d'altro canto si lavorano a gestire un periodo di creatività decisamente più frizzante che per molti vesti trovava la sua origine scatenante nella grande guerra come è stato anche ricordato ieri in qualche intervento recentemente riflettendo sulla tormentata carriera accademica di Michele Rosi nell'insegnamento della storia del risorgimento Mauro Moretti è evidenziato come l'impegno degli intellettuali nella prima guerra mondiale in termini sia di partecipazione diretta al conflitto che di elaborazione culturale avesse visto cadere gran parte delle riserve dettate dalla necessità di una formazione tecnico-filologica maturata nel passato più remoto e già più dissolato dagli studi per essere introdotti alla professione storica se infatti era vero se infatti era vero che lo studio storico poteva essere applicato anche ad anni recenti e del resto ciò avveniva fin dalle origini classiche della disciplina esso ripeteva la generazione dei villari dei bonghi dei magenta doveva essere acquisito attraverso un training effettuato lontano dalle passioni contingenti fino a quando non si era in grado di controllarle appieno e di passarle al vaglio della critica delle fonti l'irrompere della pedagogia nazionale e nazionalista negli anni della guerra e più in generale il pieno riconoscimento del valore culturale e intellettuale degli stimoli politici cambiano le carte in tavola gli anni più recenti diventano parte integrante del bagaglio di conoscenza di uno storico e si impongono anche come possibile palestra di formazione per chi per essi nutre un interesse particolare determinato soprattutto dalla contiguità dei problemi dell'oggi e dalla ricerca della loro origine più prossima e allora si diceva la storia del risorgimento non è più solo un insegnamento libero o da affidare per incarico ai cultori della storia moderna ma vede l'inizio di una serie di pratiche concorsoali tenuta tra 1925 e 1926 per la cazza milanese alla composizione della commissione in cui i cultori accademici della storia moderna come Michelangelo Schiba e Pietro Egidi si incontravano con studiosi più esplicitamente schierati su tutti l'irredentista Giuliano Francesco Salata seguì una terna di studiosi piuttosto attempati e sicuramente impegnati in forma principale nel campo della risorgimentistica a dimostrazione dell'effettiva presenza già da tempo del settore di studi all'ambito accademico anche quando era privo di uno sbocco in cattedra mi riferisco in particolare a Francesco Lemmi vincitore del concorso ma chiamato poi a Torino a causa dei ritardi con cui l'Ateneo milanese procedeva nelle pratiche e il futuro titolare della cattedra messa a concorso Giuseppe Gallavresi ad essi si affiancava nella terna il più giovane era del 1887 mentre gli altri due erano degli anni 70 Pietro Silva il quale però era già incattedrato a storia al magistero posto che Sancii può dire proprio per questa ragione il suo nome poteva essere ignorato nelle assunzioni in ossequio a pressioni dall'alto che tendevano a ostracizzarlo per le sue posizioni tiepide verso il regime il concorso successivo in storia del risorgimento tenuto dieci anni dopo con la formula della completa nomina ministeriale della commissione vedeva per apparente paradosso una commissione più compiutamente accademica della precedente composta solo da cattedrati e presieduta da Federico Chabot il fatto però che quest'ultimo avesse vinto da poco il proprio concorso a cattedre alla facoltà fascista di scienze politiche di Perugia per l'insegnamento assolutamente nuovo di storia politica moderna e contemporanea aiuta a comprendere come ormai negli anni 30 certe forme e certi interessi fossero decisamente integrati nel mondo universitario cioè era vero quantomeno per un campo disciplinare nuovo ma che poteva fare riferimento su una comunità accademica consolidata e pronta a una certa resilienza attraverso l'uso e la difesa delle prerogative professionali qual era quella degli storici modernisti rispetto alla storia dell'insorgimento il discorso era più complesso per un altro settore sorto da pulsioni culturali simili ovvero la storia delle dottrine politiche la cattedra sorsa nel 23 come sappiamo nella facoltà giuridica romana per integrare nella cultura universitaria seppur in forma parzialmente depotenziata per il riferimento alla storia più che alla sincronia la nuova scienza politica di Gaetano Mosca il suo atteggiamento tiepido verso il regime però portò ad escludere lo studioso a cui si doveva una prima sistematizzazione degli strumenti di indagine di una più rinnovata e più incisiva storia politica sia dalla facoltà romana di scienze politiche dove il suo sistema di pensiero poteva trovare una collocazione naturale sia soprattutto dalla selezione in ambito concorsuale degli altri detti lavori in cattedra peraltro il fatto che il primo concorso di fare le dottrine politiche si è tenuto solo nel 1934 quando ormai quasi tutte le facoltà giuridiche avevano un corso in materia tenuto per incarico è significativo di una certa volontà di attendere la ripurazione del parco dei concorrenti vale del resto la pena di ricordare che l'università che bandì il concorso quella di Messina aveva visto insegnare fino all'anno prima storia delle dottrine politiche per incarico a Mario Inaudi figlio di Luigi e notoriamente lontano dal fascismo e che il concorso venne svolto non appena Inaudi decise di trasferirsi ad Harvard per evitare di prendere la tessera del PNF necessaria per il rinnovo dell'incarico la commissione che vedeva presenti figure pubbliche di alto profilo come Gentile Giorgio Del Vecchio e Amedeo Giannini individuò il vincitore nella stessa area di formazione delle Inaudi garantendo la cattedra a un altro studioso di formazione torinese allievo di Solari come Alessandro Passerenda Andres e per gli altri internati si orientò su figure di intellettuali più direttamente impegnati al dibattito pubblicistico come Rodolfo De Mattei e soprattutto Carlo Curcio secondo una tendenza che si ripetè sia nel successivo concorso nel 39 concorso di storia dottrine politiche sia soprattutto nel 38 quando la comunità degli studiosi storico-politici venne impegnata nella selezione dei primi cattedratici in storia e dottrina del fascismo cattedra simbolo della piena integrazione della militanza politica nel dibattito intellettuale vinta da una figura altrettanto emblematica Camillo Pellizzi sul piano dell'evoluzione di discipline e programmi di studio insomma le pratiche concorsuali sembrano funzionare come un momento di definizione dell'equilibrio tra la crescente pressione per la politicizzazione forzata degli Atenei e il mantenimento delle prorogative professionali di gestione della cooptazione dei ruoli di personale trattato di profilo almeno in parte accademico ciò appareva tanto più evidente in un settore degli studi storici più lontano dalla contingenza del dibattito pubblicistico ma tutt'altro che immune alle influenze di regime ovvero la storia antica in questo senso è noto che il concorso a cattedra di storia romana si tende nel 1936 a coronamento nella serie più prestigiosa per una legittimazione culturale della riviviscenza imperiale dedicata con la guerra etiopica e destinata poi a consolidarsi con iniziative pubbliche che abbiamo già visto quali insomma quelle per il bimbenare Augusteo dell'anno successivo le procedure di selezione di concorso bandito per l'Ateneo-Torinese furono tenute strettamente in mano da storici epigrafisti e archeologi secondo una contiguità disciplinare ormai consolidata nell'interscambio di commissari da circa un quarantennio per la storia antica per i quali l'adesione fedele alle istituzioni si univa all'approvata esperienza di studi infatti il presidente era Giuseppe Cardinali ed era presente in commissione anche Annibale Evaristo Breccia di lì a pochi anni nominato rettore dell'Universa Pisana e in commissione vi era anche un altro archeologo Biagio Pace parlamentare del regno del purato del regno vincitore del concorso lo sappiamo fu Arnaldo Mumigliano accompagnato nella terna da Mario Attilio Levi destinato poi a Milano e Leandro Zancan chiamato a Palermo tra l'altro la vittoria di Mumigliano e Levi finì per rendere necessario che il successivo concorso di storia romana se tenesse solo tre anni dopo fosse bandito dalla stessa università sempre Torino e coprisse coi ternati due dei tre posti già assenati in precedenza occupati rispettivamente dal vincitore Roberto Andreotti e da Alfredo Pasterini ciò si verificò naturalmente a causa degli effetti delle leggerazioni del 1938 che nel secondo dopoguerra costituirono almeno stato al campione disponibile del database a cui ho fatto riferimento il principale motivo di accoglimento delle richieste di revisione delle pratiche concorsuali per la riassegnazione dei posti interna e anche nei casi in cui i ricorsi di interna furono accettati e le selezioni della commissione riformulate come avvenne nel caso del concorso di storia delle dottrine politiche del 1939 rivisto per due volte in seguito ai ricorsi di Paolo Treves e Giuseppe Santonastaso nuovi vincitori furono inseriti in soprannumero senza toccare gli eseti precedenti c'erano cinque eternati per esempio finiamo per esserci tutto questo non diversamente da quanto si fece per la riammissione di servizio concludendo questo sguardo sistematico alle pratiche concorsuali sembra confermare l'impressione ricavata recentemente da Giovanni Montroni nel suo volume sulle pratiche di depurazione dei professori universitari tra fascismo e repubblica la scarsa incidenza conosciuta a lungo andare dai tentativi di defascistizzazione si spiega non solo con le conseguenze della continenza dello Stato ormai acquisite nell'interpretazione storiografica da anni ma anche dal fatto che le comunità scientifiche avessero saputo incorporare mediare e in alcuni casi limitare le pressioni della politica di regime sui nomini in commissione e le assunzioni in cattedra facendo in modo che queste ultime risultassero nella maggior parte dei casi accettabili sul piano professionale anche quando la loro base trovavano ragioni e strategie di natura politica grazie oggi siamo prarissimi come i tempi per male vi ho messo molta pressione è terribile allora è una cosa di una tristezza la storia dell'università e dei concorsi durante il fascismo no veramente a parte gli scherzi pensate un attimo importantissimo il database importantissimo il tuo lavoro io voglio fare alcune considerazioni sulla comunità non è che si può fare per gli universitari la stessa cosa che Ernesto Rossi diceva degli industriali che gli universitari i professori sono ministeriali per definizione perché non ci fanno adesso lasciamo stare gli storici non ci fanno una bella figura e non solo per i dodici che non giurano con tutto il problema se giurare o non giurare ma per quello che è successo nel 38 è stato oramai abbiamo dei lavori sulle facoltà vediamo che ci sono stati pochissimi quelli che nel senato accademico sono stati e hanno salutato i colleghi io vorrei dire un'altra cosa scusa rispetto a non gli storici dobbiamo ragionare sul potere di altre discipline pensiamo al diritto pensiamo al diritto e ai manuali per esempio delle varie procedure o diritto privato eccetera questi signori sono andati avanti dal 33 34 agli anni 50 Ugo Papi che era professore di diritto prima corporativo poi ha tolto la qualifica corporativa era lettore dell'università della sapienza di Roma fino agli anni 60 quindi il peso di questi cattedratici non tanto nelle discipline storiche ma in altre discipline penso alle discipline giuridiche ma anche altri settori la medicina per esempio sono veri e propri poteri che vengono scalfiti pochissimo fascismo mi sembra pochissimo c'è una persistenza della comunità e del potere della comunità abbastanza importante e poi c'è ad esempio tutto il problema delle facoltà fasciste e del ricevere o non ricevere un incarico nelle facoltà a Perugia o a Padova o a Roma no? come discipline non so a parte diritto corporativo ma ci sta anche disciplina non è disciplina della razza politica della razza mi sembra che si chiama antropologia della razza umane beh sì antropologia delle razze umane è diverso sì alla fine in quegli anni ha lo stesso significato ma prima era una cosa differente e direi di ragionare un po' di più su forme occulte di potere nella società forme che non non sono il paragone appunto col sindacato o col farinacci che rivendica il carattere rivoluzionario ma che sono penetrate profondamente nella società italiana e sono passate nella seconda guerra mondiale e ce le ritroviamo poi per lunghi anni nel dopoguerra allora noi universitari non abbiamo un buon passato ma insomma abbiamo anche un ottimo passato no allora arriva il maestro Davide Grippa Napoli Napoli l'orientale allora Davide Grippa mi fa molto piacere presentarlo perché fa parte come Baruzzo dei giovani che hanno affrontato questi argomenti e essendo diciamo di una certa età ho seguito con tanto piacere gli interventi di queste nuove classi alle quali faccio tantissimi auguri allora però ci parlerà di un argomento un po' particolare coscienza storica italiana in un momento molto specifico nella seconda guerra mondiale e parlerà dell'enciclopedia minore io mi chiedevo che cosa fosse questa enciclopedia minore poi l'ho incontrato in biblioteca a Roma me lo sono fatto spiegare e sono rimasta appassionata da quello che mi raccontava sentiamolo e anche te sarei bravissimo mezz'ora 35 mezz'ora provato a tagliare questa notte stamattina no fermo proverò ancora perché non ci sono riuscito del tutto anche perché appunto il tema è la coscienza storica italiana durante la seconda guerra mondiale ma è impossibile non fare riferimento al nucleo culturale preesistente a questo periodo storico all'imponente enciclopedia che dal 1929 al 1937 in 36 volumi contando l'appendice uscirono in Italia sotto la direzione di Giovanni Gentile è un tema non facile devo dire perché non si presta come alcuni di quelli che ho sentito ieri soprattutto ad una riduzione esclusiva all'ideologia del regime quindi questa premessa mi pare mi pare d'obbligo convivono voci plurime all'interno dell'enciclopedia anche se come vedremo i condizionamenti già prima del progetto di enciclopedia minore che mi preme sottolineare non fu mai pubblicata l'enciclopedia minore anche se il materiale era praticamente tutto pronto Gentile incomincia a pensare alla stesura di questa enciclopedia alla fin degli anni 30 il primo documento che abbiamo è del 38 sta pensando a una versione più popolare della enciclopedia maggiore che era molto costosa e si rivolgeva a un pubblico borghese piccolo borghese e questa versione tipo la Rus aveva come intenzioni quella di una maggiore diffusione popolare si era pensato tra i 12 e i 16 volumi ciascuno di quali avrebbe dovuto essere costituito da mille 1200 pagine quindi ovviamente come non mancava di inserire nei verbali del consiglio direttivo Gentile con gli opportuni aggiornamenti poi vedremo dopo quando entrano nel merito delle voci gli esiti di questi aggiornamenti l'opera non fu più pubblicata perché Gentile fermamente convinto che l'Italia avrebbe vinto la guerra aspettava però la fine di questa guerra che non arrivava ad un certo punto alla fine del 42 i materiali redazionali erano pronti e vinse questa sua paura di non essere aggiornato fino all'ultimo dello scenario politico internazionale e si decisa pubblicarla ma la caduta poi del fascismo e il trasferimento della sua adesione alla Repubblica Sociale il trasferimento dell'archivio storico a Bergamo e di tutta la redazione interruppero il progetto che in parte i cui manoscritti già pronti in parte confluirono poi nel dizionario enciclopedico italiano nel 48 faccio questa premessa sulle fonti perché mi sembra necessaria queste fonti che sono adesso a Pomezia non queste delle enciclopie minore ma quelle del DEI che hanno assunto parte di questo materiale non sono in questo momento consultabili non sono inventariate e temo da quello che mi dicono gli archivisti che sia difficile capire quali e quanti ritocchi siano intervenuti nel secondo dopoguerra per cui questo materiale che ci è rimasto che non è poco dell'enciclopedia minore che sta ancora in piazza Paganica sono fonti davvero prezziate e ci tornerò ci tornerò sopra analizzando soprattutto una figura che è Carlo Antoni Carlo Antoni è uno studioso su cui non abbiamo a parte il profilo di Gennaro Sasso uno studio complessivo della sua biografia pur molto interessante sappiamo che il Necrologio di Antoni scritto da Arnaldo Mondiliano creò un conflitto molto forte con Federico Chabot per tutti i rapporti che quella cultura che era nata nel fascismo aveva avuto con il fascismo stesso ma su questo diciamo è una questione abbastanza nota e non entro mi fa piacere che c'è il professor Pertici perché proprio lui in un colloquio quando io ero allievo dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici disse una frase che mi stimolò in questa ricerca forse pensando più a Cantimori però ma quando si accorgono ma quando si accorgono della mostruosità del necrono e questa cosa mi è rimasta in testa e ringrazio gli organizzatori perché io ho fatto un primo studio sull'enciclopedia qualche anno fa ma mi ero fermato al 1937 appositamente cioè volevo vedere quale fosse il nucleo preesistente il nucleo culturale preesistente alle leggi razziali e alla pressione che le leggi razziali davano agli studiosi e farò adesso dei piccoli riferimenti perché credo siano necessari per poterli poi comparare con le voci con le voci invece che non furono pubblicate ma furono redatte per l'enciclopedia minore e anche allora studiare l'enciclopedia italiana mi sorprende sempre molto e questo è uno degli aspetti che mi piace di questo studio perché sappiamo qualcuno ieri forse il professor Berdelli faceva riferimento alla tendenza della storiografia oggi a rimarcare io non sono d'accordo a rimarcare un antisemitismo molto diffuso e massiccio in Italia una versione anche più forte di quella di Momigliano che Momigliano dava della nazificazione del 1933 e devo dire che è una io credo forse poi cercherò di argomentarlo forse anche una risposta polemica agli eccessivi silenzi che invece sono stati come dire sono venuti da molti di questi intellettuali e una resa dei conti che a mio avviso non è mai avvenuta fino in fondo un processo evolutivo che non è stato mai compiuto completamente quindi io credo che questa risposta della stereografia che insiste molto oggi sulla diffusione dell'antisemitismo in Italia sia eccessiva e abbia delle ragioni polemiche forti e quindi abbia una componente ideologica a mio avviso non indifferente e perché mi ha colpito? Mi ha colpito perché studiando l'enciclopedia maggiore tra il 29 e il 37 non c'è ombra di antisemitismo ma dirò di più ci sono delle strategie redazionali anti-antisemite con una specifica ragione innanzitutto occorre dire chi erano i collaboratori di Giovanni Gentile per queste voci sono due figure importanti soprattutto una che è Alberto Pinkerle studioso di origini ebraiche allievo di Ernesto Bonaiuti convertitosi a cattolicesimo grande studioso grande studioso non credo di Pinkerle perché ci ho parlato ieri mi parlava più di pettazioni ma Pinkerle è una figura straordinaria sulla quale non abbiamo molti studi e Pinkerle è Raffaello Morgan Pinkerle è proprio è la persona che insieme a Gentile cerca di contrastare la visione una visione molto cattolica delle voci di storia in primo luogo e dall'altra parte è uno dei difensori più ovviamente anche per le sue origini ma non solo per adesione culturale convinta è uno dei primi a denunciare l'antisemitismo consapevolmente anche il modo in cui lo fa a me è molto interessante ma questo vorrei affrontarlo successivamente quando farò la comparazione tra la voce antisemitismo scritta nel 29 da Pinkerle e la voce antisemitismo scritta da Carlo Antonio nel 40 per cercare di vedere da un confronto tra le due voci se e che cosa muta la seconda guerra mondiale nella coscienza storica di questi studiosi però non potevo non come dire sottolineare da subito come anche per brevità poi ho scritto questo piccolo lavoretto chi vorrà leggerlo lo potrà leggere ho fatto un'analisi minuta di queste strategie anti antisemite che avevano come obiettivo quello di fornire un'immagine conciliativa di pacifica convivenza di lungo periodo tra cristiani ed ebrei mostrando come sostanzialmente gli ebrei si fossero assimilati in Italia e il problema dell'antisemitismo non sussistesse e quindi questo diciamo in maniera molto veloce il quadro del lavoro che ho compiuto in precedenza e invece adesso volevo tornare alla domanda che il professor Pertici mi ispirò qualche anno fa cioè quando si accorgono beh certo Cantimori se ne accorge dopo questo lo sappiamo un po' tardi forse mentre in Antoni è molto viva questa coscienza è questo che mi ha di nuovo molto colpito mi aspettavo di trovare una negazione di alcuni elementi del nazionalsocialismo una negazione delle affinità con il fascismo italiano e invece se noi prendiamo alla voce del 1934 scritta da Carlo Antoni nazionalsocialismo ci sono già moltissimi c'è già una grande consapevolezza di che cosa fosse il nazismo per esempio la voce nazionalsocialismo esce nel 1934 ci ricordiamo che è una data molto importante per la politica internazionale anche per la storia tedesca e quella austriaca è un momento fondamentale sia dal punto di vista interno per la Germania con la notte dei lunghi coltelli che porta quindi in modo plateale sulla scena di violenza e l'aggressività nazista e che per i suoi risvolti di politica internazionale perché abbiamo l'omicidio di Dolfus e quindi questo è un elemento che non passa inosservato agli occhi di Carlo Antoni che anzi denuncia questa aggressività e questa violenza naziste mi piacerebbe ricordare appunto alcuni passi proprio con le sue parole perché mi sembra che meglio di ogni altra mia considerazione forniscano il colore della sua voce certo è che sia quanto avvenne in Germania dal 30 giugno al 2 luglio 34 cioè la notte dei lunghi coltelli sia la corruzione e depravazione di parte dei ceti alti nazisti fecero profonda impressione al di fuori quindi parla di depravazione quindi mi sembra chiaro che abbia individuato e continua commentando invece i fatti politici internazionali meno di un mese dopo i tragici avvenimenti di Vienna del 25 luglio Puc nazista e assassino del cancelliere Dolfus tentato Puc nazista hanno determinato una violenta reazione di tutto il mondo civile dice Antoni contro il nazionalsocialismo tedesco è ovvio che questa voce va contestualizzata nel momento politico e quindi sappiamo benissimo che in quel momento c'era una conflittualità accesa tra il nazismo e il fascismo ma non credo che in Antoni questo fosse un elemento determinante mi avviso in quel periodo credo che questa visione del nazismo venisse da una sua convinta riflessione da anni di ricerca sappiamo che lavorava insieme a Cantimore all'istituto di studi germanici sotto la direzione di Giovanni Gentile quindi diciamo non era un argomento occasionale sono due specialisti di storia tedesca Antoni sia Cantimore ma Antoni soprattutto quindi mi pare che non era diciamo la sua condanna del nazionalsocialismo non era non era occasionale appunto ma entrava nel merito della ideologia nazionalsocialista e questo che è molto interessante come dire evidenziando in modo chiaro la pretestuosità dell'antisemitismo tedesco diceva la massa aveva bisogno di individuare l'avversario in qualche cosa di tangibile poiché alla testa del marxismo e del capitalismo si scorgevano degli ebrei si ebbe la persuasione che i due fenomeni fossero entrambi creazione dello spirito ebraico mirante all'asservimento dell'Europa la lotta assumeva così subito la forma di una lotta di razza l'idea centrale del movimento nazionalsocialista è quella della razza quindi chiarissima consapevolezza ma un passo ulteriore fa Carlo Antoni da grande storico della storiografia quale è stato vede l'uso pubblico della storia da parte dei nazisti continua partendo da queste premesse è in corso una revisione a uso nazista della storia non ci si limita a riaprire il processo intentato nel secolo XIX da Heinrich von Siebel agli imperatori medievali rei di aver negletto il regno tedesco per il miraggio della corona romana ma si astende anche a Carlo Magno a Carlo il Franco che si è rivolto a Roma ha creato un'artificiosa rinascenza classica e ha domato i sassoni di Vitichindo ancora immuni da contaminazioni l'infiltrazione di elementi d'altra razza iniziatasi appunto con Carlo Magno è proseguita fino ad oggi è considerata la causa della decadenza dell'antica civiltà contadina e guerriera dei Germani che si fa risalire a oltre due millenni avanti Cristo quindi mi sembra chiarissimo sia la natura e anche chiarissimo mi pare l'opposizione al fascismo questo è importante no? attraverso che cosa? attraverso la condanna del diritto romano materialista quindi questo è un altro elemento fondamentale e inoltre non meno anticattolico che antiromano questo concetto della razza in particolare la riesumazione di miti e costumanze della Germania pagana sono la ragione essenziale del conflitto con le chiese contro il mito racistico poi la chiesa romana ha preso ufficialmente posizione condannando nel febbraio 34 l'opera del Rosenberg in cui quell'idea trovava la sua più netta espressione quindi con mia sorpresa studiando da questo punto di vista questi argomenti mi ha colpito questa consapevolezza fin da subito che non è scontata non è scontata per nulla nel 34 anche se si cominciano gli storici alcuni storici italiani ad armare contro questo pericolo e l'elemento successivo che mi pare importante è un altro dato da sottolineare la consapevolezza dell'affinità con il regime fascista questo è un altro elemento fondamentale nell'autunno del 22 decisivo fu l'esempio di Mussolini e del fascismo vedremo poi come queste affinità man mano che si andrà avanti scompariranno questo è un altro elemento da tenere in considerazione nell'autunno la marcia su Roma che offriva al nazionalsocialismo un esempio e un modello di rivoluzione nazionale giunse a ridare vigore al movimento il partito a chiara imitazione di quello fascista escludeva il principio democratico dell'elezione dei capi si dava una solida struttura gerarchica col sistema della scelta dall'alto concentrava tutti i poteri nella persona del Führer e quindi vediamo anche se la posizione rispetto al fascismo è più mimetica è difficile capire che giudizio ne dia rispetto a quanto invece emerge con il nazismo certamente c'è la consapevolezza di un'affinità a mio parere ma questa voglio dire è un'ipotesi e forse forza un po' quello che sono le fonti ma ci provo a dire come la penso io Antoni pensa che il nazismo sia una brutta copia del fascismo e il brutto sta per la condanna del razzismo e della violenza questo è quello che io credo perché dico questo? poi Antoni passa a mostrare con una certa diciamo empatia come minima empatia ciò che di buono ha fatto il nazismo e cioè Hitler sentì l'urgenza di definire l'atteggiamento del partito nella questione sociale egli sostiene il principio della collaborazione fra capitale e lavoro entrambi servitori della comunità nazionale adottando cioè anche sul terreno economico le idee del fascismo quindi mi sembra anche questo abbastanza chiaro direi che su questo potremmo andare avanti altrimenti ci rimane pochissimo ma ci sarebbe molto altro da dire passiamo ora velocemente al 38 il 38 è un dato importante perché non solo è un dato importante perché abbiamo l'emanazione delle leggi razziali è un dato importante anche all'interno dell'istituto dell'encecopedia italiana perché esce il primo volume di appendice quindi di revisione di ciò che è stato fatto prima è un solo volume bisogna subito dire che quello che abbiamo detto prima non vale più questo va detto cioè tutto quell'anti-antisemitismo di cui abbiamo parlato scompare io prima di cominciare questo studio mi ero detto beh certo nel 38 la voce razza la scrive Virginio Gaida ma chi è Virginio Gaida è il direttore del giornale d'Italia il consigliere politico di Mussolini è un giornalista politico non è certo un esponente dell'alta cultura non può essere considerato paradigmatico mi dicevo e questo in parte io credo che sia vero sappiamo che Gentile protestò con Mussolini ma poi si piegò e pubblicò la voce razza molto razzista di Virginio Gaida ma ho cercato di fare diciamo dei sondaggi nell'appendice del 38 e devo dire che rispetto al nazismo cominciamo a trovare un certo avvicinamento una certa giustificazione dell'avvicinamento di Mussolini alla Germania italiana non a caso proprio Carlo Antonio a cui era stata affidata l'aggiornamento della voce Austria perché la voce Austria era uscita ovviamente nel 29 quindi c'era l'aggiornamento Carlo Antonio abbiamo la lettera della citazione in cui scrive Gentile dicendo accetto di fare la voce Austria dopodiché la voce Austria esce non firmata con un asterisco redazionale questo mi sembra significativo e si capisce anche il perché perché è una voce che contraddice completamente quanto Carlo Antonio aveva sostenuto nella voce sul nazionalsocialismo del 34 e perché la contraddice perché tutta la tesi di Carlo Antonio cioè di mostrare come Mussolini avesse cercato di difendere l'indipendenza dell'Austria in questo caso non avrebbe potuto reggere e quindi l'appiattimento sul presso mi sembra che incominci ad avere una certa rilevanza e tanto più che viene motivato con il debole sentimento nazionale degli austriaci questo francamente fa un po' sorridere e dice questa voce non firmata la riforma della Costituzione giunta in porto il 7 dicembre 29 non accontentò nessuno permaneva invece un senso di delusione di disagio che era essenzialmente di ordine morale nel campo economico l'Austria aveva fatto dal 23 notevoli progressi sia pure con l'aiuto del capitale straniero nel campo morale invece non aveva fede in se stessa nel suo avvenire come individualità storica e statale qui era la genesi psicologica del favore accordato da molti all'idea dell'anschluss in primo luogo dai tedeschi nazionali schiettamente pangermanisti poi dai socialdemocratici e si insiste lo stesso partito cristiano sociale che pur è rimasto il partito più schiettamente austriaco non si elevava ancora fino all'univico affermazione di un patriottismo austriaco e anch'esso finiva anche se non pienamente convinto con il lasciarsi rimorchiare nella scia dell'anschluss cioè c'è una giustificazione politica dell'anschluss cosa che ovviamente prima non c'era assolutamente non solo dell'anschluss ma della politica che ancora non era esistito ma della politica aggressiva dita nei confronti dell'altro e come giustifica l'atteggiamento il mutato atteggiamento italiano il redattore anonimo di questa voce così in Italia gli avvenimenti austriaci furono seguiti con profondo interesse ma con giusta comprensione l'11 marzo Hitler inviava il duce per mezzo del principe d'Assia una lettera nella quale esponeva i motivi che lo avevano costretto a intervenire nella questione austriaca il gran consiglio del fascismo nella seduta del 12 marzo prendendo atto della lettera del Führer riconosceva che gli avvenimenti austriaci erano il risultato di uno stato di fatto preesistente e l'aperta espressione dei sentimenti e della volontà del popolo austriaco il 13 marzo Hitler inviava al duce lo storico telegramma Mussolini non lo dimenticherò mai sintetizzando i sentimenti di gratitudine della Germania per la comprensione dimostrata dall'Italia il duce rispose mio atteggiamento determinato dall'amicizia dei due nostri paesi consacrata dall'asse insomma vi ho voluto citare questa voce solo per dimostrarvi l'avvicinamento dell'enciclopedia italiana alla politica estera mussoliniana anche se in maniera complessa perché non è Carlo Antoni no? allora per tornare a Carlo Antoni che è la figura diciamo di riferimento arriviamo alle tre voci importanti dell'enciclopedia minori che ho studiato per questa relazione sono tre fondamentalmente la prima è molto lunga e non potrò occuparmene nel dettaglio e la voce è niente meno che la Germania dal periodo antico fino all'età contemporanea sono 44 cartelle di voce inedite scritte da Carlo Antoni non usate dagli studiosi così come non sono state utilizzate la voce antisemitismo scritta da Carlo Antoni e la voce ghetto scritta da Deglio Cantimori quindi adesso brevemente mi avvio a illustrare quelli che sono a mio avviso i cambiamenti le ambiguità i silenzi che mi pare di poter rintracciare in queste voci in primo luogo nel periodo antico ovviamente la Germania entra nella storia solo dopo la conquista romana questo è un altro elemento molto importante che non ho tempo di sviluppare qui ma è il primato noto primato della civiltà latina in questi studiosi sulla Germania Germania che si sarebbe completamente occidentalizzata e questo è tranquillizzante anche se ci pensate solo con Carlo Magno Carlo Il Franco si sarebbe latinizzata in qualche modo è una cosa che succede anche a Chabot in un corso inedito che ho ritrovato adesso nel 38-39 cioè come si spiegano quello che sta accadendo quel patto che li tormenta se non come con il tranquillizzante primato latino questo mi sembra un elemento centrale corro verso la voce di storia contemporanea che riguarda più i temi del razzismo dell'antisemitismo di cui ho cercato di tracciare le linee in modo veloce beh è significativo perché Carlo Antonio in questa voce giustifica l'aggressione all'Etiopia questo è abbastanza nelle cose ma soprattutto fa venire meno quell'analisi delle affinità con il fascismo e vede l'alleanza con il nazismo semplicemente come un errore politico dell'Inghilterra che con le sanzioni spinge nelle braccia dei tedeschi l'Italia che insomma un po' discutibile come interpretazione leggo restituita in seguito a plebiscito la Zara la Germania Hitler iniziò la serie delle denunce del trattato di Versailles si inaspirano i rapporti con l'Austria il fronte di Stresa formatosi per sostenere l'Austria si sfasciò in seguito all'atteggiamento inglese nella crisi etiopica e si determinò quell'avvicinamento italo-todesco che portò alla costituzione dell'asse Roma-Berlino e c'è ancora almeno un passo interessante sostiene praticamente che la guerra mondiale scoppia negando l'aggressione tedesca alla Polonia perché la Polonia non accetta le richieste tedesche quindi anche questo mi sembra un dato piuttosto significativo e per concludere in modo abbastanza trionfale la voce si spinge fino all'ottobre fino al 41 per cui è un elemento veramente una fonte preziosa da questo punto di vista perché è raro trovare dei manoscritti di questo genere per quel periodo storico nel 41 in pochi giorni assieme all'esercito italiano quello tedesco piegava la resistenza della Jugoslavia e della Grecia e il 22 giugno 41 attaccava la Russia dal mare artico al mar nero anche qui mi pare che ci sia una vicinanza non trascurabile ma questa si può spiegare anche con la guerra mi sembra meno complicata vediamo invece le due voci che a me hanno più inquietato se posso dire anche se dovremmo amputare i nostri sentimenti a me a volte riesce difficile leggendo queste cose quindi mi perdonerete la voce di Carlo Antoni antisemitismo prendeva dei pezzi come spesso si usava per l'encicopedia minore dalle voci precedentemente scritte nell'encicopedia italiana salvo poi aggiungere aggiornamenti o punti di vista personali quindi erano voci un po' Frankenstein ecco diciamo così la prima parte la prendeva esattamente da Pinkerle movimento antigiudaico che risale a tempi antichissimi anche se il termine è recente in Roma nell'età imperiale l'avversione al popolo ebreo trova espressione tra l'altro inorazio e tacito seguì la letteratura antigiudaica cristiana con Tertulliano Cipriano Agostino la genealogia ripresa pari pari da Pinkerle qui invece incominciano a esserci delle differenze direi notevoli le ragioni dell'odio erano in parte economico-sociali in quanto l'ebreo esercitava di solito l'usura e qui Antoni fa proprio uno degli stereotipi più classici dell'antisemitismo ed in parte di natura religiosa frequente era l'accusa di omicidio rituale e taceva nella voce sull'antisemitismo Pinkerle aveva apertamente detto che la pratica dell'omicidio rituale è una situazione falsa dicendo gli storici si affrettarono ad accogliere dicerie calunniose tra cui l'accusa di venerare l'asino e di praticare sacrifici umani quindi come vediamo c'è una bella differenza tra le due voci e poi c'è l'altro elemento fondamentale l'antisemitismo è solo quello razziale e solo tedesco si annuncia così l'antisemitismo vero e proprio che prescindendo dal presupposto teologico giustifica la versione in maniera sistematica ricorrendo a concetti scientifici in tale forma si forma in connessione col nazionalismo tedesco sorto appunto in apposizione alle idee della rivoluzione francese e dell'illuminismo angolo francese e questo è anche un pezzo che lui riprende sempre da Pinkerle ma Pinkerle nella chiusura della sua voce non aveva del tutto escluso l'antisemitismo dall'Italia pur facendone un fenomeno minoritario aveva detto e anche in Italia il dopoguerra diede luogo a qualche pubblicazione antisemita anche qui però era dovuto a un'imitazione elemento importante si tratta per lo più di rimaneggiamenti di opere straniere quindi anche in questo seppur notando un fenomeno che era un fenomeno minoritario non lo taceva e invece sorprende che in questa lunga voce mi avvio verso la fine in questa lunga voce sull'antisemitismo non si facesse nessun cenno all'antisemitismo italiano se non con una frase nella quale si indicava che restrizioni erano state introdotte anche in Italia quindi anche questo mi sembra molto significativo oltre a ciò mi sembra molto da evidenziare mi sembra che ci siano alcuni pregiudizi stereotipi antisemiti inconsapevoli credo o che loro non mettono sotto la categoria dell'antisemitismo forse perché non è biologico ma mi pare che gli elementi ci siano per esempio una numerosa schiera di critici dice Antoni tra i quali il Barthels denunciò lo spirito dissolvente del giudaismo nell'arte letteratura e teatro Riccardo Wagner lo denunciò nella musica persino scrittori ebrei come Walter Rathenau accettarono l'identificazione dello spirito ebraico con la negativa critica intellettualistica ora sono elementi che ricorrono anche nella voce antisemitismo tradizionale del PNF mi sembra che qui ci sia uno slittamento difficile da comprendere io non riesco devo dire forse potete aiutare voi a comprendere questo slittamento di Antoni in questa fase e che forse riapre anche la questione Chabot Momiliano che mi aveva sempre visto dalla parte di Chabot ma forse Momiliano sapeva più cose di quelle che noi sappiamo e di quelle che si dicono nelle lettere e quindi questo apre degli scocci interessanti secondo me e continua in un altro passo importante in Francia monarchici nazionalisti denunciarono i legami tra il e la massoneria il radicalismo e la speculazione finanziaria finché non si giunse l'affare Dreyfus insomma sono passi molto diversi da quelli che noi troviamo nella voce antisemitismo di Pinker non c'è dubbio Pinker aveva proprio denunciato come uno stereotipo classico questo abbinamento giudaismo rivoluzione e quindi mi pare per esempio ancora insisteva Antoni la partecipazione di elementi ebraici alla rivoluzione bolshevica e in molti spartachisti provocò specialmente in Germania nuove ostilità e Pinker aveva detto cose molto diverse soprattutto aveva reso palese il carattere strumentale pretestuoso che in Russia aveva portato il governo zarista a ritenere gli ebrei responsabili di tutti i moti rivoluzionali sottolineando cosa che spariva nel testo di Antoni i pogrom violentissimi del 1905 cioè ci sono anche molti silenzi ma non insisto e vado a Cantimori vado a Cantimori alla Voceghetto la Voceghetto uscì nel 32 se non ricordo male ad opera del grande studioso Umberto Cassuto rabbino grande biblista di fama internazionale Cassuto aveva chiaramente denunciato fin dall'inizio il carattere persecutorio del ghetto scindendolo dalla volontà invece dalla costituzione di quartieri bianchi ebraici per spontanea volontà della popolazione ebraica ed era una distinzione che anche Cantimori teneva all'inizio della Voce salvo poi in maniera piuttosto sorprendente aggiungere l'esistenza aspettate scusate vediamo se lo trovo gli ebrei no questo è sempre Cassuto scusatemi il ghetto è sorto dice Cantimori dalla tendenza degli ebrei a riunirsi fra loro e dalla volontà di capi ebrei di conservare meglio in ambiente omogeneo le proprie forme di vita adesso mi sembra molto significativo comunque mi avvio la conclusione l'unica cosa che mi pare di nuovo significativa è che Cantimori nella Voceghetto aggiunge di nuovo identificando e sovrapponendo l'antisemitismo esclusivamente con la Germania aggiungeva che la legislazione razzista in Germania ha restaurato l'uso di riservare agli ebrei determinate strade e in alcune città della Polonia ha istituito veri e propri nuovi ghetti Varsavia 40 cioè c'è il tentativo di proiettare questa è la mia interpretazione tutte le parti peggiori sull'antisemitismo tedesco evitando di fare un confronto vero con le compromissioni con la partecipazione con gli abbagli anche se vogliamo e chiudo questo credo sia un problema che riguardi l'altra cultura italiana e mi pare significativo che nel novembre 43 in un opuscoletto del partito liberale intitolato della storia d'Italia di Antoni questa sottovalutazione del fascismo appaia in tutta la sua in tutta la sua evidenza novembre 43 che ci dice anche molto di quanto ho detto fino adesso in vano no scusate chiudo con questo l'adesione dove ci fu fu un'adesione passiva gli italiani ubbidirono quando non poterono farne a meno combatterono anche ma non credettero nonostante le vibranti manifestazioni di febe in vano cerimonie riti pretesero d'evocare l'atmosfera mistica trattata come massa cioè come materia senza anima il popolo reagì da massa con l'inerzia in vano un preteso nuovo ordinamento economico sedicente corporativo offrì il pretesto per una plettorica nuova burocrazia assicurò l'adesione soltanto di arrivisti e profittatori cioè c'è una banalizzazione del fascismo che mi sembra l'Italia fu simile ad una galera dove ad eccezione dei ben compensati addetti al governo e alla sferza la ciurma legata al remo attendeva la libertà dal naufragio tale nave fu lanciata nella tempesta della nuova guerra mondiale fu lanciata nelle peggiori condizioni di preparazione tecnica e ai primi urti si sfasciò l'antirisorgimento con coerenza storica aveva compiuto la sua opera grazie allora siamo rientrati nei tempi grazie è stato bravissimo è molto interessante allora prima con Andrea ma tutti abbiamo visto il potere accademico no? il rapporto centro-periferia le facoltà i concorsi le terne e adesso siamo passati a vedere un altro aspetto le storie personali il dramma il dramma degli intellettuali coinvolti le loro posizioni il rapporto mentale eccetera tutto questo negli ultimi tempi è più facile da affrontare per la disponibilità di fonti non nuove ma messe a disposizione degli studiosi mi riferisco al materiale conservato all'istituto storico di Roma dell'età moderna e contemporanea che raccoglie appunto carteggi saitta sciabù eccetera che sono fonti fondamentali io volevo sapere una cosa scusa Dario questa cosa del novembre 43 dove la scrive Antoni? su un obbuscolo invitato dal capito di Dario quindi una cosa pubblica pensavo che fosse una qualche lettera scritta allora abbiamo molte cose cui ragionare possiamo avere un piccolo dibattito dopo e allora adesso facciamo la visto che siamo in la pausa allora completiamo i lavori di stamattina con un altro giovane che gioca in casa perché è Matteo Caponi della scuola normale e quindi gioca in casa è un grande piacere la parola su un argomento molto specifico molto interessante che riguarda gli studi storico religiosi durante il regime fascista un settore relativamente ristretto ma è un settore che ha sofferto moltissimo del rapporto col fascismo per una serie di motivi ce ne spiegherà la conciliazione eccetera e la lunga tradizione di studi di questo genere colpiti poi durante il fascismo allora a te Matteo sì mezz'ora 35 minuti grazie e ringrazio innanzitutto gli organizzatori del convegno per l'invito due parole per definire il campo della mia ricerca e soprattutto di questa relazione studi storico religiosi prenderò soprattutto in considerazione gli studi storico religiosi per come si definiscono nella loro professionalizzazione accademica durante il fascismo e in particolare come vedremo parlerò soprattutto di coloro che sono considerati due nomi tutelari degli studi religiosi durante la dittatura cioè pettazioni e buonaiuti penso sia ancora un dossier aperto questo sui due personaggi che ho citato quindi penso valga la pena comunque tornare su alcuni aspetti meno noti della loro produzione il punto di vista comunque della mia relazione più che sulla diciamo conformazione accademica e lo sviluppo accademico degli studi storico religiosi sarà sul loro appunto uso pubblico inteso forse più come consumo pubblico e soprattutto come impegno da parte appunto di la che ho citato nel diffondere alcuni concetti degli studi storico religiosi concetti accademici divulgarli renderli appunto circolanti nell'opinione pubblica e in definitiva studiare la loro parte della loro produzione come agente della cultura nazionale e di conseguenza anche verificare se e quanto la loro produzione pubblica possa convergere pubblica e meno pubblica possa convergere con l'ideologia fascista innanzitutto la scelta di concentrarsi su pettazioni e buonaiute è anche determinata dall'importanza che la sede romana la sapienza ha nello sviluppo degli studi in questione durante il ventennio fascista nel 24 nasce la scuola di scuola di religiosi fondata appunto da pettazioni e anche da buonaiuti all'epoca buonaiuti fu il primo direttore a cui successa appunto pettazioni nel 26 una scuola che vuole assolvere un compito che come ha già ricordato Andrea Mariuzzo lo stato liberale non era stato in grado di assolvere cioè quello di valorizzare questo campo di studi e non semplicemente dopo l'abolizione delle facoltà di teologia ignorarlo e Pettazioni nel Raffaele Pettazioni nel 38 scusate nel 37 in un'intervista sul giornale d'Italia definisce appunto la la missione quasi di Roma agevolata dal governo Mussolini che ha istituito la prima cattedra di storia delle religioni appunto da lui ricoperta con il concorso del 1923 ecco la missione di Roma nel promuovere uno studio critico delle religiose quindi primato di Roma primato che viene ribadito in una in un suo saggio su civiltà fascista del 1938 in cui riconosce al fascismo il merito di aver disperso lo spirito agnostico del laicismo lo stato totalitario provvede così all'incremento degli studi religiosi scrive Pettazioni secondo la necessità della cultura nazionale ora come è noto durante appunto il fascismo si sviluppa questa disciplina di storia delle religioni la scuola petazzoniana dopo il concorso del 23 c'è il concorso del 35 che verrà vinto da Uberto Pestalozza a Milano quello che manca invece è un concorso di storia del cristianesimo è noto i motivi diciamo sono abbastanza noti la storia del cristianesimo verrà insegnata per incarico come liberi docenze ma non verrà mai fatto un concorso durante il fascismo e qui pesa naturalmente l'eredità del cristianesimo e più ancora l'eredità del concordato è abbastanza noto il documento il promemoria del 32 del ministero dell'educazione nazionale in cui si afferma in modo chiaro la storia del cristianesimo non si insegni nelle scuole negli istituti universitari pubblici ma venga delegata agli istituti ecclesiastici nella Roma sacra restituita dal concordato la storia del cristianesimo e la storia ecclesiastica deve essere fatta dagli ecclesiastici questa è una direttiva che di fatto verrà messa in pratica dunque detto questo quindi assenza di storia del cristianesimo come disciplina riconosciuta a livello concorsuale scuola pettazzoniana come sappiamo il ruolo di pettazzoni nell'enciclopedia italiana è determinante con un asse congentile allo stesso tempo però la scuola pettazzoniana viene contestata dal mondo cattolico soprattutto dopo la conciliazione in un'ottica anticomparativista e qui abbiamo ovviamente l'esempio di Tacchi Venturi la storia delle religioni da lui curata dal 34 al 36 che si muove in un'ottica totalmente opposta alla scuola evoluzionista di pettazzoni cioè non si possono comparare le religioni le religioni antiche le religioni primitive le religioni anche del libro comunque con il cristianesimo che è la vera religione semmai si possono individuare nelle religioni passate e presenti degli elementi naturali per cristiani che il cristianesimo può riconoscere questa tra l'altro è una distinzione canonizzata anche da Gerarchia che recensisce l'opera curata da Tacchi Venturi con una recensione positiva spiegando che prima di tutto il libro l'insieme dei saggi mostrano l'inconsistenza del materialismo il ruolo della religione che si impone nella storia e mostra in ogni caso la missione universale di Roma questa è una recensione del 38 su Gerarchia appunto anticomparativismo che quindi si pone in contrapposizione con la scuola pettazzoniana che poi ha una diciamo traduzione divulgativa se vogliamo nell'attività dell'istituto di studi romani nella produzione varia dell'istituto che coinvolge anche storici più paschini che appunto seguono una linea molto diversa da quella sia della storia del cristianesimo di scuola buonaiutiana attenta alle origini del cristianesimo in chiave storico-critica sia anche della scuola pettazzoniana comparativista una linea teleologica providenzialista ribadisce un'evoluzione dalla Roma antica alla Roma cristiana ci torneremo magari se c'è tempo la famosa frase Roma onde Cristo e Romano diventa un ciclo di conferenze alla quale partecipa anche Pio Paschini Pio Paschini partecipa anche a dei congressi dell'istituto di studi romani in uno in particolare se non sbaglio è quello del 35 ma gli altri vengono pubblicati qualche anno dopo nel 38 appunto ribadisce la distinzione tra oriente e occidente cristiano la visione di Roma della Roma cristiana fionfante sulle chiese nazionali che si sono distaccate da Roma naturalmente la data è una spia significativa di questa appunto posizione siamo in una fase in cui la Santa Sede intende promuovere un fascismo che sia distaccato dalle tendenze statolatriche pagane proprie del nazismo e quindi naturalmente si sottolinea alcuni elementi funzionali a questa logica e al tempo stesso lo stesso Paschini ribadisce e siamo nel clima della guerra d'Etiopia ribadisce la lotta secolare della romanità cristiana contro il turco criticando questa è una nota di attualità la società delle nazioni perché la Turchia siede adesso nella società delle nazioni e può giudicare l'Italia quindi vedete anche qui la polemica dell'attualità si intreccia alla appunto visione di Paschini sulla storia cristiana ma veniamo ora ai due personaggi su cui concentrerò invece l'attenzione Buonaiuti e Pettazzoni e intendo qui dare qualche elemento mi spiace non poter scendere troppo in dettaglio ma soprattutto della loro posizione si può dire pubblicistica e divulgativa in senso lato per evidenziare alcuni temi che presi dalle loro studi mi sembra rivestano una chiara valenza politica per sintetizzare i temi sono romanità rapporto tra Roma cristiana e Roma antica e poi tema della religione romana religione dello stato religione dell'uomo Pettazzoni dunque Buonaiuti sappiamo probabilmente avete presente il libro che Buonaiuti dedica a Lutero e alla riforma nel 26 una delle grandi linee di Buonaiuti è il tema della contrapposizione tra riforma luterana e cattolicità è interessante che questi appunto questi temi trovino uno spazio nella stampa più o meno fascistizzata diciamo dal 26 fascistizzata nella logica che dicevo la rivendicazione della romanità legata alla nuova fase instaurata dal regime ma sono anche altri libri apparentemente più neutrali di Buonaiuti che destano attenzione sulla grande stampa d'opinione anche sul Corriere della Sera per esempio la storia del cristianesimo nell'Africa romana viene legata in modo diretto al colonialismo italiano cioè la ricostruzione di Buonaiuti del 28 si dice ci fa pensare al fatto che l'Italia sta riprendendo il suo cammino in quelle terre che erano cristiane scristianizzate ora vengono ricristianizzate grazie agli stessi legionari romani che già marciavano al fianco del cristianesimo vedete la lettura parziale ma che isola questo elemento tra l'altro è una lettura che lo stesso Buonaiuti aveva autorizzato in tempo di guerra perché in tempo di guerra Buonaiuti scrive una lettera a Uten in cui dice sto organizzando il corso sul cristianesimo nell'Africa romana 15-16 avrà un'intonazione schiettamente nazionalistica potrei dire guelfa si tratta di riportare in auge la nostra tradizione etnica e culturale la lotta secolare qui sono fuori dalla citazione contro il germanesimo e dice Buonaiuti la cui penetrazione è ammorbante quindi vedete lettura di parte però anche autorizzata da una convinzione buonaiutiana ma naturalmente l'episodio più famoso di Buonaiuti è quello relativo al concordato Buonaiuti simbolo diventato simbolo poi dell'antifascismo perché non giura nel 31 si ricorda forse poco il fatto che appunto la sua rimozione deriva dal dal 31 non deriva dal 29 proprio perché il concordato l'articolo 5 non venne considerato almeno per il momento retroattivo come invece venne fatto dal governo democristiano nel secondo dopoguerra e qui ci concentriamo mi concentro brevemente su un aspetto che ha già richiamato in modo molto approfondito Roberto Pertici l'intervento di Mussolini i famosi due interventi alla Camera e al Senato di Mussolini del maggio 29 in cui Mussolini afferma la famosa frase sul cristianesimo che se fosse che è nato in Palestina ma è diventato cattolico a Roma se fosse nato e rimasto nella Palestina sarebbe appunto rimasto una delle tante sette ebraiche rincara la dose tra l'altro Mussolini nel discorso al Senato parlando del giudeo cristianesimo e soprattutto citando due opere Duchenne Histoire ancienne dell'Eglise all'Indice e Batifol l'Eglise Nessant e l'Eccatolicisme famosa è la risposta anche di Pio XI frasi modernistiche però è anche altrettanto interessante notare certo si rifiuta questa concezione storicistica per cui l'universalità del mandato evangelico non risieda già nella predicazione apostolica ma già Pio XI spiega certo altra cosa sarebbe stata citare la missione provvidenziale dell'impero romano citando Dante e Leone Magno come vedete non si rifiuta quindi questo legame ma ancora più interessante è che Bonaiuti scrive e questo è meno citato sul Corriere Padano quindi Nello Quillici un articolo siglato E.B. Gli studi religiosi in Italia in cui esalta in modo evidente in modo perentorio l'opera del Duce che ha cristallinamente individuato il rapporto tra la predicazione messianica di cui si sono alimentate le prime comunità della Palestina e la Siria e il messaggio di salvezza universale che Paolo ha portato al mondo ellenistico romano anche qui spiega Bonaiuti Roma ha la grande missione di qui siamo nel pieno mito italianista di propagare la civiltà mediterranea incoraggiando gli studi storico-religiosi e Mussolini proprio questo secondo Bonaiuti sta facendo incoraggiando gli studi storico-religiosi tra parentesi è interessante notare che sulla nuova antologia all'epoca guida gentiliana è un altro ex-modernista Umberto Fracassini che spiega il significato del concordato nel giugno 29 facendo una distinzione ripresa da gentile in modo abbastanza diretto sul Corriere della Sera tra Stato confessionale e Stato cattolico Fracassini scrive il concordato fissa un lungo escursus storico spiegando come l'età medievale sia un'età di confusione tra Stato e Chiesa tra potere imperiale e potere ecclesiastico il concordato riconosce un'acquisizione della modernità cioè il fatto che la Chiesa riconosca lo Stato come società perfetta il concordato italiano non riconosce lo Stato come confessionale ma come Stato cattolico il che è molto diverso ed è la posizione gentiliana che Gentile riprende che gli permette di dire che lo Stato etico rimane diciamo intatto e ancora più interessante il fatto che Buonaiuti rivendica questo legame tra cristianesimo e italianità all'indomani del concordato nel settembre 29 con un articolo anche questo poco citato affirma Giulio Dolci San Paolo e Roma su gerarchia è un articolo da quello che risulta in cui viene scritto dopo un contatto con la Sarfatti e qui Buonaiuti esalta il ruolo mistico di Roma cioè Paolo in realtà è colui che si è abbeverato dell'anima mediterranea quindi non solo Paolo ha trasformato il cristianesimo ma ha accolto quella missione dice Buonaiuti missione di Roma che non è soltanto civile politica ma anche spirituale e religiosa quindi vedete c'è già un elemento anche questo molto interessante del pensiero buonaiutiano che può convergere con anzi viene usato volutamente per sostenere la posizione mussoliniana contro naturalmente i clerico nazionali San Paolo è un tema che ricorrere continuamente nel pensiero buonaiutiano e Buonaiuti pubblica diversi articoli non c'è tempo qui di entrare nel dettaglio sia sul Corriere Padano che sulla stampa all'epoca a direzione di Malaparte e poi di Augusto Turati allo stesso tempo un altro personaggio che emerge altri due personaggi che emergono anzi sono Agostino Sant'Agostino di cui si celebra il quindicesimo centenario della morte nel 30 e Gioacchino da Fiore come sapete Buonaiuti si occupa dell'edizione di alcune opere inedite di Gioacchino volute da Fedele però anche qui è interessante notare come in questi articoli sotto pseudonimo Giulio Dolci sempre Agostino diventa qualcosa di più che appunto uno dei grandi vescovi dell'età tardo-antica che fondano la Chiesa la Chiesa cattolica diventa colui che prima di andare a prendere a Milano il battesimo della cristianità scrive riceve il battesimo della romanità dunque anche qui la tradizione è la tradizione latina scrive Buonaiuti la filosofia della storia di Agostino che conta non tanto la sua ecclisiologia e allo stesso tempo Gioacchino da Fiore Gioacchino da Fiore mistico profeta millenarista viene interpretato in una chiave certo che non è direttamente riconducibile alla fascistizzazione della sua figura che per esempio farà casciola su gerarchia dicendo che Gioacchino e qui recensisce di fatto l'opera di Buonaiuti inculca l'idea delle aristocrazie spirituali che guidano il mondo però comunque Gioacchino diventa il profeta di uno spirito anche per Buonaiuti uno spirito extra ecclesiastico uno spirito che lui non precisa si possa trovare nello stato naturalmente ma è uno spirito che ha un valore antimaterialista comunitario comunitarista si potrebbe dire organicista ed è colui che ribadisce il legame corporativo riprendo l'espressione che è Buonaiutiana riferita a San Paolo ma che potrebbe essere applicata anche appunto a Gioacchino da Fiore poi il tema della Romanitas si applica in Buonaiuti come avevo già anticipato nella lettura dell'uteranesimo Buonaiuti scrive altri articoli sulla crisi religiosa cosiddetta crisi religiosa nella Germania nazista anche qui un articolo tra l'altro è pubblicato su Politica di Coppola nel 34 questa volta affirma Ernesto Buonaiuti la genealogia classica è l'uteranesimo stato statolatria stato nazista stato totalitario nazista si dice siamo ovviamente nel periodo della polemica antitedesca quindi diciamo anche in questo caso la produzione di Buonaiuti serve a sostenere la politica che si contrappone all'espansionismo itleriano ma ancora più sorprendente sono le posizioni di Buonaiuti espresse su Lambrosiano durante la guerra d'Etiopia durante la guerra d'Etiopia Buonaiuti critica il tribunale del calvinismo ginevrino come tribunale inquisitoriale facendo proprio riferimento alla storia dell'inquisizione romana un tribunale che predica una falsa giustizia contro quell'Italia proletaria che ha inutilmente chiesto soddisfazione a Ginevra e così attacca l'episcopato anglicano infettato della mentalità protestante che a una delle conferenze di Lambert ha affermato la legittimità della limitazione delle nascite Buonaiuti scrive aumento demografico e diritto all'espansione sono legati indissolubilmente e se il primo risponde a una legge inviolabile di Dio anche il secondo è tutelato a Dio durante la mostra agustea Buonaiuti torna sul tema della coscienza di Roma anche qui emerge il tema buonaiutano della religione mediterranea Agostino è colui che ha intestuto le virtù della Roma civica e non è colui che ha contrapposto la città di Dio alla città dell'uomo la città dell'uomo diventa provvidenzialisticamente rivolta alla città di Dio Gioacchino da Fiore nel 39 viene celebrato anche per la sua riconquista degli ideali classici che è più difficile da capire però come vedete abbiamo una forte ideologizzazione una progressiva ideologizzazione nella produzione pubblicistica di Buonaiuti fino a arrivare appunto a letture che non si discostano molto da quelle proposte nella mostra dell'agustea del 37 in cui come sapete veniva promossa una continuità molto stretta tra la storia di Roma antica e la storia cristiana e al tempo stesso veniva assunta la visione anticomparativista perché la sala del cristianesimo era all'interno della prima sezione della storia eterna di Roma prima della storia dell'Italia della Roma littoria e fascista la sala 25 la religione romana curata da Nicola Turchi amico di Buonaiuti modernista storico delle religioni era trattata a parte nella vita quotidiana abbiamo proprio la traduzione dell'anticomparativismo nella mostra del 37 la religione di Roma è un qualcosa di diverso di morto sostanzialmente la religione della Roma antica quello che vive è il cristianesimo ed è l'editto di Milano paragonata al concordato che viene celebrato in modo appunto magnilocuente ecco Buonaiuti in questi articoli non va molto non è molto lontano da celebrare questa visione provvidenzialistica della storia anche a costo di approssimazioni storiografiche molto forti e vengo all'ultima parte perché il tempo stringe Pettazzoni come sapete Pettazzoni ricordato per la sua fede laica il suo libro del 52 Italia religiosa citato da Emilio Gentile riflette sul tema della religione politica questa è una domanda che ci dobbiamo fare naturalmente per valutare se e quanto il suo sapere storiografico influisce sulla definizione di una categoria ora Pettazzoni non usa religione politica a quanto ho visto se non in uno scritto privato del 22 religione politica le sue categorie sono religione dello Stato come è noto è religione dell'uomo religione dello Stato emerge fin dagli studi degli anni 20 su Zarathustra e la Grecia Antica insieme a religione della Polis religione dell'uomo è quella naturalmente rivolta alla salvezza ultraterrena personale non è la religione di qua è la religione dell'aldilà la religione che emerge non solo con il cristianesimo ma per esempio anche col buddismo è interessante però notare che Pettazzoni si sofferma sul tema della religione dello Stato soprattutto in alcuni scritti che riguardano lo scintoismo e quello già citato su Augusto del 38 gli atti dell'Accademia degli Incei dunque scintoismo viene il tema viene affrontato nel 29 nell'introduzione al libro sulla mitodologia giapponese nel 34 in una lezione all'ismeo nel in un libro di propaganda del 42 propaganda italo-giapponese e nel dizionario di politica allora per Pettazzoni lo scintoismo è religione dello Stato lui fa diciamo una digressione molto interessante sulle origini del lo scintoismo nei suoi rapporti con il buddismo ci interessa però notare come definisce in controluce la religione dello Stato in occidente allora lui scrive nel 29 ma questo viene più o meno ripreso negli anni successivi lo scintoismo non venne distrutto dal buddismo mentre invece la religione dello Stato in occidente è stata distrutta dal cristianesimo anzi scrive dal trionfo totalitario del cristianesimo il neopaganesimo che si è sviluppato questo lo scrive nel 29 è un neopaganesimo letterario artificioso correnti che si ispirano al neopaganesimo esistono e cita la religione di Votan e Evola imperialismo pagano in Italia proprio ieri insieme al fascismo all'imperialismo si auspicava appunto un ritorno alla religione imperiale romana ma sono correnti e voci che non sembrano scrive destinata a intaccare la compattezza cristiana del mondo occidentale questo viene ripreso questo discorso nel 34 scusate ora trovo il punto nel 34 si celebra appunto lo scintoismo cioè non è che si celebra si traspare una simpatia per la religione dello stato scintoista a mio parere come religione della patria e si dice oggi in occidente le cose sono cambiate cioè sono cambiate rispetto all'assenza di questa religione assenza che pepettazioni è la sua cioè deriva dalla sua mancanza di autonomia dal cristianesimo oggi in occidente le cose sono cambiate e forse sono in via di cambiare ancora di più assistiamo al formarsi di una nuova coscienza religiosa della nazione e della patria lo stato come espressione della nazione ne ha a sua volta investito la religione della nazione e della patria sta oggi cercando in europa le sue forme queste forme esse le possiede in giappone da tempo immemoriabile come le possedeva nello scomparso paganesimo occidentale oggi la preoccupazione modernistica in giappone eccetera insomma continua però di fatto è in atto un mutamento religioso per pettazioni che può portare per analogia a una riscoperta di quella religione della patria che pettazioni vede affermarsi risultare affermata in giappone religione dello stato appunto quindi si può dedurre questo su questo hanno già assistito gli storici della religione vari storici della religione sul fatto che pettazioni in realtà pensi che il totalitarismo fascista non sia una religione dello stato non sia una religione dello stato perché appunto la religione dell'uomo nell'europa cristiana si è affermato e l'ha scalzato o meglio ha inglobato questa religione dello stato ma l'ha svuotata dei suoi contenuti autonomi e non a caso nel contributo del suo augusto del 38 pettazioni lo scrive quasi in modo diretto descrive la religione imperiale come adattamento della religione orientale ellenistica del sovrano alla tradizione religiosa di roma la religione imperiale d'agusto per lui è molto diversa dalla religione di cesare quindi è una religione dello stato e però lo stato con l'editto di milano rinuncia ad avere una sua religione si perde questo aspetto per aspettazioni per sempre nella storia dell'occidente cristiano per la prima volta lo stato rinunzò alla sua religione connaturate progressivamente adeguate ai suoi fini terreni per assumerne una orientata verso l'aldilà finisce l'opera religiosa di agosto l'impero romano non sopravvisse ai suoi dì ciò che sopravvisse in roma fu ancora romano nella forma ma non nello spirito come vedete è una diciamo posizione abbastanza velata ma a mio parere trasparente sulla religione politica fascista su come diciamo Petrazioni non esprimerà in pubblico quello che esprimerà nel dopoguerra il suo riservo anzi la sua critica del regime concordatario non ci sono attestazioni pubbliche durante il fascismo le esprimerà nell'immediato dopoguerra nel clima dell'Italia democristiana però ecco diciamo viene confermata questa sua posizione il regime concordatario in realtà fissa una mancanza di autonoma religiosità politica allo stesso tempo lo scintoismo per Petrazioni diventa un modello a mio parere diventa un modello come era il modello augusteo cioè in realtà lo scintoismo riesce a in modo sincretico a coniugarsi con la religione dell'uomo della salvezza dell'uomo ultraterrena a me sembra che qui Petrazioni in modo molto ermetico forse in modo appunto anche con qualche autocensura voglia indicare una via una via possibile per affermare una religiosità politica nell'italia cattolica cioè quella di non cercare contrasto tra esigenze della patria e richieste della religione in nome di una religiosità dello stato che spiritualizza alcuni contenuti dell'antico paganesimo come appunto fa lo scintoismo naturalmente questa questa via tra l'altro che viene anche calcata dal suo collega Tucci orientalista che partecipa anche lui a questa impresa del libro dell'amicizia si ho quasi finito Italo-Nipponica e tra l'altro in questo libro appunto sull'amicizia dedicato all'amicizia di Italo-Giapponese c'è un articolo di un accademico giapponese Isao Yamazaki che spiega appunto come secondo il concetto fascista l'individuo prima dei diritti ha dei doveri i doveri verso lo Stato e lo Stato concede diritti alla collettività l'individuo deve quindi agire in funzione della nazione in questo il fascismo si è avvicinato allo spirito giapponese quindi gli storici della religione vengono mobilitati in questa impresa tra l'altro è noto Tucci fu ampiamente impiegato dal regime per preparare il terreno con l'alleanza col Giappone quindi anche in India prima però è evidente il regime ricorre a queste personalità che hanno una competenza sono esperti del settore e Tucci sempre in questo al di là di questo libro pubblica e con questo chiudo un manuale le edizioni nella collana della biblioteca popolare di cultura politica Le Monnier 1942 il Bushido consigli ai militari sui fronti di battaglia parla dell'educazione samurai tema appunto abbastanza immediato viste le circostanze scrive appunto spiega come nell'etica samurai che riprende integra buddismo e in questo caso shintoismo ci sia l'idea della morte per la stirpe intesa in un'ottica spirituale che si confonde con che confonde imperatori e studito e studiti in un sol corpo che predica il sacrificio e il morire come atto liturgico e soprattutto chiude l'introduzione spiegando come il Bushido esce dal Giappone conduce alle soglie di quel cielo dove brilla la luce delle più angelicate perfezioni umane in quel mondo di spirituale trasparenza l'eroe giapponese non è più solo egli conversa nel linguaggio delle idee eterne con gli eroi di altre genti i caduti sulle rive del pacifico si affratellano con i morti eccetera eccetera sulle steppe di russia in terra per male nel cielo tutti i custodi immortali delle virtù umane tutti perennemente vivi nella gloria del sacrificio ove sia santo e lacrimato il sangue per la patria versato il Bushido quindi anche in questo caso diventava la via di una religiosità che poteva unire in modo indolore esigenze della patria religioni della patria e sincreticamente la fede tradizionale del popolo che per il giappone era il buddismo per l'italia non si diceva era il cattolicesimo grazie grazie Matteo è un argomento su cui so pochissimo ma questi due colossi Pettazioni e Buonaiuti sono stati importantissimi dalle cose che ci hai detto questo rifiuto della storia comparativa e io di Pettazioni sapevo solo i riferimenti di Gentile invece ho imparato molto di più però voglio leggerla perché è una cosa non è proprio tanto leggera come temi sono alti temi e quindi non vedo l'ora di leggerla e ci sarà tutto il problema poi degli alunni di questi no? degli alunni Buonaiuti la prima cosa che mi viene in mente è che Buonaiuti è legato Iemolo è legato a Buonaiuti e quindi quella forma di religione laica diciamo di cui Iemolo è stato un esponente viene da là no? però rispetto alle cose che dicevi te insomma Buonaiuti scrive sul giornale di Balbo Corriere Padano eh non lo so vabbè me lo leggerò con calma e ne riparleremo allora adesso abbiamo siamo stati perfetti è mezzogiorno e un quarto quindi possiamo eh avere un po' di tempo con calma per parlare di tante cose che abbiamo detto stamattina silenzium eh rimani qua signor è stato molto importante cioè non scherzavo quando dicevo che la devo rileggere perché era molto densa capito come pensiero allora sì certo eh scusa ehm hai il microfono eh professore è meno necessario vuole venire qua eh in attesa che le persone mettano a fuoco i loro interventi importanti importanti mi limito a due osservazioni del tutto marginali marginali non riguarda la relazione sui manuali di storia il relatore non è più presente ah è ancora presente contrariamente a quel che aveva detto allora ad ogni modo no non è un'osservazione sulla relazione è una nota assolutamente marginale la presidente aveva notato che tutto sommato la comprensibile attenzione per i grandi manuali liceali aveva lasciato in umbra i manuali pure importanti per le scuole tecnico-professionali ecco io aggiungerei i manuali di carattere manuale cioè i sussidiari di carattere elementare per definizione ma fondamentale proprio per i fini di un potere di un potere autoritario quelli in uso appunto nelle scuole elementari dico subito che intervengo non come esperto ma come fonte storica perché purtroppo sono il solo dei presenti che abbia sperimentato la scuola elementare nel passaggio dal fascismo alla liberazione alla fine della guerra bene la terza elementare la facevo ancora in regime fascista ormai Repubblica di Salò qui in Toscana ma insomma i libri erano quelli e in terza elementare si faceva il risorgimento si cominciava la storia con il risorgimento un risorgimento che arrivava fino alla guerra in corso a quei tempi si arrivava fino al presente non ci si fermava si fermava lontano era una storia che più italocentrica non si potrebbe immaginare se è vero che la grande guerra era Tukur la quarta guerra di indipendenza e che poi le varie cartine sull'espansione dell'Italia dalla prima alla quarta guerra continuavano nella guerra in corso nella guerra in corso dove l'ultima cartina aveva il confine orientale aperto inglobava già l'Ubiana con grande ottimismo però rimaneva aperto e anzi in un tentativo di scuola attiva si chiedeva all'allievo perché il confine orientale è aperto perché la risposta sarebbe arrivata di lì a poco sia pure in senso diametralmente opposto a quello sperato la quarta invece gli alleati erano arrivati e quindi si era già in Toscana si era già nell'Italia libera però è chiaro che nessuno aveva avuto il tempo e il modo di predisporre non dico nuovi manuali ma insomma la parte storica nel sussidiario per l'elementare però ricordo a quei tempi i libri se ne aveva pochi io ne avevo pochissimi e quindi per cui ricordo questi libri perfettamente ricordo che la parte di storia antica che si faceva in quarta e che era soprattutto storia romana era vistosamente e raffazzonatamente censurata tanto che ho sempre avuto la curiosità di recuperare l'edizione originale ora sento dire che si fanno raccolte di questi manuali database eccetera può darsi che prima di morire riesca a colmare perché in effetti quella censura così vistosa proprio perché fatta cancellando pagine saltando pagine eccetera sì sì ma penso penso che anche alla nazionale dovrei trovarle ma insomma prima o poi mi leverò questa curiosità perché evidentemente quella censura toccava la parte di storia romana tornando a quel di cui si parlava si parlava ieri ed è interessante vedere come la storia romana venisse propinata già ai giovanissimi delle elementari ripeto a un livello elementare per definizione ma il livello formativo non è un caso che ogni regime autoritario è partito da dove si poteva essere sicuri di essere di essere accettati in quinta poi ormai la guerra era finita c'è la sua medievale moderna tutto era tornato abbastanza apparentemente nell'ordine tanto non mi ricordo niente di quel libro a dimostrazione di una famosa frase tal stoica che ora non sto a citare l'altra osservazione riguarda il tema eterno dei concorsi universitari che non può non toccare da vicino chi è stato chi è e chi sarà perché ci saranno ancora nella università ecco tocco solo il solo concorso relativo alla storia antica che è stato citato concorso del 36 dove arrivò primo Momigliano secondo Levi terzo Zancan Momigliano e Levi erano due notissimi allievi di De Santis Zancan discendeva dalla scuola di De Santis attraverso Ferrabino Ferrabino De Santis da 5 anni il 36 era fuori dell'università era persona vitanda ma questo non impediva nei concorsi ancora di fare il riconoscimento alle persone che erano sicuramente le migliori su piazza curioso che i primi due Bongrè Malgrè dovette uscire dopo due anni Momigliano e Levi quindi si dovette rifare un nuovo concorso bene a questo punto interessante nel concorso del 39 che entra un nuovo elemento nella dinamica dei concorsi l'elemento costituito dalle scuole nazionali di storia riorganizzate insieme agli istituti storici nazionali nel 35 da De Vecchi eccetera rimanendo alla storia antica l'istituto per la storia antica purtroppo non c'è qui l'attuale presidente fu fondato nel 35 la scuola però ebbe attuazione solo nel 37 bene nel concorso del 39 vincono i primi due allievi della scuola Andreotti e Passerini e Passerini beh uno direbbe uno sarebbe portato a risolvere tutto in chiave piuttosto automatica non è così Andreotti lo conosco meno Passerini lo conosco perfettamente non l'ho conosciuto personalmente perché è morto a 45 anni ma insomma ne so tutto non erano fascisti o lo erano così non meno lo erano lo erano tutti la loro produzione sicuramente sicuramente non lo era sicuramente quindi quel meccanismo almeno nel caso della storia antica il meccanismo viene meno perché vincono loro perché in effetti in effetti nella riorganizzazione degli istituti le scuole erano state create per un fine di estrema utilità di permettere il travaso dai ruoli delle scuole secondarie all'università in un'epoca in cui i posti in università erano minimi e infatti quella funzione è stata svolta direi egregiamente salvo il mio caso metto tra parentesi fino alla fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 quando nell'università i posti sono moltiplicati è venuta meno l'esigenza di quei comandi tanto è vero che poi i comandi sono stati avoliti ecco anche in questo caso il meccanismo l'automatismo che parebbe ovvio scuola italiana e scuola di storia antica annessa all'istituto italiano per la storia antica che vince subito il primo concorso in realtà ecco l'invito è a in questo importantissimo interessantissimo convegno fascismo e storia antica approfondire come si è fatto tutti gli aspetti possibili immaginabili a evitare per quanto possibile è possibile anche degli automatismi che talvolta che sono a questo proposito ecco per chiudere questo interessantissimo database state facendo è accessibile online online posso me ne dà l'indirizzo lo guarderò con benissimo ti ringrazio mi scuso di essere intervenuto con due osservazioni assolutamente alate del tutto grazie più che opportune interessantissime come tutte certo io ho molto apprezzato la relazione di di Caponi perché ha confermato quello che è da dire la ignorante aveva un po' di rifaccio cioè che tra la cultura storica diciamo la visione della storia di Ernesto come noi che era precedente e poi i temi che circolavano nella cultura fascista da lettore dilettante di queste cose un pochino avevo sospettato sempre anch'io tanto che gli articoli sul Corriere Padano li avevo un po' ripubblicati anch'io e il primo che li segnalò diciamo all'Italia perché il Corriere Padano si leggeva insomma non è che fosse il Corriere della Sera il primo che li segnalò all'Italia fu Mario Missiroli nel libro Date a Cesare che è un libro importantissimo pubblicato nei primi mesi del 1930 messo subito all'indice quindi mi sono anche chiesto però questo quanto c'era questa affinità culturale detto in senso ampio del termine quanto anche l'essere in difficoltà fra virgolette nel senso che certo l'articolo 5 non era retroattivo Mussolini volle che non fosse retroattivo però oggettivamente Bonaiuti era in difficoltà ecco dopo il concordato quanto questo può avere influenzato anche certe sue prese di posizione perché si vive insomma si vive in un contesto che in qualche modo anche le persone di straordinaria statura insomma come era lui in qualche modo lo condizionano a questo punto a questo riguardo volevo segnalare ma forse Capogno lo sa già questo fatto un fatto che mi ha sempre incuriosito il fatto che ricerche religiose che era la rivista di Bonaiuti fu sospesa se io non mi ricordo male nel 1940 all'ingresso dell'Italia in guerra perché il bisogno di carta in qualche modo costrinse a un giro di vite nella pubblicazione di tutta una serie di riviste rischiò anche di chiudere perfino la critica di Benedetto Croce lui fece poi delle sue proteste poi era Croce insomma e la critica continuò a uscire stranamente ricerche religiose ricomincia rivede la pubblicazione nella primavera del 43 quindi a ridosso del 25 luglio io ho sempre e se si prendono i numeri il primo numero i primi numeri si vede che la cosa che più interessava a buonaiuti era la polemica contro Croce contro non possiamo non dirci cristiani di Croce che era uscito alla fine del 42 ecco mi sono sempre chiesto se questa improvvisa riapertura della rivista che certamente fu consentita dal come dire dal regime o dal ministero della cultura popolare ecco non sia legata a questa anche a questo progetto cioè di una ripresa della polemica anticrociana fra gli idealisti e Bonaiuti non correva buon sangue ecco quindi sarebbe da approfondire il motivo per cui ricerche religiose poter riprendere nel culmine della guerra appunto nel 1943 quindi a ridosso della fine del fascismo però Bonaiuti è anche l'autore per esempio di quel libretto la chiesa ora le amnesie la chiesa romana mi pare che sia del 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 33 34 che è pubblicato da questa strana casa editrice Ghilardi e Noto di Milano Ghilardi e Noto che era una casa pubblicata una una piccola casa editrice che pubblicò quattro volumi se io non erro ecco e e e e che era una casa in cui anche il Benedetto Croce pubblicò i suoi orientamenti che è un testo che per gli antifascisti di mezz'anni 30 ebbe un senso la chiesa romana pubblicata da Ghilardi e Noto ebbe l'unico libro di Bonaiuti che ebbe una buona recensione da parte di Omodeo sulla critica ebbe una recensione entusiastica da parte di Salvatorelli fu lì che coniò l'espressione il pellegrino di Roma che poi Bonaiuti riprese come il titolo delle sue delle sue memorie e era fu interpretato diciamo così dai contemporanei anche per la collocazione come un libro in qualche modo non allineato ecco per cui la figura di Bonaiuti ma a me non ha ecco non so non mi sorprende che nel 36 fosse favorevole alla guerra d'Africa ecco ecco perché ne avevo così da lettore lo ripeto assolutamente assolutamente dilettante ne avevo colto queste potenziali affinità latinità germanesimo lutero dissolutore il carattere mediterraneo insomma ne avevo tolto ne avevo colte queste potenziali affinità con una certa cultura che ma d'altro canto questo fu anche questo è anche un problema che pongo a chi se ne intende su di me il destino di molti modernisti i quali la maggior parte fu sostanzialmente filofascista degli ex modernisti Minocchi che insegnava qui a Roma a Pisa voglio dire anche lui perse il figlio in guerra c'è qui alla scuola normale proprio il libretto delle lettere del figlio con la sua commossissima diciamo Sigeri Minocchi quindi è interessante anche come questo mondo poi durante il ventennio in qualche modo ebbe questa loro che erano stati così come dire forse perché Mussolini per alcuni aspetti garantì sembra paradossale può sembrare paradossale ma l'ha detto Guido Calogero quindi di laicismo se ne intendeva che Mussolini dopo il 29 con la sua azione garantì il massimo di laicità che era possibile conseguire all'interno della cornice concordataria e forse questo loro lo avvertirono insomma ecco io scusa rispetto a quello che hai detto non ne so niente di queste cose però dicevo ricerche religiose nel 40 chi la pubblicava perché nel 40 è un po' presto per la carta nel 40 chiusero molte riviste questo è un fatto che voglio dire in realtà religio religio devo dire che non so molto sulle vicende di religio perché non esiste uno studio ecco questa è una cosa strana nel 40 la critica fu quasi sul punto di chiudere perché il problema della carta la volevano chiudere perché in realtà su appunto Bonaiuti e il fascismo ora ci sono vari che usciranno ma un testo di riferimento rimane ancora alla biografia di Giordano Bruno Guerri che comunque a livello informativo a livello informativo così siamo ridotti questo è il dato di fatto però a livello informativo da ancora degli elementi che non sempre vengono ricordati questo c'è bisogna bisogna dirlo posso fare una domanda a un esperto di Bonaiuti perché Andreotti io sarei perché Andreotti ha dedicato una biografia a Bonaiuti no scusa ovviamente che cosa ne pensi no vabbè lì ci sono delle strane cose per cui si rimanda al periodo del modernismo i rapporti con Roncalli c'è tutta una costruzione Bonaiuti a varie fasi naturalmente lì si rimanda alla fase quella considerata più nobile cioè la lotta modernista modernista all'interno ancora della Chiesa per il rinnovamento della Chiesa le sue appunto le sue posizioni pur coperte da pseudonimo ritenute coraggiose perché si schierò contro la Paschendi prendendo iniziativa in modo pubblico sì diciamo che più in generale il modernismo è per rispondere anche a Roberto Pertici è un fenomeno molto complesso è un'etichetta insomma come è noto che parla più degli antimodernisti che dei modernisti stessi perché è stata coniata in un'ottica appunto controversistica però è vero che è vero che molti modernisti impegnati per il rinnovamento religioso e politico dell'Italia del Novecento hanno aderito al fascismo tra l'altro una cosa anche questa che si ricorda troppo poco è che io non ne ho potuto parlare perché il tempo era quello che era ma la rubrica durante tutta la vita quasi tutta la vita di gerarchia la rubrica cronica del pensiero religioso viene tenuta da Fermi Fermi e da Ambrizio Casciola che è appunto uno degli esponenti più per noi nome ormai che ci dice poco uno degli esponenti più significativi del modernismo italiano e tiene questa rubrica per tutta la durata della rivista lui ha rapporti con la Sarfatti ha rapporti anche conosce anche Mussolini sembra in tempo di guerra però è una rubrica molto impegnativa dal punto di vista dell'elaborazione religiosa e politico religiosa a Casciola viene chiesto di non interessarsi di teologia ma di politica religiosa però ovviamente tra l'altro questo genera anche però è interessante perché Casciola si appunto si colloca nell'ambito della rivista di gerarchia voglio dire non è una rivista qualsiasi come sostenitore di tesi che naturalmente sono al limite dell'ortodossia cattolica uno dei grandi miti trasversali non solo all'ambito modernista è quello di Dante Casciola si muove il mito di Dante della monarchia naturalmente un'opera che ricordiamo era stata tolta dall'indice dal leone tredicesimo c'è tutto un recupero del dualismo mutuato da Dante che porta però a rivedere il concetto classico di ierocrazia medievale riformulandolo in un'ottica che naturalmente è funzionale per i modernisti a sostenere il concetto di uno stato etico non usano magari questo termine uno stato religioso che ha una sua diciamo eticità religiosa e questo diciamo è uno dei punti caratterizzanti l'adesione dei modernisti anche come buonaiuti che non aderiscono direttamente a questo concetto ma vengono molto influenzati a mio parere nella valutazione anche del regime al di là delle vicende biografiche sì come faccio un trattamento sulla cultura diplomatica in qualche maniera cultura quindi quello che diciamo ho scritto i nomi diplomatici durante il fascismo e ho notato proprio una serie di spiagni anche forti a soprattutto sull'enciclopedia minore e grazie non so com'è l'enciclopedia minore nel senso che per esempio sulla voce sulla Germania comunque nei diplomatici era assodato il discorso che era colpa dell'Inghilterra per l'alleanza con comunque la Germania e anche il discorso sull'antisemitismo era una cosa molto strutturata nel discorso diplomatico quindi io ho riscontrato insomma è un discorso molto semplicistico però interpretativo un discorso pubblico ufficiale su tematiche di politica di potenza e anche antisemitismo che attraversa l'alta cultura italiana in maniera trasversale cioè non solo nelle piattaforme universitarie ma nelle riviste stesse fasciste critiche educazione fascista gerarchia ospitano interventi che hanno comunque costruiscono un discorso ufficiale intriso di mito di italianità intriso di politica di potenza quindi quello su cui mi sto interrogando dall'inizio del convegno la cultura fascista sicuramente non può essere vista come un blocco monolitico assolutamente però presenta alcuni richiami in un discorso pubblico ufficiale comuni quindi io mi sto rompendo la testa sulla compromissione politica dei diplomatici durante il fascismo che è un po' quello che ritorna in questo convegno la compromissione politica degli intellettuali durante il fascismo e è interessante la lettura data a questo intervento sull'enciclopedia minore perché comunque lei riscontra nel cambiamento di linguaggio una un veicolo di compromissione una controprova della compromissione degli intellettuali quindi nel linguaggio si precipita un discorso propagandistico insomma alcune tematiche rimbombanti della propaganda precipitano nel linguaggio culturale dell'alta cultura fascista quindi questo è il discorso del linguaggio che si aggiunge al discorso che è venuto fuori più volte sui comportamenti comunque sul giuramento di fedeltà il giuramento di non fedeltà insomma aderire o non aderire al fascismo in maniera formale quindi diciamo si affiancano questi due modelli di compromissione politica mi chiedo se ne può aggiungere un'altra via di indagine per esempio attraverso quello che emergeva dalla sua relazione delle lettere personali ha citato una lettera di buon aiuti che mi ha colpito particolarmente nella quale lui rielabora la motivazione del suo intervento insomma quindi è interessante sarebbe un campo interessante leggere anche come la genesi di questo pensiero che poi veniva restituito pubblicamente su riviste e storiografia ma anche la genesi attraverso la corrispondenza privata ove presente naturalmente quindi la mia domanda principale a parte questo discorso introduttivo era l'enciclopedia minore uno posso consultarla dove questa è la prima domanda secondo cosa pensa lei di questo discorso sulla compromissione politica e sui veicoli di compromissione politica e come individuare una compromissione politica tramite tramite lo studio della cultura in qualche maniera bella domanda dovremmo andare a colazione è una domanda Dario mi raccomando non negare la mia identità grazie perché mi sembra che abbia colto proprio quello il problema grosso come come individuare il grado di compromissione questo è il punto io mi spiace se ho girato questa impressione di volere dare un'interpretazione moralistica ma non era proprio mia intenzione spero di non essere stato freinteso c'è un cambiamento di linguaggio semplicemente prima c'è un atteggiamento anti antisemita dopo non c'è mi diranno ovvio scoperto l'acqua calda perché ci sono leggi razziali può essere però c'è ed è un veicolo quindi io mi limito a questo non ho la pretesa di sapere al momento non ho neanche gli strumenti per farlo le ragioni per le quali questi intellettuali hanno questo mutamento questo non lo so credo che sia difficile da individuare e da scoprire ed è una domanda molto ed è sicuramente un impulso alla ricerca molto interessante quindi io penso che qualsiasi tenderei poi a non superficializzare però il fenomeno del regime fascista ecco io credo che abbia una sua specificità una sua specificità importante e quindi quanto riesca a entrare nell'interiorità degli individui veramente o no è argomento di difficile di difficile soluzione a cui su questo non so e non posso rispondere in questo momento io voglio dirle una cosa sulle fonti lei mi ha chiesto possono servire le lettere possono servire tutto serve solo non ne deve fare un uso specifico cioè non deve puntare una cosa solo su documenti diplomatici i loro rapporti non deve puntare tutto su quello quando la trova la corrispondenza privata o con gli articoli la difficoltà e la bellezza del nostro lavoro è proprio questa di unire le cose questo è una parola va beh ci si prova c'è qualcun altro che vuole intervenire va bene allora allora chiudiamo la mattinata bravissimi tutti siete stati puntualissimi con i tempi con rispettosi con i tempi e ci vediamo nel pomeriggio e sciogliamo buonasera riprendiamo addirittura con un minuto di anticipo ma appunto i tempi sono stretti e quindi cerchiamo di rispettarli il più possibile riprendiamo i nostri lavori con questa sessione conclusiva del convegno che è destinata ad affrontare l'argomento del fascismo e la storia rispetto a discipline non tradizionalmente considerate nella usuale visione della ripartizione storica vediamo appunto le discipline di storia di storia visiva ed anche discipline come come questa che sono in un rapporto particolare con con la storia disciplina antropologica dunque credo che sia questo un aspetto particolarmente interessante del tema che abbiamo affrontato e lo cominciamo a conoscere attraverso l'intervento di Elena Zapponi dell'Università Sapienza di Roma che appunto mi pare voglia fare un taglio di tipo etnologico antropologico nella sua esposizione il tema è l'uomo nuovo e abbiamo già visto quanto sia importante il richiamo all'italiano nuovo da parte del fascismo soprattutto nello svolgimento storico del fascismo l'uomo nuovo e le rappresentazioni del primitivo nel neocolonialismo fascista dunque grazie molte e le do la parola grazie dunque avrei bisogno di far partire le immagini adesso credo che stiano preparando benissimo dunque nel ventennio fascista in Italia le scienze della cultura e in particolare l'etnologia e l'antropologia sono discipline che servono a fondare il senso di superiorità dell'uomo nuovo fascista e una simmetrica inferiorità del colonizzato in particolare negli anni successivi alla proclamazione dell'impero le scienze antropologiche sono indistricabilmente connesse a una distinzione tra regno della cultura e abissi della natura e all'elucubrazione del mito italiano della razza eletta cercherò di illustrare alcuni momenti di questa costruzione di superiorità inferiorità soffermandomi sul ruolo dell'antropologia nell'evolvere dell'immagine dell'indigeno primitivo diffusa nel senso comune dalla comunicazione e propaganda fascista non essendo un africanista non mi soffermo su specifiche declinazioni etniche dell'idea del primitivo ambito di studi sul quale rinvio tra l'altro alle ricerche antropologiche di Grottanelli Bernardo Bernardi triulzi triulzi barbara sorgoni e agli studi storici sul colonialismo italiano di voglia ma mi concentro invece sull'invenzione di uno stereotipo del primitivo generico impressionistico e maleabile secondo le esigenze coloniali un'osservazione preliminare riguarda l'oggi e la storia degli studi etno-antropologica in Italia raramente e brevemente ci si sofferma sul ventennio fascista ed i legami disciplinari di solidarietà intrattenuti con il regime la storia degli studi nazionale riparte invece dal rifiorire della disciplina nel dopoguerra a partire dall'importante tradizione demologica italiana non compromessa con teorie riaziali compiendo un salto temporale dato tra due termini da una parte gli studi folclorici di fine ottocento e primo novecento nello stile di Giuseppe Pitreco Chiara o l'etnografia di Lamberto Loria e dall'altra prevalentemente il sud magico-religioso italiano degli anni cinquanta la postura disciplinare anni venti quaranta è sorvolata e assente questa sorta di non luogo disciplinare non diviene un luogo nel dopoguerra nella storia degli studi l'antropologia si propone di dar voce a quegli altri che il fascismo aveva annullato il silenzio viene interrotto sporadicamente a partire dalla fine degli anni settanta da un'antropologia riflessiva di ritorno e da autori come Lanternari Puccini e Squillacciotti per Giorgio Solinas Barbara Sorgoni Ugo Fabietti e in particolare è interessante notare come il noto manuale di antropologia culturale di Fabietti largamente in uso nelle facoltà italiane negli anni ottanta e novanta introduca solo nel 2011 alla sua terza edizione in modo più chiaro rispetto alle edizioni precedenti il tema della virata razzista dell'antropologia durante il fascismo in quest'ordine del discorso la parabola de Martignana su cui si concentra in genere la storia degli studi anni cinquanta descritta come un momento centrale per la nascita dell'antropologia italiana dall'antecedente storico solitamente taciuto mentre ci sono voci più prudenti di quella di Fabietti in primis Vittorio Lanternari sulla tesi dell'asservimento dell'antropologia culturale al regime è concorda l'opinione del peso di quella specifica branca che è l'antropologia fisica nell'invenzione culturale della razza questa configurazione l'antropologia come dispositivo di potere legittimante pratiche di dominio tema centrale negli studi coloniali in genere assume nel ventennio in Italia una precisa configurazione la creazione di un'invenzione bifronte parallela alla propaganda dello stereotipo dell'ebreo che consiste in due facce l'uomo nuovo e il primitivo come si vede in modo abbastanza esemplare anche da questa immagine della difesa della razza per adentrarsi in questa costruzione culturale è utile considerare sulla scia di uno studio del 1979 di Squillacciotto e Puccini apparso nella rivista problemi del socialismo il rapporto ideologie scienze antropologiche come una realizzazione concreta da collocare nei quadri dominanti l'atmosfera culturale e politica dell'epoca ma in linea di continuità con gli assunti precedenti di cui si è parlato nell'intervento di ieri della HAC quindi assunti quali il darwinismo della scuola fiorentina di Mantegazza gli studi genetici di Giuseppe Sergi fondatore nel 1893 della Società Romana ed Antropologia le raccolte etnografiche di esploratori come Giglioli tutti ambiti volti a fondare biologicamente la diversità proprio questa necessità sarà l'aspetto che renderà utili a regime le informazioni che discipline come l'etnologia e l'antropologia fisica possono fornire ora in particolare gli autori che ho citato Puccini e Squilacciotti identificano tre livelli nel rapporto scienza antropologica e ideologia fascista corrispondenti a differenti piani della gestione del dominio e dei processi di geomonia il fascismo come colonialismo legato al ricorso all'etnologia e in particolare l'etnologia giuridica il fascismo come vita interclassista aspetto consolidato soprattutto dal folklore il fascismo come ideologia razzista aspetto sotterraneo nella cultura prefascista ma che a partire dal 38 viene avallato sia dal recupero folclorico della concezione romantica dell'anima nazionale sia dall'etnologia e dall'antropologia fisica ora la mia analisi tralascerà l'ambito del patrimonio culturale folclorico e il suo recupero nel fascismo per concentrarsi prima sul rapporto colonialismo-fascismo e poi negli anni della virata razzista sul rapporto colonialismo-antropologia fisica questa osservazione di tre aspetti tra loro strettamente legati quindi l'ideologia la disciplina etnologica e l'invenzione risultante che è l'oggetto primitivo costituisce un triangolo utile per riflettere sulle rappresentazioni che il fascismo dà della storia e di se stesso numerosi sono oggi gli antropologi che insistono sull'identità contemporanea come congetto congiunturale questo è un tema ma uno dei primi autori che negli anni Ottanta riflette in modo forte su questo punto è Zvetan Todorov nel suo studio sull'invenzione dell'alterità il libro La conquista dell'America sottotitolo da ricordare La questione dell'altro sorta di leitmotiv è una frase in cui echeggiano tra l'altro versi di Rimbaud j'ai un autre io è un altro questo verso è utile per descrivere anche la costruzione del noi civilizzato e superiore italiano fascista che si fa definendo per contrasto a un altro questo altro in sintonia con un clima coloniale europeo diffuso dalla fine Ottocento non è più il selvaggio fenomeno mirabolante da Circo Barnum ma nel solco degli studi etnologici positivisti diventa un indigeno rappresentato attraverso tassonomie e classificazioni non più come fuori dalla cultura completamente relegato nella silva della natura ma come un primordio un prima primitivo che nel ventennio secondo il variare del clima fascista assume aspetti più o meno curiosi o apocalittici a partire dalla metà degli anni 30 l'accento sull'indigeno come curiosità viene meno mentre l'immagine del primordiale continente nero diventa sempre più e esclusivamente una geografia senza uomini nativi spazio da dominare conquistare e vincere terra questa è un'immagine del 1936 del padiglione coloniale della fiera di Milano che suggerisce un po' questo che vengo a dire gli abitanti di questa geografia sono rappresentati in patria come una quasi assenza un eterno presente etnografico una storia falsificata e reinventata e quest'Africa immaginaria è il termine necessario per un antropo poiesi ossia come sottolinea Remotti una fabbricazione dell'identità di un noi storicamente situato l'uomo nuovo fascista ora studi storici antropologici in particolare mi riferisco a Luigi Goli e a Barbara Surgoni concordano sulla distinzione tra un colonialismo caratterizzante il periodo liberale la conquista dell'Eritrea e della Libia prevalente come linea di fondo fino alla metà degli anni 30 e un nuovo colonialismo il passaggio è segnato dal cambiamento da una politica di esplorazione e di affermazione dei bianchi in Africa in cui prevalgono le survey e gli studi di classificazione dell'indigeno a una nuova politica di popolamento e controllo demografico eogenetico marcata dalla propaganda apocalittica del meticciato come fonte di decadenza razziale la vecchia tradizione coloniale come notato da Barbara Sorgoni era strettamente legata ad un'etnologia un'etnologia che era non tanto un sapere applicato quanto pratico elaborato sulla base di un corpus di fonti eterogene amministrative giuridiche e militari mediche e religiose anche il soggiorno in colonia permette a comondanti di battaglioni indigeni capitani di marina e vari tipi di funzionari sul campo di improvvisarsi etnografi per caso e di tassonomizzare sistemi statuari legali economici parentali rituali ma permette anche di familiarizzare con gli indigeni fino a radicarsi profondamente nella vita delle colonie e produrre come nel caso di Alberto Pollera autore studiato dalla Sorgoni di produrre matrimoni misti figli meticci e al contempo monografie approfondite su precisi gruppi etnici come nel suo caso e Bari e Kunama lavori lodati da Grottanelli in generale tuttavia la letteratura di viaggio etnologica si basa su luoghi comuni impressionistici e crudeltà irrelogiosità immoralità dei nativi sono messi in luce per legittimare l'intervento dei colonizzatori mentre stereotipi come quello della disponibilità della venere nera nell'Africa orientale servono come metafora sessuale resistente strumento di propaganda per il dominio coloniale come si vede in queste cartoline fotografiche che con toni più o meno artistici o antropologici descrivono questo aspetto questa antropologia di regime epidermica classificatoria tassonomica scanditi da stilemi esotico primitivi appare nella descrizione che il giocicciato pollera offre del popolo galla o romo dell'Etiopia nel Corriere della Sera nel 1929 hanno generalmente lineamenti duri angolosi bocca larga dentatura forte gli occhi irrequieti e torvi d'uccello da preda membra asciutte muscolose colorito bronzeo inoltre come sottolineato da Barbara Sorgoni l'etnologia tassonomica coloniale è imbevuta di un etnocentrismo vicario un'invenzione italiana dell'inferiorità che confonde tipi etnici diversi in uno stereotipo generico dell'indigeno usando tratti descrittivi dei gruppi circostanti per descrivere quello considerato un simile punto di vista mi sembra essere espresso da Luigi Goglia in un suo studio dal titolo il falso in cartolina tre casi coloniali dal quale emerge uno stereotipo del primitivo generico e maleabile le cartoline fotografiche prese in esami da Goglia emergono come medium volutamente banale il cui intento è restituire porzioni di mondo rese reali su misura la misura dei profitti di editori autori stampatori coloniali che vivono anche grazie ai processi di falsificazione rilevati da didascalie menzognere apposte su immagini autentiche di un'altra realtà questo processo di reinvenzioni delle immagini è indicato tra l'altro dall'analisi della cartolina numero 107 che qui vedete di una serie Zulu battezzata da una didascalia bugiarda etiopia stregone tuttavia la lettura di Goglia rinviene il falso in quello che Roland Barth a mio parere avrebbe chiamato il punctum dell'immagine il dettaglio che secondo Barth nel tutto della fotografia è simile a un dardo un colpo di dadi in questo caso i due scudi e il bastone da guerra a Zulu che rivelano un'identità nativa diversa da quella dichiarata che negli anni dell'attacco all'Etiopia diventa particolarmente commerciabile per la cartotecnica di Asmara e Milano ora il procedimento di falsificazione dell'altro nel media cartolina fotografica illustrato da Goglia come l'etnocentrismo vicario del corpus letterario scientifico sulle colonie indicato da Barbara Sorgoni mi sembra un invito a riflettere sull'atto dell'invenzione coloniale del primitivo dalle due analisi citate da rispettivi media fotografia e scrittura l'alterità coloniale emerge come un atto semantico ed ermeneutico parte centrale dell'antropopoietica coloniale è la fondazione dell'altro nei propri termini si tratti di città coloniali di soggetti umani di invenzioni di tradizioni locali come mostrato anche da Terry Ranger nel libro già citato ieri curato insieme a Osbam sull'invenzione della tradizione per illustrare meglio questo punto mi appoggio al già citato testo di Todorov la conquista dell'america e in particolare alla riflessione che Todorov fa della figura di Colombo sottolineo chiamato sempre da Todorov in spagnolo Cristobal Colón a proposito di questo ammiraglio così come lo chiama la Scasas che è una delle maggiori fonti informative su Colón Todorov sottolinea la pratica ossessiva del nominare il battezzare il dar nome a terra americane e così nuova vita in nome della conquista della corona spagnola questa azione ossessiva del dar nome che Todorov chiama una rabbia nominatrice si ripercuote in tutta l'identità di Colombo già a partire dal proprio nome il nostro Cristofono è in spagnolo Cristobal ossia Cristum Ferenz portatore di Cristo quindi evangelizzatore e Colón Colón ripopolatore fondatore di nuove città coloniali l'ossessione nominatrice giunge in Colón fino a elaborare una firma siglata del proprio nome personale complicatissima un'architettura consapevole descritte note dettagliate per il proprio figlio per poter sventare falsificazioni della propria identità siamo di fronte a un vero il colonizzatore che dà nuova vita al colonizzato attraverso una nuova verità il nome giusto che è un falso dal punto di vista nativo in questo senso assumendo il salto temporale e la diversità contestuale nella scia delle suggestioni di Todorov lo stereotipo del primitivo coloniale fascista è leggibile come un'esemplare invenzione dell'altro invenzione che si costruisce secondo due operazioni parallele un atto di nominazione dell'uomo nuovo come vero uomo e una negazione del primitivo rappresentato soprattutto dopo la proclamazione dell'impero come un non uomo dal non nome o dal nome maleabile un simulacro immagine segno falsificabile intercampiabile vicaria tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 periodo indicato da Goglia come momento della definizione del colonialismo il regime sarà impegnato in un'opera di propaganda tesa alla formazione di un sapere delle colonie il colonialismo a livello interno è innanzitutto una pratica di sapere e in questa pratica è centrale la massima ispiratrice delle esposizioni coloniali imperiali di fine ottocento espressa nel 1893 all'entrata del padiglione antropologico della World Columbian Exposition di Chicago vedere è sapere l'apparato visivo serve a rendere le cose coloniali cose della massa di tutti gli italiani appetibili e abbellianti nei loro aspetti esotici nei primi anni 30 il regime favorisce lo sviluppo dell'antropologia italiana nascono i congressi coloniali all'interno dell'opera nazionale dopo lavoro nasce il comitato nazionale per le arti popolari che prende in cura la rivista Lares gli etnoantropologi italiani partecipano in modo consistente al primo congresso internazionale di antropologia e etnologia che si tiene a Londra inoltre attingendo dai risultati delle missioni etnologiche di antropologi esploratori funzionari quelli che secondo la sorgoni appunto sono gli etnografi per caso inizia a fermarsi sulla scena italiana il meccanismo dell'esposizione coloniale fondante per coinvolgere l'italiano negli aspetti positivi del colonialismo evento temporaneo spettacolare nelle sue proporzioni l'esposizione etnografica è addetta ad attirare il grande pubblico e a coinvolgerlo in un nuovo senso comune congiuntamente ad un ampio apparato di dispositivi visivi quali l'esibizione museale permanente quella fotografica cartellonistica pubblicitaria letteraria e cinematografica un momento indicativo della propaganda del senso comune dell'africa italiana e del suo abitante è la mostra di cui vedete la locandina la mostra internazionale d'arte coloniale svoltasi a palazzo dell'esposizione nel 1931 l'evento avviene sotto il patrocino di Mussolini e vede De Bono ministro delle colonie come presidente del comitato esecutivo organizzativo questo spettacolo imponente di cui testimonia oggi un piccolo catalogo traduce l'importanza del linguaggio visivo del regime sul piano espositivo e la pratica del mettere in mostra come pratica di dominio funzionale alla rappresentazione civilizzatrice di una moderna Italia imperialista dal catalogo dell'esposizione emerge il progetto pedagogico educativo dell'evento ispirare cito un sano gusto delle colonie in contrapposizione al gusto snobbistico di spaisare e riformare il disgusto degli italiani per le cose loro coloniali l'allestimento dei vari padiglioni italiani ed internazionali distingue l'arte ossia la produzione di artisti europei sull'oggetto colonia e l'artigianato produzione indigena e mette in vetrina un'Africa conquistata sulle orme dei romani luogo di eroi italiani e meraviglie esotiche di sole cocente e inafferrabili atmosfere descritte da Marinetti lo spettacolo animato da mirabilia e curiosità dai repertori di unghie di lopardo montate in argento a braccialetti in oro con coda d'elefante ai pannelli di dinamismo africo africano meccanico opera di prampolini lodata da Marinetti dai titoli esotisti quali il feticio meccanizzato e la magia della perla nera l'espansionismo imperiale rappresentato dalle gerarchie che sostengono la mostra l'espansionismo imperiale rappresentato dalle gerarchie che sostengono la mostra appare nelle fotografie che aprono il catalogo e dal ruolo di Badoglio e da un insieme appunto di esposizione gerarchica che sottolinea il retaggio sacro della Roma Eterna la rappresentazione dell'africano emergente è una generica categoria di alterità nonostante la distribuzione delle colonie in distinti padiglioni non tanto distribuzione fondata su etnie socialità e località quanto su un'idea di oggetti disposti in modo ad essere ambasciatori di generiche e panafricane concezioni animiste nozioni di potenza primigenia e verginità di una terra selvaggia che la volontà dell'italiano nuovo doma piegando uomini in natura l'evento in cui è presente anche la ricostruzione dell'habitat di un caffè arabo segnala una restituzione dell'alterità in cui è forte l'accento sull'aspetto caloreità e la meraviglia l'italiano va educato al gusto coloniale a partire da un'immagine di inferiorità restituita come ludica esotica meravigliosa sempre sempre nel 1931 si svolge a Parigi questa è un'immagine l'esposizione coloniale la sezione italiana consta di tre padiglioni nessuno dei quali stavolta è dedicato ai colonizzati ma tutti come dichiarati nel catalogo celebrano le doti dell'uomo nuovo civilizzatore figlio del destino di Roma il padiglione principale qua ne vediamo l'entrata è dedicato alla magnificenza della colonizzazione romana in Africa attraverso la riproduzione della grandiosa basilica di Settimio Severo all'Eptis Magna in questo caso i primitivi appaiono unicamente come esemplari umani inseriti in uno spettacolo vivente di onorificenze sono il plotone di gendarmi tripolitani in gran tenuta che alcolgono le gerarchie militari politiche e nobiliari nel momento dell'inaugurazione della mostra il secondo padiglione è dedicato a Rodi secondo il progetto di ravvivare il legame ideale tra colonialismo italiano e colonialismo francese mentre il terzo in stile architettonico ultramoderno disegnato e costruito dall'ingegnere Fiorini è decorato da rampolini e serve come ristorante la sezione italiana nel suo insieme serve a celebrare il regame tra Francia e Italia civiltà coloniali superiori come esplicitato dalle parole del principe Lanza di Scalea ex ministro delle colonie nel catalogo pagine generiche ricostruiscono discalicamente i caratteri dei territori della tripolitana cirenaica eritrea e somalia italiana e anche in questo caso la geografia spaziale prevale sull'uomo che la abita inoltre un aspetto che emerge dal catalogo è la promozione del turismo colonialista italiano descritto come forma di attività alla quale è legato l'avvenire economico della colonia propagandata in sonteonia con un più generale panorama internazionale nel caso specifico francese come appunto queste immagini in particolare le pubblicità presenti nel catalogo francese sulla mostra coloniale suggeriscono il nuovo legame transnazionale tra l'Europa e le colonie è un movimento di uomini e merci tra nuovi e vecchi mondi suggerito dal ristorante italiano Nello che abbiamo visto nell'immagine precedente esotico per i parigini come dalla polvere efervescente per lo stomaco Eno Salt o i costumi da bagno Janssen tenuta a marinare da sfoggiare nelle spiagge di Deauville come nelle colonie francesi o ancora dal Campari che raggiunge a dorso di cammella una setata di Sabeba passando dall'ambito dell'esibizione a quello della letteratura questo stesso motivo del turismo in Africa viaggio di piacere e conoscenza orientato ancora una volta non verso i nativi primitivi ma verso una terra vergine dalla flora odori colore luci conturbanti appare in uno dei romanzi di ambientazione africana di Marinetti il libro del 1933 porta il titolo Il fascino d'Egitto Marinetti nativo di Alessandra nel fascino d'Egitto sorta di reportage del proprio viaggio nella terra natale ritrae un'Africa caratterizzata da toni ineffabili e primordiali simili a quelli già citati descritti nel catalogo della mostra coloniale del 1931 l'Egitto come l'Africa italiana tutta per Marinetti innanzitutto terra da ampi spazi naturali ed ispirazione lirica dove gli aspetti primordiali dell'Africano o dell'Africana risvegliano l'istinto vitalistico dell'uomo bianco cito bruscamente la mia pelle oliata di Nilo trema all'orlo di un nuovo mondo tattile tutto secco vetroso o metallico il deserto il canto che Marinetti mette in bocca alla sua guida locale Mohamed rinvia a un generico e reiterato stereotipo della bellezza nera inferiore ma selvaggiamente dirompente ilaì ilaì la tua carne è soave la tua carne è dolce come la banana la tua carne è madre perlacea come la luna l'Africanità priva di una precisa realtà culturale sociale individuale è scritta nel generico schema coloniale che contrappone cultura a natura i sensi all'intelletto in questa logica un prodotto africano diffuso come la banana serve a rappresentare soggetti senza storia generiche macchiette negre ludiche corpi nudi vestiti di gonnellini di banane come quello di Josephine Becker carni soavi fatte di carne di banana la Marinetti o ancora il faccione sorridente del cioccolato francese Banania miscela ancora oggi in vendita a partire dalla proclamazione dell'impero e dal progetto di nuovo popolamento vi è un cambiamento nel generale repertorio di propaganda di immagini coloniali viene meno la rappresentazione di un'alterità inferiore ma ludica e spettacolare mentre per creare un sapere positivo sulla colonia si vuole parlare agli italiani mostrando gli italiani di questo clima testimoniano la pervasività di immagini che riguardano le giornate coloniali qua ne vediamo un esempio questa è la giornata coloniale di Genova restituite fino negli aspetti folclorici nei piccoli centri o i corsi coloniali per la gioventù come anche l'evento mostra dell'Etiopia Italiana che si svolge a Firenze nel 1936 per celebrare la conquista dell'impero l'ingresso della mostra è scandito da una croce sacrario dei caduti toscani nella campagna italo-etiopica mentre l'intero evento vuole riavvicinare gli italiani della patria a cito quelli che in Africa combattono e vincono per portare alla luce la civiltà romana nelle terre del nuovo impero d'Italia anche in questo caso il catalogo mostra l'eroicità dell'uomo nuovo italiano e l'assenza dell'indigeno nell'arco temporale 1936-40 momento della svolta totalitaria e cesura verso un nuovo colonialismo razzista la madre patria proietta dalla colonia una nuova prospettiva nella stampa pubblicistica italiana l'alterità africana appare nuovamente e costantemente ma sotto nuove vesti a distanza di due anni della proclamazione dell'impero diventa meno pressante la necessità di mostrare i colonizzatori e i coloni italiani gli eroi dell'impero mentre in particolare a partire dal 1938 predomina lo sguardo sulla devianza africana e meticcia in un clima di propagazione dell'ideologia antisemita l'aspetto di un'inferiorità esotico-ludica dell'indigeno è completamente annullato rimpiazzato dalla creazione di un nativo da situare non più ai primordi della storia ma fuori dalla sua linea evolutiva oltre il primitivo questi toni apocalittici sono particolarmente evidenti in riviste dell'epoca quali la rassegna economica dell'Africa italiana e la difesa della razza quest'ultima in particolare quest'ultima in particolare insiste attraverso l'uso ripetitivo dell'immagine e una violenta retorica sensazionalista sulle prove scientifiche dell'inferiorità dei negri e sul pericolo del meticciato la questione dei pericoli del meticciato è all'ordine del giorno non solo nelle riviste scientifiche ma anche nella stampa pubblicistica del 38 nell'aprile di quest'anno Gorresio giornalista inviato speciale del messaggero Addis Abeba denuncia il problema igienico del doversi difendere dal meticciato e tesse le lodi della sanità fisiologica del popolo italiano che non abberra non si pervestisce non indulge facilmente esotismi maniaci faccetta nera si cantava in Italia ma i soldati che sbarcarono in Africa orientale mutarono in facciaccia quel faccetta la rivista la difesa della razza fondata a qualche mese di distanza nell'agosto del 38 nasce come un media atto a forgiare il senso comune del meticciato come sinonimo di bastardaggine demenza pericolo genetico polo opposto all'ideologia della latinità esponenti delle scienze dell'uomo e della cultura occupano un posto di rilievo nella rivista e tra essi nel comitato raidazionale formato da cinque membri vi sono due antropologi Guidolanda e Lidio Cipriani il nome di quest'ultimo Lidio Cipriani appare con assiduità fin dal primo numero della rivista in cui appare in apertura il manifesto della razza Cipriani autore di missioni svolte tra lo Zululand e le isole andanamane diventa uno dei principali artefici del discorso razzista del regime in linea con posizioni elaborate sul campo già ben prima del 38 dalla fine degli anni 20 cito dal suo testo del 32 in Africa dal capo al Cairo nessun potentato negro alla maniera europea potrà sorgere in Africa e per chi conosce l'anima negra suscita il riso soltanto ricordare l'utopia di Certuni per cui domani dovrebbe sorprenderci col sorgere di eserciti di terra e mare di tribunali di università e di officine come frutto del lavoro del cervello dei negri non insisto sugli articoli ridondanti di Cipriani nella difesa sulla razza rinviando su quest'autora Paolo Chiozzi Goglia Sorgoni e Lanternali e faccio piuttosto parlare le immagini ecco la venerontentotta definita mostro di natura esemplare per eccellenza della Nazione dei Bastardi qua la la pubblicità del del libro Contra iudeo si mescola alle immagini contro il nero questa immagine è di un articolo di Guido Landra del 39 nel cartello divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camitiche semite e altre razze non ariane questo articolo invece insiste sulla deformità tratto presente nell'arte dei selvaggi dei dementi e degli ebrei e infine questa immagine del 39 antirazzisti di tutto il mondo unitevi mostra il bianco ridotto dal pericolo meticcio nero in polzini di camicia e in gonnellino e paradossalmente ricorda qui non ho tempo di entrare nel dettaglio invece le fotografie postcoloniali contemporanee di un artista nigeriano in cascionibare che usa questo stesso meccanismo però per parlare di riappropriazioni culturali aveva fatto una mostra in tempi recenti al Kebron Lee però su questo approfondirò negli atti un documento di tipo diverso rispetto ai toni sensazionalisti e esplicitamente violenti delle riviste citate che segue di un solo mese la pubblicazione del manifesto della razza è la guida dell'Africa orientale della consociazione turistica italiana cioè oggi il touring club la guida è interessante perché nonostante la chiara retorica razzista emergente in ammonimenti riguardo a pratiche di meticciato e imbastardimento degli italiani in essa in ragione del media formato legato al viaggio emerge in toni pittoreschi lo stereotipo coloniale di lunga durata del mal d'Africa terra d'ampi spazi viaggio verso l'altro non l'indigeno ma l'anima del sé primitiva istintituale vitalistica la guida omaggia la celere titanica impresa della conquista italiana di un posto al sole e si propone di far conoscere agli italiani una terra sterminata che racchiude in sé possibilità da alimentare le più ardite speranze e da permettere le più audaci previsioni non manca l'invito al turismo coloniale definito esperienza di pellegrinaggio spirituale in visita alle terre bagnate da sangue dei nostri fratelli l'Africa orientale è rappresentata come terra di libertà dove spaziare immersi dalla natura cito un fascino particolare del turismo in Africa orientale è la sensazione dello spazio con l'ampiezza degli orizzonti la solitudine la limpidità dell'aria spettacolo sempre nuovo delle albe dei tramonti dei cieli carichi a suo tempo di nubi spettacolari e delle notti africane incantevoli per lo splendore vivissimo delle stelle meno entusiasmo suscitano le popolazioni e i loro usi e costumi che cito se guardati con occhio attento offrono pur non lieve interesse degna d'attenzione è la voce denominata contegno con gli indigeni che non a caso fa seguito al paragrafetto precauzioni igieniche l'abissino cito sotto questo nome si intendono i tigrini gli amare gli scioani e altre popolazioni che con essi convivono è di carattere chiuso molto orgoglioso volubile come tutti gli orientali dissimulatore e accorto parlatore il galla e il sidama sono in genere di carattere più aperto più generosi facili all'entusiasmo ma deboli di volontà mutevoli e indolenti il somalo è in generale di intelligenza sveglia generoso ma spesso indolente e dissimulatore la rappresentazione dell'africano non sembra esistere senza la presenza benefica e creatrice dell'uomo nuovo italiano cito ancora in generale tutti coloro che sono venuti in contatto con gli italiani riconoscono la nostra superiorità e i vantaggi della nostra civiltà e soprattutto accolgono con gioia la novità che l'Italia porta dovunque imparano con sorprendente rapidità l'italiano e sono pronti a lavorare e progredire gli italiani con il loro carattere umanissimo e con l'istintiva penetrazione psicologica hanno già stabilito rapporti di equilibrio con gli indigeni non altezzosità e separazione assoluta ma superiorità e comprensione infine le ultime righe rammentano i provvedimenti del governo per la difesa della razza e per evitare la formazione di un deprecabile meticciato sempre nell'autunno del 38 si svolge a Roma l'ottavo convegno della fondazione Volta centrale per l'antropologia di fine trentennio dedicato al tema Africa tra gli antropologi partecipanti vi è Lidio Ciprani con un intervento dal titolo l'inferiorità degli africani che si sofferma sulle case biologiche di quella che è definita un'irriducibile inferiorità e sul ruolo delle scienze antropologiche discipline giovani utili per rilevare differenze pericolose tra le leggi africane e metropolitane delle potenze coloniali concludo questo percorso sulla triangolazione ideologica dell'uomo nuovo antropologia invenzione del primitivo con due immagini che suggeriscono il riemergere nel dopoguerra dello stereotipo primitivo esotista taciuto negli anni della virata razzista la prima è quella che vedete il tango di Zumba la copertina del numero 50 del romanzo a fascicoli dal titolo i tre boy scout avventure meravigliose attualmente in commercio su ebay come rarità edito nel 1940 e poi di nuovo ristampato nel 1954 traduzione ad opera della Sonzogno della versione originale francese di cui è autore Jean Delahir i tre protagonisti giovinetti che pugnano con tutte le armi sempre arditi fiduciosi ed eroici nell'adattamento italiano assumono caratteri regionali italiani sono un genovese un romano un veneto e muta alla propria provenienza anche il loro vulcanico servitore che da senegalese diventa eritreo si tratta di zomba l'ascaro considerato quasi un fratello italiano per la sua straordinaria fedeltà zomba che non teme la magia nel confronto con la natura e i suoi pericoli più bestiali quali animali selvatici e primitivi cannibali non accederà neanche nell'ultimo fascicolo alla conoscenza corretta dell'italiano questa figura del bravo negro ha un uso della parola primordiale che esprime la sudditanza ai padroncini in una variante della formula si padrone no padrone articolata in un star buona star buona star cattiva un accostamento iconografico finale è quello che vedete riflette su somiglianze tra immagini coloniali fasciste e logo contemporanei accostando la cartolina fotografica già mostrata in precedenza di una venere nera ad epoca coloniale alla donnina color caffè icona dal 1946 di uno dei migliori e più antichi caffè del centro di Roma la tazza d'oro immagine da circa una decina d'anni commercializzata riprodotta non solo sulle più tradizionali confezioni di caffè ma anche su tazze e tazzine scatole e gadget di tipo vario l'immagine ritrae una rigogliosa selvaggia che sparge dal proprio grembo chicchi di caffè lanciati sul mondo metaforizzato da vari monumenti disposti ai suoi piedi la piramide sta per l'Egitto la tourfel per Parigi il Colosseo per Roma e via dicendo in un mondo postcoloniale in cui l'antropologia si pone la problematica dell'autorità etnografica ossia del diritto dell'osservatore di parlare con la voce di altri e in cui frequenti e sempre più quotidiani sono gli atti di riappropazione culturale nativa rimane il dubbio se questo logo sia una graziosa icona sexy innocua garanzia della bontà del caffè o un perdonante stereotipo iconografico di erotismo lascivia disponibilità un'invenzione su misura dell'alterità primitiva che corrisponde a un gesto di sovranità coloniale simulacro copia non conforme senza un originale grazie 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 per questo intervento che mi pare ci abbia mostrato le variazioni nel corso del tempo gli svolgimenti nel corso del tempo della interpretazione dell'alterità di fronte al tentativo di costruzione identitaria dell'italiano nuovo mi pare che il nesso tra questi due elementi nel suo svolgimento temporale cronologico sia emerso in maniera molto chiara e passiamo adesso ad un altro elemento disciplinare diverso rispetto a quelli che abbiamo finora affrontato Paola Salvatori della scuola normale superiore ci parla degli aspetti teatrali se non sbaglio in particolare del teatro storico con un intervento intitolato il duce Giovacchino Forzano e il teatro storico grazie dunque il 22 giugno del 1927 in una lettera indirizzata all'attore drammaturgo Gastone Monaldi Benito Mussolini affermò il teatro è uno dei mezzi più diretti per arrivare al cuore del popolo ed ella per il valore e la forza della sua arte è uno degli attori più amati plaudo quindi ai propositi che mi manifesta di voler continuare a servirsi italianamente dell'efficace mezzo che è in suo potere al solo scopo di concorrere attraverso l'elevazione del popolo alla grandezza della nazione il destinatario di questo auspicio mussoliniano era appunto Gastone Monaldi considerato uno dei più grandi rappresentanti del teatro romanesco del primo novecento ricordiamo soltanto che Monaldi nel 1908 partecipò alla prima rappresentazione della nave di D'Annunzio e che nel 1909 fondò la celebre compagnia drammatica il teatro del popolo anche in altre circostanze Mussolini si sarebbe espresso favorevolmente nei confronti del teatro dichiarando in modo esplicito la sua fede nella finalità propagandistica e nell'utilità pedagogica di questo mezzo culturale così il 28 aprile del 1933 in un discorso pronunciato al teatro argentina di Roma in occasione del cinquantenario della fondazione della società italiana autori ed editori Mussolini affermò cito ho sentito parlare di crisi del teatro questa crisi c'è ma è un errore credere che sia connessa con la fortuna toccata al cinematografo essa va considerata sotto un duplice aspetto spirituale e materiale l'aspetto spirituale concerne gli autori quello materiale il numero dei posti bisogna preparare il teatro di masse che possa contenere 15 o 20 mila persone il teatro che mio avviso ha più efficacia educativa del cinematografo deve essere destinato al popolo così come l'opera teatrale deve avere il largo respiro che il popolo le chiede essa deve agitare le grandi passioni collettive essere ispirata ad un senso di viva e profonda umanità basta con il famigerato triangolo che ci ha ossessionato finora fate che le passioni collettive abbiano passione drammatica e voi vedrete allora le platee affollarsi Mussolini dunque proponeva due soluzioni per risolvere la questione della crisi del teatro innanzitutto il superamento delle strutture tradizionali con un numero limitato di posti che inevitabilmente faceva aumentare il prezzo dei biglietti proponendo invece la realizzazione di strutture teatrali definite dal duce stesso teatro di masse che avessero una capienza di 20 mila persone una simile capienza era evidentemente velleitaria e utopistica ma proprio questa sua natura insieme con l'idea della realizzazione di un teatro per le masse e delle masse può generare una suggestiva analogia con quanto sarebbe accaduto soltanto poco tempo dopo nella Germania nazista per esempio con il grandioso progetto dello stadio di Norimberga affidato all'architetto Albert Speer che avrebbe dovuto avere una capienza di 400 mila persone la seconda via indicata dal duce per risolvere la crisi del teatro era il superamento di sceneggiature basate su questioni private e su grette situazioni amorose di triangoli e tradimenti a vantaggio di storie e ambientazioni dal forte valore civile e pedagogico Mussolini in questo discorso metteva poi in competizione il teatro con il cinema proprio per le capacità educative peculiari delle due arti eppure era il cinematografo l'arma più forte e proprio al cinematografo il regime avrebbe destinato cure ed energie particolari perché le implicazioni propagandistiche del mezzo cinematografico erano senza dubbio maggiori e di più forte impatto come ha ricordato Pietro Cavallo questa predilezione mussoliniana per il cinema era evidente già ai contemporanei per esempio Silvio D'Amico nel suo volume Il teatro non deve morire pubblicato nel 1945 aveva messo in luce proprio questo aspetto affermando appunto perché il teatro di masse in Italia non esiste le predilezioni del demagogo si rivolgevano d'intuito a quel tipo di spettacolo che fotografato in duemila copie si proietta contemporaneamente su duemila schermi davanti a due milioni di persone quale altra capacità di propaganda è questa parola pestivalenziale in arte propaganda che spiega tutto quanto il regime ha fatto o meglio non ha fatto per il teatro drammatico già Walter Benjamin nel 1936 aveva riflettuto sul ruolo determinante e drammatico che il cinema aveva assunto nei totalitarismi nel celebre volumetto l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica Benjamin aveva ricordato come alla riproduzione in massa fosse particolarmente favorevole la riproduzione di masse poiché cito nei grandi cortei nelle adunate oceaniche nelle manifestazioni di massa di genere sportivo e nella guerra tutte cose che oggi vengono registrate dagli apparecchi di ripresa la massa vede in volto se stessa la competizione tra cinema e teatro insomma era solo apparente poiché nonostante i programmi mussoliniani sarebbe stato il cinema il mezzo prediletto della propaganda fascista ma non mi dilungo oltre sulla centralità della cinematografia nel ventennio fascista poiché abbiamo tra i relatori un illustre esperto del tema il professor Iaccio che parlerà proprio dopo di me in ogni caso era in parte vero quello che Mussolini ebbe modo di sostenere in più occasioni come ha messo in luce ancora una volta Pietro Cavallo nei suoi importanti studi sul teatro fascista durante il ventennio una folta schiera di autori sia di livello alto e ufficiale sia di livello basso e popolare inondò gli uffici della censura e i teatri locali di copioni dai più svariati temi e soggetti un caso particolare è rappresentato dalla figura di Giovacchino Forzano librettista drammaturgo regista teatrale e cinematografico autore per esempio del primo film sulla nascita dell'epopea fascista camicia nera del 1933 fondatore degli studi cinematografici di Pisorno a Tirrenia insomma un importante personaggio della drammaturgia della cinematografia e potremmo dire della cultura italiana della prima metà del novecento ma soprattutto Forzano fu autore di tre copioni teatrali con soggetto storico messi in scena tra il 1930 e il 1939 scritti in collaborazione proprio con Benito Mussolini che comparve esplicitamente come coautore dei primi due la collaborazione tra il duce Forzano iniziò il 7 luglio del 1929 quando i due si incontrarono al Viminale per discutere della possibile realizzazione di un dramma teatrale incentrato sull'epopea napoleonica Mussolini aveva precedentemente inviato una lettera a Forzano presentandogli il progetto che era ispirato dalla celebre biografia su Napoleone che Emil Ludwig aveva pubblicato nel 1926 in tedesco in questa lettera ripubblicata nel 41esimo volume dell'opera omnia di Mussolini il duce aveva scritto caro Forzano vi mando la carta contenente il titolo e i quattro atti ispiratemi dalla lettura del Napoleone di Ludwig di cui vi ho parlato io le ho pensati ma solo voi possedete in alta misura l'ingegno che il teatro richiede quello che fa muovere i personaggi li fa parlare fa succedere delle cose leggete il libro alle pagine che vi ho indicato e troverete che è possibile creare un dramma pieno di colore di vita di eventi e di protagonisti a suo tempo mi darete il vostro avviso la collaborazione sfociò nella realizzazione del campo di maggio dedicato specificamente alla drammatica conclusione dell'epopea napoleonica il dramma caratterizzato da un'atmosfera cupa e di tradimento imminente fu messo in scena per la prima volta al teatro argentina di Roma il 18 dicembre del 1930 Napoleone era ritratto come un eroe assoluto e senza colpa circondato da traditori o comunque da uomini netti un anno dopo la casa editrice cappelli pubblicò un volume intitolato diario 1858 1860 sull'azione politica di cabur con una introduzione di Giovanni Beltrani l'autore era Giuseppe Massari patriota e giornalista deputato dal 1860 autore di vari volumi memorialistici sul risorgimento italiano Mussolini era rimasto molto colpito dalla lettura di quel volume come ha poi ricordato Forzano nel suo libro Mussolini autore drammatico pare che il Duce avesse scritto una lettera al drammaturgo nella quale aveva proposto una nuova collaborazione questa volta finalizzata alla realizzazione di un copione teatrale dedicato a cabur e all'armistizio di Villa Franca il Duce aveva scritto leggendo queste memorie mi è venuto in mente un dramma Villa Franca il dramma dovrebbe dire questo quando un popolo è vittima di una tremenda delusione quando è colpito da una grande sventura come fu il popolo italiano dopo la pace di Villa Franca questo popolo non deve abbattersi deve continuare a credere nel suo avvenire e lavorare per arrivare dove vuole arrivare nonostante la pace di Villa Franca l'unità d'Italia fu fatta l'opera fu effettivamente realizzata e andò in scena per la prima volta il 15 dicembre del 1931 questa volta al teatro lirico di Milano circolò anche fuori d'Italia con però il titolo esplicito di Cavour il protagonista era appunto Cavour e appariva nuovamente come un grande eroe e un grande tradito esattamente come era stato nel caso di Napoleone del campo di maggio subito dopo la realizzazione del Villa Franca Forzano e Mussolini iniziarono a ragionare sulla realizzazione di un'opera dedicata a colui che all'epoca era il vero mito storico di riferimento del Duce cioè Giulio Cesare non mi posso qui dilungare sulla centralità della figura di Cesare nell'ideologia mussoliniana su cui ha detto cose importanti ieri il professor Giardina la vicenda di quest'opera è complessa e di non facile ricostruzione a essa sto dedicando uno studio specifico che dovrei pubblicare entro poco tempo come prima cosa dobbiamo ricordare che il Cesare nacque come un progetto cinematografico pare proposto dallo stesso Mussolini a Forzano in una lunga lettera che Forzano scrisse al Duce il 15 febbraio del 32 il regista affermò tra l'altro eccellenza sono due giorni che studio il suo Cesare e sento il desiderio di dirle tutta la mia ammirazione è una sintesi superba per chiarezza ed efficacia in poche pagine dattilografate ella ha martellato una serie di bassorilievi che in movimento porteranno per il mondo tutto un gloriosissimo mondo grazie di aver pensato a me per l'esecuzione materiale la film di Benito Mussolini su Cesare può essere il lavoro che dà un impulso decisivo alla cinematografia italiana i passaggi attraverso cui si passò da un progetto cinematografico alla realizzazione di un copione teatrale furono diversi e non è possibile per motivi di tempo delineare questa vicenda ciò che a noi qui interessa è che l'opera teatrale dedicata a Giulio Cesare andò in scena per la prima volta al Teatro Argentina di Roma il 25 aprile del 1939 riscuotendo immediatamente un enorme successo di pubblico e di critica l'allestimento fu di notevole qualità i costumi e le scenografie erano realizzate su bozzetto dell'architetto Antonio Valente le musiche erano di Umberto Giordano tra gli attori si potevano ammirare Filippo Scelzo che recitava nella parte di Cesare Evi Maltagliati che impersonava Cleopatra e Rossano Brazzi nella parte di Bruto proprio attorno alla figura di Bruto è legato un episodio che è interessante raccontare per delineare velocemente il tipo di rapporto che Forzano ebbe con alcuni aspetti sostanziali del regime fascista dopo Roma il Cesare fu rappresentato a Ravenna a Rimini a Pesaro a Genova e il primo luglio all'Arena di Verona con un successo di pubblico impressionante in quell'occasione la parte di Bruto fino ad allora affidata all'attore Brazzi fu invece impersonata da un giovane ed ebreo Arnoldo Foa che molti anni dopo ebbe occasione di raccontare quell'esperienza con parole commosse e grate nei confronti di Forzano nel suo libro autobiografico uscito nel 2009 con Sellerio intitolato Autobiografia di un artista burbero Foa ha raccontato che quando Forzano lo sentì recitare poche battute durante il provino corse da lui lo abbracciò piangendo ed esclamò ma tu sei brutto in quello stesso libro Foa aveva poi definito il Cesare talmente ben scritto che i 20.000 spettatori dell'Arena di Verona rimasero ammutoliti nell'ascoltare e nell'assistere la messa in scena per poi esplodere in un applauso liberatorio a fine rappresentazione egli ebreo fu costretto dalle leggi razziali non solo a recitare con uno pseudonimo ma anche a rinunciare al comparire sul palcoscenico al momento degli applausi finali con una grande sofferenza raccontata ancora nel 2009 già altre volte Forzano aveva esplicitamente preso posizione con i fatti e con le parole contro le politiche anti-ebraiche messe in atto in Germania e in Italia sul finire degli anni 30 si può ricordare per esempio una lunga e drammatica lettera che gli scrisse al duce il 14 maggio del 1900 il 14 marzo scusate del 1938 quindi due giorni dopo l'Anshlus in essa Forzano aveva duramente criticato la politica razziale e antisemita intrapresa dalla Germania hitleriana dimostrandosi profondamente preoccupato dalla deriva antisemita tedesca richiamando l'attenzione di Mussolini sull'esistenza di tanti ebrei dotti e ammirevoli il drammaturgo nominava esplicitamente il caso di un uomo il cui ruolo nella cultura e nella scienza mondiali sarebbero stati di primaria importanza cito mi permetto di chiedere al duce che egli vigili in questi giorni la sensibilità di quei tedeschi che è il loro punto debole in Austria vi sono cristiani ed ebrei di grande valore raccomando a vostra eccellenza un vecchio glorioso di 82 anni che tanta ammirazione ha per l'eccellenza vostra è Freud ebreo nulla dovrebbe turbare tanto trionfo il cesare di Forzano era inserito in un contesto politico intellettuale che negli anni trenta aveva visto il proliferare di copioni incentrati sul grande condottiero romano quasi tutti rimasti sconosciuti ma soprattutto giungeva dopo il Giulio Cesare di Enrico Corradini la cui prima edizione era datata 1902 con il quale curiosamente la critica dell'epoca e devo dire neanche la critica odierna ha mai fatto un confronto merita allora che si dedichi qualche minuto al precedente Corradiniano un dramma incentrato sul problema del potere e del rapporto tra capo e masse nel 1902 Corradini aveva composto un dramma storico in cinque atti intitolato Giulio Cesare nel quale aveva dipinto il suo personaggio come un eroe apparso nel mondo per adempire al segreto volere della razza secondo quella sua ideologia che vedeva nelle individualità eroiche il motore creatore della storia l'opera ebbe una certa eco e fu recensita da riviste e giornali sia in Italia sia all'estero per esempio la scrittrice danese Rosalia Jacobsen dedicò a quel copione teatrale un lungo articolo che apparve sulla review del primo giugno del 1903 in questa recensione l'autrice si spinse a paragonare il Giulio Cesare Corradiniano a quello ben più celebre Shakespeareano la comparazione con l'ineguagliabile precedente Shakespeareano pareva quasi inevitabile e serpeggiava in molte altre recensioni come accadde per esempio nel caso di quella del filologo Ireneo Sanesi pubblicata sulla critica diretta da Benedetto Croce nella quale veniva messa in luce la scelta audace compiuta da Corradini che aveva deciso cito di concentrare tutta l'azione e tutto l'interesse nella persona stessa di Cesare e prendere ad argomento del dramma non le tragiche conseguenze della morte di lui ma i fatti veramente epici e straordinari della sua vita grazie a una simile opzione Corradini aveva dato vita a un'opera degna arricchendo il moderno teatro italiano di un dramma nobilissimo al mito della romanità Corradini era approdato anche per l'influenza della dottrina di pensatori come Mario Morasso che già nell'ultimo decennio del diciannovesimo secolo aveva guardato a Roma come a un tabernacolo di tradizione secondo l'efficace espressione di Francesco Perfetti proprio per queste ascendenze teoriche fortemente connotate al di là del suo valore artistico il Giulio Cesare possedeva un'indubbia natura ideologica il dramma Corradiniano pareva essere soprattutto la risposta alla grandezza e decadenza di Roma di Guglielmo Ferrero nell'estate del 1902 infatti era uscito il secondo volume di quell'imponente opera dedicato anch'esso alla figura cesariana ma i due autori erano stati propagatori di due modelli storici profondamente distanti Corradini contestò pubblicamente l'interpretazione di Ferrero attraverso due articoli pubblicati sul Marzocco nello stesso 1902 e in seguito raccolti nel volume La vita nazionale del 1907 Corradini giudicava criticabile nella sua essenza il presupposto materialismo storico che aveva ispirato l'intera opera di Ferrero permeata da una particolare propensione alla valorizzazione del ruolo delle masse all'interno dei processi storici egli al contrario era un convinto assertore della determinante funzione delle minoranze e dei singoli individui e non poteva quindi concordare con il ritratto di Cesare che Ferrero aveva tracciato nel suo volume insomma quello di Ferrero per Corradini era un Cesare evidentemente inconciliabile con la sua stessa attitudine a isolare e cristallizzare gli elementi creativi delle singole personalità malgrado i giudizi positivi che aveva riscosso sia in Italia sia all'estero il Giulio Cesare non fu messo in scena sembra infatti che il grande attore Ermete Novelli apprezzò molto l'opera corradiniana e si interessò a un suo eventuale allestimento alla casa di Goldoni presso il Teatro Valle di Roma ma desistette di fronte alle molte difficoltà tecniche che avrebbe dovuto gestire riguardanti soprattutto il numero ingente di interpreti da coinvolgere e la lunga preparazione da affrontare si sarebbe dovuto attendere il 28 aprile del 1928 quindi in piena epoca fascista prima di poter assistere a una rappresentazione teatrale del dramma di Corradini due anni dopo che l'autore ne ebbe curata una più ampia stesura esso arrivò infatti al Teatro Antico di Taormina riaperto per l'occasione e con il patrocinio di Mussolini erano passati più di 25 anni dalla genesi di quel dramma ma l'allestimento del Giulio Cesare replicato dieci volte ebbe ora una sua grandiosa rappresentazione il personaggio di Cesare fu impersonato da Gualtiero Tumiati le scene e i costumi furono affidati a Duilio Cambellotti le musiche a Giuseppe Mulè tra esse particolarmente apprezzata fu la marcia trionfale nella scena dei trofei il cui successo non fu casuale ma inevitabilmente acceso da un evocativo fenomeno di sovrapposizione tra le immagini del trofeo romano e quelle dei trofei fascisti d'altro canto la stessa struttura fisica del teatro fu piegata alle esigenze di una simile fusione storica sulla parte retrostante i resti archeologici dell'orchestra venne allestito un piano di calpestio ligno che permise di offrire allo spettatore senza soluzione di continuità il doppio effetto scenico del richiamo architettonico autentico dell'antico e dell'invenzione artistica dello scenografo in effetti a Taormina il pubblico fu di fronte a un altro Giulio Cesari rispetto a quello del 1902 poiché sia nelle intenzioni dell'autore sia nelle condizioni storiche in cui esso fu rappresentato quello spettacolo si distanziò molto da quello originario nella prefazione alla nuova edizione edita nel 1926 dalla casa editrice Mondadori di Milano Corradini indicò la differenza profonda esistente tra le due versioni del dramma la prima era stata opera di sincera ispirazione ma per il tramite della letteratura la seconda fu invece concepita nella immanenza della stirpe quella del 1926 insomma era un'opera sostanzialmente politica inevitabilmente illuminata dalla nuova esperienza anche esistenziale rappresentata dal fascismo non a caso Corradini concludeva le pagine introduttive della nuova edizione del Giulio Cesare con un auspicio cito Roma è carattere dell'Italia ed è morale perenne ora Giulio Cesare è il maggior eroe dell'eroico popolo romano e a me italiano di questo vittorioso periodo sia concessa la speranza di potere nella nuova fecondità dell'Italia gettare almeno un seme del dramma della stirpe suprema forma dell'arte sacra rappresentazione rito mistico ed eroico insomma se il Cesare di Corradini era stato un'opera che aveva messo in luce l'elemento eroico di quel personaggio archetipico quello di Forzano sarebbe stato invece intimamente legato all'elemento di caducità di quello stesso archetipo lo abbiamo accennato già prima l'intera trilogia dei drammi di Forzano e Mussolini era incentrata sulla grande questione del tradimento inteso sia come tradimento politico sia come tradimento esistenziale Renzo De Felice nel volume della sua biografia mussoliniana dedicato agli anni del consenso scrisse che quei tre drammi possono essere intesi come sintomi di una inconscia convinzione di Mussolini di dover essere tradito dai suoi fedeli proprio sulla questione del tradimento è legato un episodio che appare essere particolarmente evocativo e sul quale chiudo questo intervento quando nel 1929 Mussolini volle restituire in un copione teatrale le gesta di Napoleone scelse di immortalarne il momento della disfatta e non quello del trionfo raccontava Forzano che durante la scrittura del campo di maggio egli ebbe occasione di discutere col duce circa le immagini del tradimento subito da Napoleone inevitabilmente diffuse per tutta l'opera in risposta all'amara riflessione del drammaturgo secondo cui l'amore dei popoli per chi comanda dura fino a che le cose vanno bene Mussolini si chiese cosa gli sarebbe potuto accadere se un giorno il suo consenso fosse scemato Forzano ebbe allora l'audacia di presagire una fine che si sarebbe poi rivelata molto simile a quanto realmente accaduto ipotizzando l'invio di quattro carabinieri a cavallo a palazzo Venezia da parte del re e un'eloquente indifferenza generale all'ascolto di tali parole la reazione di Mussolini parve essere violenta e angosciosa non poteva ovviamente a quel tempo immaginare che il suo epilogo sarebbe stato anche più drammatico di quello del suo idolo Napoleone Mussolini raccontò Forzano ebbe uno scatto violentissimo e continuò sempre a voce alta a vantare la sua sicurezza nella fedeltà e nell'amore del popolo italiano e batteva il pugno sulla tavola e sempre più si accalorava racconta ancora Forzano quando andai la prima volta a rivederlo a Garniano nel dicembre del 1943 dopo il principio della tragedia mentre mi raccontava i particolari della sua visita al re del suo arresto di come aveva vissuto dal luglio 1943 alla sua liberazione a un certo momento mi disse mi è venuto varie volte in mente quel vostro discorso sui quattro carabinieri se ne era ricordato grazie Grazie molte per questa analisi dell'utilizzazione del teatro storico nella pedagogia del fascismo una pedagogia che abbiamo visto passa dalla nazione alla stirpe alla razza secondo un itinerario che già in altre relazioni abbiamo visto ma che qui viene appunto arricchito anche degli elementi più specifici più tipici del mezzo di comunicazione teatrale e della retorica che a questo proposito viene messa in atto e credo che a questo ringraziamento per la relazione vada aggiunto verso Paola Salvatori il ringraziamento per l'organizzazione del convegno di tutto il nostro il nostro lavoro passiamo adesso a come c'è stato preannunciato poco fa all'intervento di Pasquale Iaccio dell'Università degli Studi di Salerno che opera il passaggio dal mezzo teatrale al mezzo di comunicazione cinematografico certamente uno dei mezzi lo abbiamo sentito poco fa preferiti nella propaganda e nell'organizzazione del consenso fascista grazie molte io qui vorrei non so dove allora comincio c'è da utilizzare il ecco ma il credo che lo stia lo stia facendo allora intanto io comincio perché ci sono molte cose da dire e francamente vorrei fare una relazione diciamo dopo aver ascoltato per due giorni di riferimenti continui a quello che poi io avevo pensato di fare per il cinema e quindi è stato un convegno molto interessante per me e quindi credo che non rimaneggiare la relazione ma tener conto di una serie di riflessi l'ultima relazione ma quasi tutte hanno una fortissima corrispondenza con quello che era il cinema allora cerchiamo di dire nel breve tempo che ho a disposizione la particolarità del cinema allora il cinema rispetto ad altri strumenti alle mostre alla statuaria ai libri di scuola ha una particolarità che è quella di anche di altri mezzi di comunicazione della cultura di massa che deve avere una che ha un aspetto industriale l'aspetto industriale nel senso che quando si produce un film poi bisogna distribuirlo a dei costi il film diventa il pubblico si impadronisce dell'opera e ne decreta il successo o l'insuccesso la circolazione o non la circolazione se un film va male se il pubblico non lo va a vedere mettiamo Scipione l'Africano di cui poi forse vedremo un paio di minuti eccetera questo film poi non circola più non lo si può esportare all'estero mentre quando si fa una mostra si fa una statua non c'è non c'è necessità di avere questa questa corrispondenza quindi c'è una partecipazione del pubblico che può influire poi sulla sulla ripetizione di uno stereotipo di un genere il pubblico può preferire altre opere altre chiavi di interpretazione e inoltre c'è da fare un altro ragionamento e che solo io direi sulla difficile arte della propaganda che finché si fa un manifesto si fa una statua va bene quello è sono i contenuti che il fascismo o una dittatura vuole vuole veicolare ma quando si fa uno spettacolo cinematografico questo spettacolo deve comunque piacere al pubblico e se è uno spettacolo di propaganda o se la propaganda eccede rispetto alla storia che si racconta il pubblico lo rifiuta perché il pubblico dovrebbe pagare un biglietto per andare a vedere un film in cui c'è c'è un appesantimento di propaganda va a sentirsi direttamente il discorso di Mussolini in una delle tante occasioni per cui fare la propaganda attraverso il cinema è una cosa estremamente difficile questo lo dobbiamo considerare allora vediamo un po' distinguiamo cos'è cos'è il cinema di solito noi quando parliamo di cinema parliamo del cinema di finzione o narrativo che è una storia raccontata al cinema e questo è un aspetto del cinema che ha preso il sopravvento ma esiste un altro tipo di cinema che comincia proprio col fascismo e che è il cine giornalismo o anche il documentario che era il monopolio del luce ora è vero che i film che riguardano il fascismo o che riguardano la propaganda o che riguardano la storia fatta al cinema nei film di finzione sono relativamente pochi anzi sono senza relativamente sono pochi sono poche unità però noi dobbiamo considerare che da subito il fascismo Mussolini sappiamo bene che a proposito della modernità capisce subito l'importanza della radio e del cine giornalismo perché Mussolini era un giornalista per cui capiva bene che cosa significava un messaggio politico quindi da giornalista subito promuove il luce il cine giornale luce supervisiona i cine giornali e quindi li indirizza secondo un proprio obiettivo di propaganda di rappresentazione del fascismo di autorappresentazione per cui noi possiamo studiare ed è stato fatto i cine giornali luce come un corpo unico che parte dai primi anni del fascismo dai tempi del mutuo arriva al sonoro e arriva fino alla seconda guerra mondiale dove si vede la rappresentazione e anche le trasformazioni che si hanno nella figura anche di Mussolini che prima è confuso tra gli altri non è vestito con la divisa ha dei gesti un po' incontrollati poi piano piano si isola si scurisce si eleva gli angoli di ripresa quindi diventa una figura quasi mitica ricordate lo discorso fatto quasi al buio come una divinità eccetera quindi questo è un aspetto del cinema i cine giornali erano dati prima e dopo obbligatoriamente il film di finzione il film narrativo per cui gli italiani che andavano a vedere un film musicale un film americano una commedia dovevano necessariamente poi vedere Mussolini e la rappresentazione del fascismo quindi non aveva non c'era la necessità di andare a vedere il film di propaganda era tanto diffusa questa immagine di Mussolini che se ci pensate bene il famoso film di Charlie Chaplin del 39 il grande dittatore è tutto giocato sulla rappresentazione cine giornalistica di Mussolini e di Hitler se il pubblico anche internazionale non avesse avuto l'immagine dell'incontro di due dittatori che si incontrano in una stazione Charlie Chaplin non avrebbe potuto fare la sua satira politica giocando svisando cambiando alcuni aspetti di questa di questa immagine diciamo fino al 39 poi dopo il 39 il giornale luce viene soppiantato dai documentari tedeschi quando i tedeschi vanno in guerra e questo è un aspetto un'altra un'altra considerazione che dobbiamo fare è che è difficile parlare di un atteggiamento univoco del fascismo rispetto al cinema al cinema di finzione il cinema giornale abbiamo visto che non c'è questo problema perché per metà del periodo il fascismo non si interessa del cinema l'abbiamo sentito prima nella bella relazione della dottoressa Salvadori il fascismo non si interessa del cinema si interessava appunto della radio del giornalismo eccetera e aspetta fino all'inizio degli anni 30 al 31 quando fa una politica generale di organizzazione della cultura e quindi della propaganda e crea le direzioni generali per il teatro per il cinema per il giornalismo eccetera e addirittura poi bastava il regime quello che io definisco il regime delle sovvenzioni cioè la direzione generale promuoveva sovvenzionava poi c'era la normale censura teatrale cinematografica e di altro genere e per cui si prepara ad avere un'organizzazione generale in cui tutti gli strumenti della comunicazione sono poi assoggettati a un disegno unico quindi aspettiamo il 31 il 32 il 33 per avere dei film che hanno delle attinenze col regime non col regime con la storia voluta dal regime in realtà qualche film si era fatto prima per esempio nel 35 c'è un film di Carmine Gallone Tempi del Muto che si chiama Cavalcata Ardente dove c'era stato un automatico adeguamento all'immagine di Mussolini si fa un film su Garibaldi che arriva libera il sud libera Napoli e nelle didascalie si dice camicie rosse che sono molto scure quindi camicie nere duce liberatore il dittatore quindi c'è un automatico adeguamento alla figura Mussolini aveva preso il potere da poco quindi c'è c'è questa ma era una cosa spontanea fatta da un regista come Gallone e anche da altri fino agli anni 30 insomma fino all'inizio degli anni 30 non c'erano diciamo adeguamenti all'ideologia che cambiava anche molto molto rapidamente e per cui non c'era questa necessità di doversi rapportare a qualche cosa il problema comincia quando nel 30 il regime si organizza rilancia il cinema italiano il cinema italiano era quasi decaduto se ne facevano pochissimi di film era una delle cinematografie maggiore e poi era completamente in rovina il regime fa una programma un rilancio del cinema come delle altre attività e quindi ci si pone il problema di come rappresentare se stesso e rappresentare la storia c'è un periodo molto interessante che è quello della Cines diretta da un intellettuale come il Miglio Cecchi che promuove alcuni film di grande interesse uno sulle acciaierie di Walter Ruttman che poi non sarà più ripetuto un tema del genere ma soprattutto per quanto riguarda la storia io cerco di stare in tema ci sono due film interessanti di Blasetti che era il regista più talentoso del periodo e anche un grande teorico uno è Vecchia Guardia e l'altro è quello sul risorgimento 1860 più o meno poi c'era l'altra anima che è quella di Forzano che era anche un regista cinematografico e fa camicia nera quindi si contrapponevano questi due modi di rappresentare il regime e di fare storia naturalmente era molto più interessante quella di di Blasetti però alla fine prevale quella di di Forzano perché perché è molto difficile era molto difficile fare un film sulle origini del fascismo parlando dello squadrismo dove si vedevano italiani contro italiani quindi in periodo di normalizzazione negli anni 30 non era un film molto apprezzato in Germania ma non ebbe diciamo i favori neanche della critica in Italia 1860 che sappiamo forse lo conoscete è un film interessante sui mille dove c'è anche la figura di Garibaldi ma un Garibaldi molto così defilato eccetera Blasetti mette in scena le divisioni degli italiani le varie correnti politiche i dialetti poi alla fine tutto si risolve nella figura di Garibaldi eccetera ma comunque erano film che ponevano dei problemi per cui si si ricorre a una formula che era un po' quella di Gallone del 25 senza diciamo molti accenni politici e si fanno film sull'800 per brevità dico 800 di maniera 800 di altri tempi dove c'è in genere una storia d'amore di due giovani che si amano e poi sullo sfondo c'è la storia la storia vera quindi è una specie di si è parlato di libri di scuola di sussidiari ecco l'aneddoto e così via e io ho portato questo un Garibaldi al convento che è un film degli anni di guerra di De Sica diretto da De Sica dove è una specie di favoletta di commedia dove c'è una vecchia signora che parla con le nipoti e ricostruisce una sua avventura dove un Garibaldino ferito si rifugia nel convento e le ragazze lo salvano e poi questo naturalmente è una favola ecco una favola nostalgia romanticismo epoche passate e così via questa è poi la formula che viene usata col col risorgimento ora per le altre epoche storiche che cosa succede succede che si va a cercare cosa che ho già sentito anche in altre relazioni il genio italico l'italianità antelittera quindi personaggi di un certo di una certa importante Ettore Firamosco Giovanni dalle Bande Nere il pittore rinascimentale qui Forzano fa la sua parte e quindi episodi singoli di una storia di una storia passata e quindi ci sono delle linee comuni che sono quelle di recuperare un passato anche un po' da costruire la costruzione di una tradizione si tenta la costruzione di una tradizione per esempio Giovanni dalle Bande Nere padre della patria si parla di Italia cioè si anticipano concetti che verranno soltanto dopo quindi costruzione di una tradizione il valore dei singoli e poi a un certo punto diciamo nel 35 si cominciano a fare i film sui condottieri abbiamo visto oggi quanti riferimenti ci sono ai condottieri quindi si fa campo di maggio si fa Scipione l'africano nel 37 io questo vorrei farvelo vedere e poi i condottieri di Luis Trenker vediamoci giusto tre minuti di Scipione così ci facciamo così dove sta eccolo qua giusto per darci un'idea no che devo fare eh ho cliccato due volte e noi veniamo a musica di antropa e della margina am di tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non solo diverrete padroni dell'Africa, aderrete Roma, l'intero del mondo. Ragionari, la fortuna vi offre la più bella della ricompensa. Morire per la patria ti sarà così vile da preferire ad un glorioso destino, lonta di cadere nelle mani dell'amico, solo per amore della vita. Ragionari, il vostro grido sia vittoria a morte! Vittoria a morte! E' un'imitazione di Mussolini che imita Mussolini, tanto valeva avere l'originale, se poi questa doveva essere l'imitazione di Mussolini. E' tanto è vero che Mussolini, quando vide questo spettacolo, disse che questo signore qui non avrebbe nemmeno vinto una battaglia con quella faccia così molle che ha. Questo ci indica che Mussolini non aveva né una grande competenza, né anche voce in capitolo, nella realizzazione del cinema. Quindi può essere anche l'affermazione che si preferì la cinematografia, perché il cinema era diventato lo strumento più diffuso, più visto, con più pubblico rispetto al teatro. Quindi il teatro viene sorpassato dal cinema. Ma Mussolini aveva una sensibilità tipicamente teatrale, si aspettava l'opera del fascismo attraverso il teatro di poesia. Non aveva una capacità di controllare il cinema. Per esempio, Francisco Franco, proprio poco tempo dopo, nel 1940, fa uscire un film di cui è lo sceneggiatore e cura la realizzazione di questo film. Un film razzista, razza, affidato a un regista scelto da lui. Quindi c'era un controllo totale dell'opera. Come c'era un controllo totale dell'opera da parte dei nazisti. Il nazismo ha avuto dal primo momento un solo responsabile, che era il dottor Goebbels, fino agli ultimi giorni. In Italia invece questo non c'è stato, ma non solo, ma c'è stata anche un'organizzazione, come dicevo prima, un aspetto industriale, che vedeva la partecipazione di un sistema misto in cui i produttori avevano una grande voce in capitolo. Per cui quando si doveva fare un film bisognava tener conto di varie spinte. Il film Scipione, un film che non funziona, non ha successo, è addirittura controproducente, nonostante sia stato super sovvenzionato con moltissime spese, migliaia di comparse. Cine città che viene usata doveva fare addirittura concorrenza agli americani. Fu un grande insuccesso, quindi anche un insuccesso dal punto di vista propagandistico e per l'industria stessa italiana. L'altro film su cui il fascismo investì molti capitali era Condottieri di Louis Trenger, dove Trenger era un regista tedesco ed era anche l'interprete del film, su Giovanni dalle bande nere, dove c'era lo stesso discorso, cioè c'era una similitudine molto stretta fra il protagonista e il fascismo, quindi il giuramento, il concetto di patria, la fedeltà, c'è perfino una specie di riproduzione di una marcia su Roma, le divise, le marce e così via. Quindi c'è anche lì una riproduzione. Anche questo film non ha un grande successo. Perfino sulla stampa, per esempio ho trovato delle critiche di un giovane Alfonso Gatto che scriveva sul Bargello, dove si criticavano i film sui condottieri, a favore invece di altro genere cinematografico come le commedie di Camerini, oppure di un altro filone che aveva un'attinenza con il fascismo e la storia, che probabilmente è il filone più serio, più importante, che ha dei migliori risultati, che è il filone africano. Si fanno una decina di film sulla conquista dell'Africa, Sentinelle di bronzo, Il grande appello, Squadrone bianco, qui ho una... a proposito possiamo usarle per le iconografie che faremo, eccetera. E questo apre anche un capitolo sul cinema di carta, cioè gli spettatori si portavano a casa poi un prodotto di... E questo c'è Il squadrone bianco di Augusto Genin, premiato con la massima onoreficenza Coppa Mussolini e la mostra di Venezia. Quindi, ecco, questi sono dei film, si fanno una decina di film sull'Africa, che sono film fatti abbastanza bene perché sono fatti con una tecnica semidocumentaristica. Quando si parlava prima del deserto, delle luci, del bianco e nero, dell'Africa, degli spazi, ecco, qui molti giovani registi si esercitano su questa... su questa nuova conquista dell'Africa. L'Africa poi aveva cinematograficamente un grande pregio che era quello di rigenerare, diciamo, i giovani italiani che si erano lasciati sedurre dalle conquiste della borghesia. Quindi si andava in Africa, ci si metteva alla prova e questo era il risultato. Purtroppo, per il cinema italiano, il naufragio di Scipione compromise anche gli sforzi di questi autori che avevano anche fatto dei film interessanti. E l'Italia, il cinema italiano, arriva con ritardo anche su altri temi. arriva con ritardo alla Seconda Guerra Mondiale. Ma soprattutto c'è un vuoto che sembra inspiegabile. In Italia non fu mai prodotto, non fu mai girato un film sulle leggi razziali. Non esiste in Italia un film sulle leggi razziali. Nel 40 circolavano in Italia a film tedeschi doppiati in italiano sulle leggi razziali. Circolava Rothschild, circolava il famigerato Schuss l'Ebreo, Jude Schuss, film che poi è stato vietato dopo la guerra perché era un incitamento alle lotte razziali. Circolava il film di Francisco Franco, ma gli italiani non fecero un film su questi temi, nonostante poi la campagna razziale sulla stampa e sulla difesa della razza abbiamo visto quanto era feroce, quanto era netta. E furono scritti dei soggetti anche delle sceneggiature, proprio da quel Telesio Interlandi che era il direttore della difesa della razza. Furono scritti almeno due soggetti e una sceneggiatura quasi ultimata che per volere del Minculpop non fu realizzata. Perché questo? Perché il regime si rese conto che trattare la storia, trattare argomenti di questa valenza ideologica era molto pericoloso e anche molto difficile. Per cui tese a fare un altro tipo di ragionamento. La guerra deve essere qualcosa, un dato rifatto, qualcosa di lontano. Non si cerca di spiegarne le ragioni. Nessun film italiano voi trovate come nei film americani di Frank Alpra, perché combattiamo? C'è la guerra. I soldati italiani sono come dei bambini che devono obbedire, per esempio, uomini sul fondo. Sono dei valorosi marinai che affrontano le difficoltà. Ecco, questi sono... è un po' lo schema che si... la guerra lontana, rassicurare, non spiegare, e questo perfino durante la Repubblica di Salò si cercò di dare questa idea. Per cui era difficile, era impossibile, era molto pericoloso andare a toccare argomenti di grandissima spessore ideologico come la persecuzione degli ebrei. L'unica cosa che si fece, e qui Forzano ce leva, fu di usare quello che il censore teatrale chiamava i trucchi. Cioè, in una storia ambientata in qualsiasi epoca, il personaggio odioso, diciamo lo strozzino, lo si faceva caratterizzare con i caratteri dell'ebreo. Ecco, questo lo si faceva sia al cinema che al teatro. Questo fu il massimo dell'impegno che usarono gli autori italiani, sia nel cinema che nel teatro, per fare questo tipo di rappresentazione. Il successo, l'insuccesso di Scipione, lo possiamo spiegare anche dal punto di vista strettamente cinematografico. Noi sappiamo che il cinema italiano durante il periodo del muto fu una delle cinematografie più forti più diffuse al mondo, Cabiria e tutti le centinaia di film che furono esportati in tutto il mondo e anche in America, fecero anche la fortuna del circuito americano, perché erano molto curati. Si giravano spesso anche nei film sull'antica Roma, nei siti archeologici, la scenografia era molto curata e poi erano dei pirodrammi, cioè la caduta di Troia, l'incendio di Roma, gli ultimi giorni di Pompei, quindi erano anche molto spettacolari. Fare un film nel 1937, dopo che c'era stata la prima guerra mondiale, c'erano stati film pacifisti, diciamo, contro la guerra, che in Italia non arrivavano, l'Ovest niente di nuovo, dopo che c'erano stati film sull'aviazione, film sulla marina, rifare un film spettacolare, con una battaglia di elefanti, francamente era piuttosto incongruo, quindi anche dal punto di vista spettacolare, il film non funzionò. Quali erano allora i film di carattere storico che circolavano di più? Circolavano di più i film i film d'opera, i film sull'Ottocento di Maniera, i film su Giuseppe Verdi, i film di Carmine Gallone, Carmine Gallone era un grande regista di mestiere che inventò una formula che era quella dell'accoppiamento delle immagini con la musica. E il melodramma italiano si prestava moltissimo a ricostruire delle biografie di grandi cantanti, compositori e così via. Quindi la capacità evocativa della musica aiutava molto questo tipo di cinematografia. che problemi c'erano? Questi film si proiettavano e si esportavano, quindi dal punto di vista della produzione erano un grande successo, ma indispettivano i vertici del Ministero della Cultura Popolare, indispettivano Freddi, perché il fascismo aveva cercato in tutti i modi, anche attraverso il cinema, attraverso il documentario, di cambiare lo stereotipo degli italiani, dell'italiano canterino, romantico, melodrammatico, mandolinesco e così via. E alla fine quello che veniva propagandato, che circolava maggiormente, era proprio questo stereotipo che arrivava anche all'estero nell'orbita dell'asse. I tedeschi apprezzavano molto questi film musicali. Adesso vorrei farvi vedere una cosa che forse noi non ci aspetteremmo per dirvi che il cinema italiano per riempire diciamo le sale cinematografiche quando dal 38 gli americani si ritirarono ritirarono la maggior parte delle loro opere dal circuito italiano dovette dar fondo a tutto raschiare il fondo del barile quindi si riproposero si andarono a prendere le commedie veriste dell'ottocento si fecero dei film non solo dei telefoni bianchi ma anche dei film proprio delle commediole farsesche eccetera questi film erano tra l'altro prodotti dalla scalera film la scalera film era la massima divenne la massima casa di produzione italiana ed era dei fratelli scalera che sappiamo erano quei grandi costruttori delle strade dell'impero quindi che avevano fatto soldi costruendo tutta la via della vittoria e così via e che Mussolini invitò a buttarsi nel settore cinematografico per riempire questo vuoto e ovviamente essendo un sistema misto ci guadagnavano molto perché avevano pochissima concorrenza non c'erano più i film stranieri quindi si vanno a prendere si vanno a fare film di ogni genere quindi si fanno film divagativi la maggior parte di questi film durante la guerra non parla della guerra si fanno sì ho finito 5 minuti ma farò anche prima si fanno film di questo genere e adesso vi faccio vedere una cosa che è assolutamente inimmaginabile vediamo un po' ecco qui vediamo se la indovinate che cos'è questo film è fatto nel 40 che cos'è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.